Bene, signori, buongiorno, l'udienza è aperta, ci siamo tutti, l'imputato è assistito dall'avvocato Bevacqua, anche in sostituzione dell'avvocato Fioravano, benissimo. Presidente, il PM intenderebbe sentire l'ultimo test che è il maresciallo Minoliti, dopodiché sono oggi presenti i periti dell'Università di Modena, all'Istituto di Medicina Legale, che hanno provveduto a fare quella perizia che è in atti, relativa alla ricostruzione della dinamica in epoca antecedente all'imputazione a carico del pacciante. Benissimo. Allora sentiamo il maresciallo Minoliti. Maresciallo, buongiorno, si accomodi. Lei l'ha già stato sentito, vero? No, preso. No, nell'ambito, noi lo vediamo sempre. E allora, le generalità e poi la formula magica. Sturo? Da leggere. Maresciallo Minoliti Arturo, comandante della stazione di San Casciano Valdipesa, Firenze. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo. Allora, rispondo per cortesia alle domande del Pubblico Ministero. Presidente, così per chiarezza e per metodo, volevo riassumere alla Corte che al maresciallo Minoliti, essendo l'ultimo test del PM come Polizia Giudiziaria, avendo fatto parte, maresciallo Minoliti, delle indagini come componente carabinieri e all'interno dell'ESAM, farò delle domande su argomenti vari che sono già stati trattati per completezza. Le domande sono diverse. Se dicevo la prima è questa, se il maresciallo Minoliti si ricorda di aver fatto accertamenti anagrafici sulle vicende appunto anagrafiche della signora Sperduto Maria Antonia, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di questa signora dalla via Chiantigiana a via Faltignano e da lì a dove è andata, mi sembra, Poggi Bonzi, in che epoca, perché alcuni testi ci hanno raccontato movimenti di questa signora a seguito prima della morte del marito e altre vicissitudini, mi sembra importante focalizzare, se lei l'ha fatto, attraverso le vicende anagrafiche per quanto riguarda la via di Faltignano, quando ci andò a abitare e da quando si trasferì altrove. Se lei ha dei documenti... Vogliamo dire da quando presta servizio a San Casciano e da quanto si occupa di questa indagina prima? Certo, è vero, lo avevo dato erroneamente per scontato. Allora, mi sono interessato delle indagini dal 91, perché io sono giunto a San Casciano, quale comandante di stazione, esattamente il 25 aprile 1991. E precedentemente alla scarcerazione del Pacciano e Pietro, siccome dovevano essere attuate degli accertamenti e delle attività di polizia giudiziaria, venne contattato dal dottor Perugini, che mi mise al corrente di quanto naturalmente doveva poi successivamente accadere, cioè successivamente alla scarcerazione del Pacciano. Le indagini che intendevano fare. Prima del suo trasferimento a San Casciano si era mai occupato di queste indagini, lei? Sì, mi era occupato, perché dal giugno dell'82 fino al 25 aprile 1991, prestavo servizio quale sotto ufficiale in sottordine nella stazione di Scandicci, ragion per cui mi sono interessato di tutte quelle attività di indagine che venivano di volta in volta disposte dall'autorità giudiziaria in merito ai duplici omicidi. Bene, allora torniamo alle vicende anagrafiche della signora Sperduto Maria Antonia. Allora, la signora Sperduto Maria Antonia, come risulta dal cartellino rilevato verso l'ufficio del comune di San Casciano, Val di Pesa, si è trasferita anagraficamente il via Faltignano numero 5A esattamente in data 3012-1980. Quindi, mi scusi, per focalizzare poco dopo la morte del marito? Esattamente, perché la morte del marito risale al 24 dicembre del 1980. Quindi pochi giorni dopo si trasferisce in via Faltignano? Anagraficamente sì. Bene, quanto rimane in questa... Successivamente lei si trasferisce per il comune di Poggi-Bonsi in data 6 luglio del 1983. 83. Quindi nell'85, omicidio del 1985, almeno anagraficamente, la signora Sperduto non abita più in via di Faltignano? Esatto. Ha qui lei con sé i documenti dell'anagrafe? Ho qui i cartellini originali dell'anagrafe del comune di San Casciano, Val di Pesa, di cui ho anche copia... Ecco, io chiedo poi che sia acquisito agli atti, perché è un documento, mi sembra importante, ai fini ovviamente di questo solo punto. Passando ad un altro argomento, vorrei chiederle questo. Lei si è occupato sia delle perquisizioni a carico del Pacciani sia delle indagini insieme alla SAM. Sì. Ecco, un teste recentissimamente ci ha detto di aver visto Pacciani su un'auto che gli è sembrata la 100, una 132 mi sembra abbia detto. Cioè una persona che gli è sembrata Pacciani. Sì, sì, certo, chiedo scusa, una persona che assomigliava o almeno a lui. Lei ha mai accertato se Pacciani ha posseduto auto di questo genere? Sì, abbiamo fatto degli accertamenti, ma non risulta un'autovettura di quel tipo che mi dici. Per caso, fra le persone che nel corso del processo, amici o conoscenti del Pacciani, sono stati, per così dire, sottoposti ad accertamenti, c'è qualcuno che risulta, dalle vostre indagini già fatte, ovviamente, che possedesse un'auto simile alla 132 o un'auto uguale? Sì, in effetti abbiamo una persona, ed esattamente il signor Faggi Giovanni, Che voi avete perquisito, fra l'altro. Che è stato sottoposto a perquisizione, il quale nel periodo andante, dal 14 gennaio 83 fino al 30 dicembre del 92, ha posseduto un'autovettura Fiat Argenta di colore grigio metallizzato. Fu accertato all'epoca che Targa aveva quest'auto? Sì, esattamente, nel corso della perquisizione che fu effettuata nei suoi confronti, la stessa fu estesa anche all'autovettura, come di prassi, nell'operazione di... Era una Fiat Argenta. Era una Fiat Argenta. Io non sono molto pratico. D'Argiano, maresciallo, scusi? Esattamente, Presidente, dal 14 gennaio 83 al 30 dicembre del 92. C'è il documento del Praha? Abbiamo il documento che, praticamente, attraverso l'interrogazione della Banca Dati Forze di Polizia... Allora possiamo fornire anche questo. Chiediamo che sia acquisita anche questo. Dicevo una cosa, maresciallo. L'Argenta è un'auto che è il modello della 131-132? E' un modello che si può confondere abbastanza facilmente, ritengo, per una persona che non sia molto esperta in autovetture. Con la 131-132, auto di questo tipo. Era una macchina ibrida che aveva elementi, ricordo, della 132, specie alla fiancata, una macchina fallita. Sì, 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 sì. Modello, ma che... Posso aggiungere che è una macchina di grossa cilindrata. La 132. È una tre volumi. È una tre volumi, esatto. Bene, grazie. Un'altra cosa ancora, saltando ovviamente sono accertamenti che lei ha fatto nel tempo e quindi io le chiedo i risultati. Quando la Corte si recò al bivio fra via di Faltignano e via di Scopeti, nel sopralluogo, si ebbe l'impressione che quel bivio, c'era anche lei se non sbaglio, fosse stato spostato almeno apparentemente alla segnaletica. Mi sembra che lei fu incaricato di fare qualche accertamento proprio dal Presidente sul posto. Lei ricorda gli esiti di questi accertamenti? Sì, ricordo esattamente gli esiti di questi accertamenti anche se non è stato possibile documentarli, ma ci siamo dovuti avvalere di quello che ci è stato riferito dal Comando Locale dei Vigili Urbani di San Casciano e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Casciano. La posizione del segnale di arresto orizzontale, cioè lo stop, cioè quella che è stata rilevata nel corso del sopralluogo da parte della Corte, effettivamente è più avanzata rispetto alla posizione originaria che si aveva tempo addietro. Questo tipo di cambiamento di segnalazione è stato effettuato nel corrente anno a seguito di una serie di lavori di ripristino e di aggiustamento della segnaletica stradale su tutto il Comune di San Casciano-Val di Pese. Quindi di questo tipo di accertamento non è possibile ottenere documentazione? Non c'è documentazione, assolutamente. Ancora un altro argomento. Quando era in atto l'intercettazione ambientale nell'abitazione del Pacciani, noi sappiamo che una certa sera, abbiamo saputo nella ricostruzione fatta da altri testi, la signora Manni rientrava da un interrogatorio come persona informata sui fatti presso l'ufficio del PM a Firenze e rientrata a casa ci fu una sorta, noi non sappiamo perché in casa non c'era nessuno, almeno per quello che ci hanno raccontato, c'è solo l'intercettazione ambientale, di litigio moglie e marito. Lei a seguito di questo litigio fu informato dai colleghi che facevano l'intercettazione ambientale, fece qualcosa, ne sa qualcosa del motivo o cosa successe dopo il litigio? Sì, esattamente. Io quella sera, anzi posso aggiungere che personalmente accompagnai la signora Mandina Giolina presso gli uffici della Procura per essere interrogati. Ricorda che giorno era? Era il 19 maggio dell'anno 1992. Quindi dopo la cosiddetta maxiperquisizione, qualche giorno dopo? Esattamente. E successivamente Providi aveva accompagnato la casa, fece rientro alla stazione e all'incirca verso le 21.30 fu informato da colleghi che si trovavano verso la base dove c'era tutta la strumentazione per l'intercettazione ambientale che in casa Pacciani era incosso un diverbio fra la Manne Angiolina e Pacciani Pietro. A seguito di questo diverbio verosimilmente si era divenuti a via di fatto, tanto che la Manne Angiolina era scappata di casa. Io non ritenne all'epoca di intervenire in quanto altrimenti avevamo fatto scoprire che eravamo a corrente di quando avveniva in casa Pacciani. Però successivamente io fui interessato dalla signora Ninci Lucia, presso di cui la signora Manne Angiolina si rivolse per cercare aiuto, che mi avvertì telefonicamente perché aveva dei problemi con la guardia medica. Cioè, scusi, problemi in che senso? Problemi perché siccome la Manne Angiolina accusava di aver ricevuto delle percosse dal Manne Angiolina, chiese a me di intervenire affinché la guardia medica si portasse in Mercadale per far visitare la... Perché l'aveva già contattata questa signora e non era andata? Non lo sa. Non era andata subito perché la guardia medica aveva probabilmente dei problemi. Quindi lei intervenne su sollecitazione di questa signora, non che fu lei a mandare la guardia medica di sua iniziativa. No, no, assolutamente no. Fu la signora, questa vicina, presso cui la Manne si era rifugiata, a chiedere la sua collaborazione per interno. Esatto, esatto. Per chiedere perché la signora Manne Angiolina era poi in evidente strada di agitazione. Così dicevano loro. Così dicevano. Lei la vide? Io no. Io non intervenne subito perché preferì, in quella circostanza, far sì che le cose andassero per il loro verso. Perché lei non voleva far scoprire l'intercettazione. Esattamente. Però rimasi in contatto con la signora Aninci e la pregai naturalmente anche nel corso della notte, se si fossero verificate altre situazioni. Perché la Manne rimase a casa di questa signora. No, la Manne dopo andò a casa della figlia Rosanna, però nel caso che ci fossero stati dei problemi di avvisarmi telefonicamente e richiedere il mio intervento laddove necessario. Lei sa se la signora Manne successivamente si è lamentata per quell'episodio, se è stato fatto un rapporto alla procura circondariale per quel fatto? Ricordo che, siccome la mia abitudine, a seguito della max perquisizione, mi portavo molto spesso in mercatale per poter naturalmente contattare più persone, per cercare di assumere più informazioni possibili sulla vicenda per cui si stava indagando. E quella mattina incontrai la Manne Angiolina con la figlia Rosanna in piazza e, rivolgendomi a lei, le chiesi come stava, se c'erano problemi. Mi disse la Manne appunto dell'episodio che era capitato la sera precedente. Io la invitai a proporre nei termini di legge querela. Se aveva intenzione. Se aveva intenzione di proporre querela. Lei mi disse che non aveva questa intenzione, facendomi chiaramente capire che aveva timore per altre ripercussioni che si potevano verificare in suo danno. Lei è... Prego, prego. Prego, prego. Comunque, siccome mi fu ricapitato dalla guardia medica... D'ufficio. D'ufficio. Come sempre avviene la guardia... I referti che vengono inviati. Esatto. Fece la notizia di viato interessando la procura della Repubblica verso l'apertura circondariale di Fieri. Lei non ebbe atti di querela. Non diceva mai atti di querela. Benissimo. Ancora un argomento, è questo. Lei ricorda dopo la scarcerazione del Pacciani, se non sbaglio la data, siamo al 6 dicembre 1991, o prima o dopo di essere stato a casa Pacciani, di aver visto i luoghi, ovviamente esclusivamente come ricordo suo, se ha fatto delle annotazioni. A me interessa sapere se lei per caso ha fatto annotazione o ha visto il giardino, l'orto del Pacciani, via Sonnino, perché se a quelle date lì lei può aver visto o meno se c'era una acacia nel giardino. Mi riferisco a se lei ci è andato in date immediatamente successive o prima alla scarcerazione del Pacciani. Noi abbiamo dei filmati che ci fanno vedere come nel 1990 c'è una pianta vicino a un abete che sembra una acacia e successivamente no. Lei ha fatto annotazioni sul punto per quanto riguarda una data diversa, cioè le date immediatamente successive alla scarcerazione. Esattamente. Ricordo che il mio intervento, di cui feci un'annotazione, risale al 12 dicembre dell'anno 1991. Esattamente 12 dicembre dell'anno 1991. Quindi qualche giorno dopo. Sei giorni dopo la scarcerazione del Pacciani. Questo mio intervento era dovuto al fatto che, essendo in atto le intercettazioni, si sentivano dei rumori nell'abitazione. Quindi come d'accordo con... Rumori che disturbavano l'intercettazione. No, non è che disturbavano, dei rumori. Dei rumori che... Non riuscivate a identificare. Non si riuscivano a identificare. Per cui mi fu detto, erano così gli accordi presi anche con il dottor Perugini, di verificare quando c'era la necessità di più o meno di che cosa stava avvenendo. Io, siccome nella circostanza avevo anche degli atti da notificare al signor Pacciani... Approfittò dell'occasione. Approfittò della circostanza, però, sempre per non far trasparire che noi eravamo a corrente di quando avveniva in via Sollino, siccome il Pacciani, anagraficamente, effettivamente, era sempre domiciliato in piazza del Popolo, io mi portai prima in piazza del Popolo... Pur se sapeva che era in via Sollino. Pur se sapevo che l'egisodio provvede a lasciare l'autovettura con il sotto ufficiale dipendente davanti allo scivolo dell'abitazione del Pacciani, dopodiché chiesi alla signora Manni Angiolina che mi ricevette... In piazza del Popolo. Ecco, di notificare un atto al marito. La signora Manni mi disse che il marito si trovava in via Sollino... Era da solo in via Sollino, lui era da solo in via Sollino che stava effettuando dei lavori. E lei invece abitava in piazza del Popolo, la donna. Io mi portai quindi in via Sollino con la moglie, Manni Angiolina, e il marito effettivamente era al civico 28 di via Sollino e stava effettuando dei lavori, tant'è che della notazione io faccio una descrizione... Lavori in casa? Dei lavori in casa. Tant'è che io faccio una notazione descrivendo dettagliatamente l'ambiente in cui fu trovato... E meno male, perché oggi ci serve questa... Dopodiché, siccome sapevo anche della disponibilità dell'altra abitazione, quella del civico 30, per capirci, quella che si trova dopo il cancelletto con il piccolo vervidoio che mette nell'orto... Io, discorrendo con il Pacciani, che non mi conosceva, era la prima volta che mi vedeva, di chiesi così varie cose sul suo stato di salute, come stava e come non stava... Faceva parte dei suoi doveri di controllare l'ex detenuto? Esattamente, e quindi facemmo anche un giro nell'orto, dopodiché lui mi fece vedere anche l'altra casa, il civico numero 30. E nell'orto, quindi, feci, sebbene la stagione era quella che era, dicembre, dissi che aveva un bel ambiente dove poteva dedicarsi alle sue varie cose perché lui mi diceva che era un agricoltore. Lei ricorda di aver visto innanzitutto, vicino a quella bete, se c'era un albero di acacia? No, assolutamente. Se in altri luoghi, specialmente all'inizio, all'entrata, dove ci sono quelle tegole, noi abbiamo visto, se c'erano acacia? No, cioè, premetto che io non sono... Un esperto. Un esperto, per cui, però, tranne gli alberi da frutto che poi ho avuto modo di vedere anche se... Erano senza foglie, ovviamente. Erano senza foglie, ovviamente. Fatti eccezione del pino che si trovava proprio alla destra entrando nell'orto, non c'erano praticamente altro tipo di alberi. Vide o ebbe modo di notare se erano state fatte... Beh, se lei è andato lì il 12, lui è stato scarcerato il 6, delle apparenti buche per togliere qualcosa che dava noia? Assolutamente no, perché io mi preoccupai anche di vedere lo stato dei luoghi e di fissarlo, per mia memoria, perché sapevo, ero ben conscio, che successivamente avrei avuto modo di tornare, avrei avuto necessità di tornare in quei luoghi e quindi dovevo verificare se qualcosa era cambiato. Senta una cosa, lei sa, come componente dell'esame, che successivamente, nel gennaio-febbraio, due agenti della Criminal Poll di Roma, che erano in un appartamento che si trova in fondo all'orto, notarono Pacciani e fecero delle foto, che ora sono state acquisite dalla Corte, dove lui stava scavando. Apparentemente, dalle foto, si vede che è vicino alle tegole. Lei sa dirci questo punto, dove lui era? Che distanza ha dal Pino, per intendersi? Sì, esattamente, la distanza all'incirca è sui tre metri, tre metri e mezzo. Così a occhio, ovviamente. Ovviamente a occhio. Le tegole si trovavano posizionate sotto una piccola finestra del civico numero 28 di via Sonnese. Presidente, la Corte aveva disposto di acquisire le foto relative a quell'accertamento fatto da quei funzionari della Polizia Criminal Poll quando fecero quelle relazioni di cui ci hanno parlato, cioè quando il Pacciani stava facendo, secondo quello che hanno raccontato loro delle buche, in quel punto vicino alle tegole, il fascicolo fotografico e qua lo metto a disposizione della Corte, sono foto fatte col teleobiettivo, quindi tutti i problemi delle distanze le vedranno da loro. Fra l'altro, come aveva richiesto, sono state estratte invece dal filmato video del 90, che loro hanno già visto, le foto relative alla caccia, che era presente effettivamente e abbiamo visto nel 1990 nell'altro luogo. Sono qua, ora saranno depositi. Sì, 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 certo. Abbiamo disposto anche la posizione di tutti i fascicoli fotografici. Certo, certo. Ora, questi approfittavo perché si tratta proprio di quell'argomento. Ancora una domanda, Maresciallo. Lei ricorda quando e come, ricorda qualcosa sul momento in cui fu sequestrato a Pacciani il blocco Schizzen? Intendo dire, lei l'ha visto quando fu visto la prima volta da lei, quando fu invece sequestrato? Al momento del sequestro il Pacciani disse qualcosa. Ecco, sa qualcosa di questi episodi o non se ne è occupato lei? No, io alle perquisizioni ho partecipato sia a quella maxi perquisizione cosiddetta e sia alla successiva. Allora, ho avuto modo di vedere questo blocco di disegno una prima volta durante la maxi perquisizione. Lei l'ha visto la prima volta nella maxi perquisizione quando non fu preso? Non fu preso, non conosco il motivo, fu vagliato naturalmente da altro personale, dal dottor Perugini. Dal funzionario più alto in grado? Esatto. Successivamente nella perquisizione invece del 2 giugno... Così, lei lo vide dove era, come era, ebbe modo di vederlo quella prima volta o no? Allora, ricordo che quando fu, ebbe modo di vederlo, era insieme a un plico all'interno del quale vi erano tutti i libretti, tutti i buoni fruttiferi, cioè tutto quello che interessava l'aspetto patrimoniale del Pacciani. Cioè era conservato insieme ai valori, per intenzione. Esatto, insieme ai valori. Poi successivamente... E lei quindi questo blocco non ebbe modo di vedere se c'erano scritte dentro? Assolutamente. Lei non l'ha vista? Assolutamente. Quindi non ci sa dire niente se in quella prima volta il blocco era con degli appunti dentro o meno? Lei non l'ha vista? No, ero nello stesso ambiente dove si effettuava quella perquisizione. Pacciani si accorse che veniva guardato il blocco e questi valori erano presenti? I valori sì, senz'altro, perché mi ricordo che lui disse che si trattava di risparmi, naturalmente che lui aveva... E il blocco era insieme ai valori? E il blocco era insieme ai valori. Lui si accorse che guardavate questa roba? Penso proprio di sì, perché erano tutti insieme, quindi... In un'unica busta. Veniva invitato, signor Pacciani, a stare sempre vicino a noi per rilevare personalmente tutte le cose che venivano prelevate nel corso dell'appunti. Il blocco però non fu preso, non si ritenne da parte di chi dirigeva l'operazione di sequestrare. Successivamente invece nella perquisizione del 2 giugno, rammento che esaminando, sottoponendo a perquisizione il locale di Bito Assolottino, che si trova a sinistra, entrando nel civico numero 30, fu rinvenuto ed esattamente fu sottoposto al valore del dottor Pierigini, un piccolo dizionaretto tascabile di lingua italiana o tedesca e poi successivamente delle fotografie, delle fotografie formato a fisarmonica. Che fotografie erano, ricorda? Di fotografie di paesaggi stranieri, ritengo austriaci o tedeschi. Ora, io non le ho viste particolarmente, ho visto soltanto queste fotografie, venivano aperte, erano del tipo a fisarmonica. Ha visto l'oggetto. E io, continuando naturalmente la mia operazione che stavo eseguendo su un mobile, che si trovava sulla parete opposta rispetto all'ingresso nell'ambiente sottoposto alla perquisizione, al margine destro, c'era un mobile e avevo appena finito di esaminare, ricordo che c'era un grosso vaso con all'interno dei ceci, ricordo il particolare perché sotto questo vaso c'era una busta di cello fan del tipo da spesa ma non del tipo rigido, all'interno di quei sacchetti di nylon, per l'esattezza, e c'era naturalmente del materiale cartaceo fra cui questo blocco schizzi. Ora, siccome era stato poco prima ritrovato il dizionario con le fotografie che riguardavano un paese straniero, quindi tedesco, il dizionario, il paesaggio austriaco o tedesco, le fotografie, io ho lessi sul blocco schizzi, non conosco la lingua tedesca, ma chiaramente... Ebbe la sensazione che si trattasse. ...mi ritenni che la cosa naturalmente poteva essere interessante. Cominciai ad aprire e vedi che alcuni fogli erano scritti. scritti in italiano però? scritti in italiano, anzi ricordo che erano scritti, se non vado errato, su tutte e due le parti, sia nella parte normale in cui si apre, sia che nella parte opposta, in maniera capovolta. Non vorrei risparmi, ma mi sembra che sia questo. Lo sottoposi al vaglio del dottor Perugini e ricordo che nella circostanza, allora quando naturalmente il dottor Perugini, insieme a me, cominciò a valutare questo blocco schizzi, c'era sempre il signor Pacciani che era vicino, il quale disse che praticamente si trattava di appunti da lui fatti per dei lavori fatti in casa, acquisto di materiale ed altro che aveva fatto tempo addietro. Quindi, per capirsi, quel blocco schizzi era su un mobile nel 1992 e lui vi fa notare che ci sono appunti che poi abbiamo visto sono quelli dell'80? No, è così? Sì, avvocato. Eh, sì, scusi. Le chiedo, no, le chiedo, fu Pacciani che... Scusate il 62 del codice di procedura penale. Abbiamo già finito, perché ci ricordiamo ora il 62, ci eravamo distratti. C'è il 62, quindi ci fermiamo su... Sì, ma io vi lascio un pochino di... Bene, bene, Presidente. Ma non esageriamo, eh. Fu sequestrato in quell'occasione il blocco, allora? Sì. Benissimo. Io, per il momento, anzi, non ho altre domande, grazie. Signori avvocati di parte civile, avete domande al maresciallo? Avvocato Colau. Ricciallo, scusi, ritornando al bivio degli Scopeti con via di Faltignano, dove la Corte si recò per esaminare lo stato dei luoghi. Lei ha riferito che lo stop, per quanto gli hanno detto i vigili urbani, fu avanzato rispetto al precedente che era più arretrato. Lo abbiamo visto tutti, no? Sì, bene. Ma è stata accertata o è stata allargata anche la strada? La strada di Faltignano. Cioè, se è stata, sì, di via di Faltignano, se fu una necessità conseguente allo sbancamento, perché abbiamo visto, ecco... Allora, la posizione di quell'incrocio, come hanno potuto notare, è abbastanza problematica. Infatti, in quel punto avvengono molti sinistri stradali, non tanto fra le autovetture che percorrono la via Faltignano per portarsi a Spedaletto, con quelli che provengono da via Scopeti, ma tanto quanto per quelli che provengono da Spedaletto, diretto verso via di Faltignano, con l'incrocio con Spedaletto. Questo perché, originariamente, il tratto, naturalmente, di terreno che si trova di fronte allo stop, sembrerebbe che, purtroppo non è stato possibile accettare al momento, perché sono degli accettamenti molto lunghi da fare, bisogna vedere accettamenti catastrati, che il tempo non ha concesso a me di poterli operare, sembrerebbe che quello spicchio, quello spigolo, fosse leggermente avanzato rispetto alla situazione attuale, per cui il tratto di strada che da Faltignano porta a Spedaletto formava maggiormente, probabilmente, un angolo retto per chi proseguiva su quel tratto di strada. Grazie. Senta, lei, fece degli accertamenti in ordine a una fattura di 90.000 lire per riparazione auto da un certo Gianni, che era stata riferita dall'imputato? Sì, ricordo questa circostanza. In effetti si tratta di questo. E di che epoca è? Dunque, la testimonianza, avvocato? Sì, questo accertamento che le fece. Se posso vedere, c'ho il verbale. Guardi pure. Le posso dire? Allora, l'accertamento fu dell'8 luglio del 92. Ricordo la circostanza, in quanto noi ci portammo presso il Gianni, che è titolare di un'autofficina e concessionaria Ford posta in Mercatale, per l'esattezza all'inizio proprio di Mercatale. Ciò si vese necessario, in quanto il Pacciani, in epoche diverse, ha fatto delle dichiarazioni. Prima i carabinieri, nell'anno 1985, cioè successivamente all'evento delittuoso di Via Scopera, allorché dichiarò di essere stato alla festa dell'unità a Cebaia che quella sera, ritornando a casa, lui aveva avuto dei problemi alla sua autovettura e quindi si era avvalso dell'aiuto di tale... Quella sera quando? La domenica sera. Si era avvalso dell'aiuto di tale Fantoni Marcello, persona a lui conosciuta perché abitava nei pressi della sua abitazione, per verificare il tipo di guasto che aveva la macchina. Preciso che il Fantoni praticamente svolge attività di meccanico presso un'autofficina di San Cacciano. Successivamente, in quella circostanza, in quel verbale, il Pacciani dichiarò che lui aveva spinto l'audotto. Mi dispiace, non può deporre sulle dichiarazioni rese dall'imputato. Abbiamo pazienza. Comunque, qui parlava dell'accertamento in sé. Ma corrispose, scusi, la mia domanda è questa. Il prezzo di 90.000 lire corrispondeva o no? L'aveva spesa queste 90.000 lire? Assolutamente, perché abbiamo verificato che Gianni aveva tutte le fatture che risalevano a quel periodo, perché generalmente le fatture vengono vissute dopo dieci anni. Non c'è alcun riscontro che possa avvalorare questo tipo di lavoro, di prestazione effettuata sull'autovettura del signor Pacciano. Posso anche aggiungere che Gianni riferiva che per sua abitudine è solito riparare le autovetture molto velocemente, perché non ha grossa disponibilità di spazio nella sua autofficina, per cui ha necessità di sgomberare subito l'aria che gli sempre per esercitare la sua attività. A differenza di quello che diceva... Non fu riparata, non ci fu nessuna riparazione da parte di questo meccanico per i guasti che erano stati riferiti. Un'ultima cosa, scusi. Dunque, nella perquisizione che lei effettuò, se non sbaglio, furono sequestrati anche due rasoi brown di marca tedesca, rasoi elettrici. Lei si ricorda di questo particolare? Sì, mi ricordo di questo particolare perché furono... Sono in sequestra, sono due rasoi elettrici. Due rasoi elettrici, sì. Di uso normale. Ricordo di questa circostanza, tant'è vero che si chiese al signor Pacciani come mai due rasoi elettrici, in quanto lui asseriva sempre che si radeva con la normale lametta. Lui asserì che uno l'aveva acquistato e l'altro non sapeva... Per la provenienza non fu accertata, via? Uno disse che l'aveva acquistato, non seppe riferire il luogo, quindi non si poteva effettuare alcun tipo di accertamento per verificare la circostanza. Dell'altro non sempre divene nulla. Senta, come si radeva? Lei ebbe modo di sapere se li usava questi rasoi? I rasoi elettrici, dico. Ma, stando a quello che diceva, lui si radeva normalmente con la lametta. Senta, scusi, un'altra cosa. Lei, quando ha effettuato queste perquisizioni, notò nel periodo dall'8 maggio al 2 giugno, vale a dire quando ci furono i rilievi ambientali, che ci furono tracce di sfregamenti sul pavimento della cucina di casa Pacciani. Sì, effettivamente, come ho già detto prima, mi sono portato in più di una circostanza verso l'abitazione del Pacciani, sia per notificati, sia per verificare un po' lo stato dei luoghi, per vedere quello che lui faceva, anche se cercava, naturalmente, ovviamente, di confonderlo come normale visita di cortesia e un normale controllo sul caccio. Ebbe modo di notare, effettivamente, anche perché dall'intercettazione ogni tanto veniva fuori che si sentivano dei rumori, guardando il pavimento della cucina, a destra, entrando al civico numero 30, laddove possa in essere il frigorifero su cui si trova il televisore, per terra c'erano delle tracce, dei segni evidenti di spostamento, ritengo dovute allo spostamento del frigorifero. Grazie, Mare Sciallo. Non ho altre domande. Avvocato Pellegrini. Soltanto questo, a proposito di quest'ultima circostanza, Mare Sciallo, riesce a collocare nel tempo questo momento in cui lei notò queste tracce? Sicuramente sì, perché la data esatta no. Va bene. E' nel periodo che va dalla fine della maxi perquisizione, quindi dall'8 maggio, al periodo che precede, naturalmente, la perquisizione del 2 giugno. Quindi nel maggio 92. Quindi siamo nel maggio del 92. Grazie. Altre domande, signori avvocati di parte civile? Niente. Bene. Signori avvocati alla difesa, avvocato Pevacqua, prego. Grazie. Senta, Mare Sciallo, lei da quanto tempo era a San Casciano? Esattamente dal 25 aprile del 91. 91? Sì. E immediatamente ha fatto parte della squadra di Mostro? Immediatamente praticamente no, perché ricordo che alla fine dell'estate ebbi un incontro con il dottor Perugini, il quale mi informò di questa circostanza che in data 6 dicembre veniva scarcerato il signor Pacciani Pietro, per cui era necessario l'ausilio del comando stazione per determinate attività di polizia. Certo. Senta, e quindi lei nell'estate comincia la sua attività di ricerca di prove a carico, per vedere un po' di controllare questo signore? No. No? In che senso? No, perché le mie attività cominciano successivamente alla scarcerazione del signor Pacciani, quindi siamo a dicembre. Senta, però risulta, mi pare abbastanza chiaro, e risulta anche così dagli atti, che prima del 6 dicembre 1991 erano già state disposte da parte della Procura della Repubblica, attraverso la Polizia Giudiziaria, delle attività indagative relative a attività di messa in opera, di microfoni, di microspie, eccetera, alle quali penso abbia partecipato. Non ho partecipato. Non ha partecipato anche io. Ecco, lei conosceva la casa del Pacciani? La casa del Pacciani, sì. Dove sono state inserite queste microstrie? Il luogo? No. Il luogo esatto di dove erano state... Come sono entrati? Come è entrata la SAM dentro la casa del Pacciani? Io ritengo, naturalmente, all'epoca, sia in Piazza del Popolo, che c'era la moglie del signor Pacciani, c'era anche la figlia Rosanna, ritengo che con un provvedimento dell'autorità giudiziaria abbiano potuto... Perquisizione. Sì, però, dico, sì, mi scusi Pubblico Ministro, lo posso parlare io? Sì, ma lei ha gli atti sotto e lo sa che c'è la perquisizione. Il maresciallo Minoliti non c'era. Il maresciallo Minoliti non c'era. Non interrompiamo il difensore. Per cortesia, bene. Allora, lei sa benissimo che per mettere questi microfoni, allacciare, rimettere a posto, ci vuole del tempo e ci vuole tranquillità. Quindi io non penso. O no? Non lo so perché tecnicamente non ho mai costruito un apparato del genere. Ecco, quindi bisognava entrare in casa del Pacciani senza che nessuno vedesse. Ma lui ha partecipato a questa attività o no? È questa la domanda. Ha detto di no. Era questa la mia interruzione. Se non ha partecipato. Non ha partecipato. Sono venuti quelli che l'hanno fatto, è stato chiesto a loro. Non vedo perché... Va bene. Lo debba... Come si Pubblico Ministro? Mi fa parlare. No, ma io ho tutti i diritti... Va bene, ha tutti i diritti, però mi lasci lavorare. Sì, ma se la domanda non è pertinente... E va bene, è pertinente me lo dice il Presidente. E infatti gliel'ha già detto, io mi chiedo. Secondo me... Me l'aveva fatta e forse l'avete fatta, ora non mi ricordo in particolare, a quelli che... Anzi, mi pare su questo punto ci siano state domande speciali. Gliel'abbiamo già chiesto. Esattamente. Maresciallo non ha partecipato. Certamente. Non ho capito come... Lo saprà aver sentito dire. Non ho capito come erano entrati. Va bene, lasciamo fare. Senta, Maresciallo. Ho capito lo stesso. Non ci sono i documenti, lei ha capito perché c'è... Ma ho capito, basta, basta. Ho capito perché ho letto. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, siccome qui, se no si va sulle... Lasciamo stare quest'argomento. Illazioni. No, le illazioni non le consento. Non commentiamo. Io le commento perché queste sono illazioni... Lei sta commettendo illazioni sulle mie presunte illazioni, che io non sto facendo. Signori, vogliamo andare avanti? Ecco, proseguiamo. Chiudiamo questa... Maresciallo Minoliti, lei entra a far parte di questo gruppo di ricerca, di attività di ricerca delle prove, nell'agosto, settembre, eccetera, del 1991. Lei dice che, pare che si sappia, che il signor Pacciani viene scarcerato esattamente il 6.12.1991. Giusto? Sì. Lei per la prima volta quando vede Pacciani? Il Pacciani lo vedo per la prima volta esattamente 6 giorni dopo. 6 giorni dopo? 6 giorni dopo. Ecco, e va da Pacciani per che cosa? Io vorrei che lei me lo ripetesse, scusi. Io vado da Pacciani perché dalle intercettazioni ambientali, che erano in atto, risultavano dei rumori che non potevano essere identificati dall'ascoltatore. Oh, questi rumori erano dentro casa, perché pare che le micro-spie fossero state installate, inserite, alloggiate, come vuol chiamare, nella casa dell'imputato. Giusto? Quindi i rumori erano nella casa, provenivano dalla casa, o no? Guardi, avvocato, io le posso dire soltanto questo, che colui il quale, il collega che era all'ascolto, mi telefonò dicendomi di questa circostanza. E dicendomi che l'abitazione dove si verificavano questi rumori, c'era questa attività in corso, era l'abitazione di via Sonnino. Quindi la sua attenzione era rivolta in maniera esclusiva nei confronti dei locali di casa, quelli chiusi, giusto? Io però non mi fu detto esattamente perché, dunque devo permettere una cosa, successivamente alla perquisizione, proprio alla scacciazione del Pacciani, proprio perché c'era questa attività in atto, la stazione Carabinieri fu rinforzata. Cioè nel senso che nell'arco delle 24 ore c'era sempre del personale a disposizione, due unità a disposizione, per eventuali esigenze che si dovesse verificare, quindi eventuali interventi e quant'altro. Eventuali interventi, sempre in relazione al Pacciani? Sempre in relazione a questo specifico. Ma perché, mi scusi, io sono un po' così. Qualcuno l'ho disposto. Permette, abbia pazienza, sono un po' curioso, soltanto come cittadino, ma perché Pacciani con due Carabinieri della sua stazione non poteva essere preso e portato via? Non capisco quello. No, io non capisco il rinforzo, mi perdone. Il rinforzo serviva perché il lavoro della stazione Carabinieri non poteva certamente consentire al personale di essere operante sulle 24 ore, per cui, naturalmente, venne disposto un servizio del genere con del personale esterno capeggiato da un militare. Ecco, mi vuol chiarire, dato che il processo è pubblico, il corte d'assise è un processo molto delicato, che cosa avrebbe dovuto fare questo personale? Eventualmente, se ci fossero state delle circostanze che potevano essere utili alla Polizia Giudiziaria. Circostanze di che tipo? Non lo sappiamo perché poi successivamente non se ne sono verificate. È un sistema che viene posto in essere per prevenire... Quanto tempo è durato? È durato fino al momento in cui sono finite le intercettazioni. Cioè, quanto tempo? Quindi la data esatta della cessazione delle intercettazioni non la conosco, però ritengo fino al periodo di giugno del 92. Allora, sei giorni dopo, lei viene ad abitare, a stare, quindi anche ad abitare, penso, a San Casciano nell'aprile del 1991, il signor Pacciani viene scarcerato il 6 dicembre 1991, lei il 12 fa questa prima visita al signor Pacciani, giusto? Sì, permette che già conoscevo gli ambienti perché prima della scarcerazione l'unica attività che avevo posto in essere per mia conoscenza era quella di vedere i luoghi dove eventualmente mi sarei dovuto portare in caso naturalmente... Quindi lei li aveva visitati questi luoghi? Io sapevo soltanto dove erano ubicate le abitazioni del Pacciani, sia quella di Piazza del Popolo, al Civico 7... Però lei si era anche incontrato sia con le figlie come con la moglie? No. Prima, che uscisse lui, aveva avuto dei rapporti, allora gli altri signori della Samba avevano avuto dei rapporti, tant'è che l'avevano portata a giro la ragazza? Non ne sono al corrente perché non ho partecipato a questo di un'attività, comunque lui non ce li aveva avuti. Lei non li aveva avuti, però sapeva che c'era la Samba nel suo territorio, o no? Certamente. E sapendo che c'era la Samba nel suo territorio, dato che lei è il comandante della stazione dei Carabinieri, un pochino me ne intendo anch'io, me ne intendevo perlomeno, lei sa chi è che gira nell'ambito suo della Polizia Giudiziaria anche o Carabinieri o Finanza o Polizia. Lei sapeva che c'era comunque, che gravitava e che avevano dei rapporti questi signori con la signora Manni Angiolina, eccetera. Quindi qualche volta anche lei li ha accompagnati probabilmente. Non li ha accompagnati. Benissimo. Lei non li ha accompagnati. Lei il 12 dicembre del 1991 va dal signor Pacciani ed entra in casa del signor Pacciani. Non direttamente, mi porto prima in Piazza del Popolo, perché Pacciani a quell'epoca abitava ancora in Piazza del Popolo. In Piazza del Popolo. Dopodiché che fa? Mi scusi, lo vorrei capire. Io? Sì. La mia operazione è quella praticamente di parlare con il signor Pacciani. E parla col Pacciani in Piazza del Popolo. No, parla col Pacciani in Via Sonnino. Via Sonnino quale sarebbe? Scusi, perché io sono un po'... Via Sonnino è quella dove c'è il giardino o quell'altra? Il numero 28. Lui praticamente era il civico 28. Sì. Era aperto il cancelletto, così come era aperto pure l'abitazione del civico numero 3. Quella casa prima. La casa prima, esatto. Quella che si trova... E parla col signor Pacciani. Parla col signor Pacciani. Del più e del meno. Vedo che... Lei era in divisa o in borghese? Era in uniforme. In uniforme. E allora? Bene, facciamo due chiacchiere. Vedo, osservo bene l'abitazione perché all'interno non c'era mai stato. Sì. Appena viento al comando faccio debita annotazione. La fissa in memoria. Dopodiché che fa? Fissata la prima, che fa? Niente, facciamo un giro, dice questa è casa sua soltanto, lui mi dice no, c'è anche questo, c'è l'Otticello, lui mi accompagna insieme alla moglie, la signora Manni, andiamo nel giardino, ho modo di vedere il giardino, anzi ricordo che ho fatto anche parte del vialetto, quel vialetto che era delimitato dai paletti in cemento, faccio i miei apprezzamenti sul piccolo spazio bello all'interno naturalmente di un fabbricato, lui mi fa vedere anche la casa, dice che c'ha da metterla a posto, che piano piano doveva rimettere a posto, dico come mai tutte quelle decole, se doveva ricambiare il tetto o quantomeno, le solite cose, dopo mi concedo e ritorno alla stazione. E non fissa più nulla, cioè la casa seconda non la fissa? No perché? Cioè lei doveva fissare soltanto la prima? Io praticamente ho fatto l'attività relativamente ai rumori che mi erano stati segnalati. Ecco, i rumori che erano all'interno e lei fissa tutto quello che poteva esserci dispostato oppure no all'interno di quella casa. Lui stava sistemando l'applicazione perché non era... Esattamente, dopodiché lei prende tutto quello che ha fissato in testa, in questa casa, e lo trascrive in un verbale. Sa che vi erano delle discariche nella zona di San Casciano, di Montefiridolfi, di Montespertoli, o no? Ma non erano delle discariche. No? No, sono dei luoghi dove praticamente qualche volta venivano portati da persone degli oggetti che non gli occorrevano. Però erano anche luoghi dove il servizio di nettezza nell'arco di al massimo di una settimana liberava naturalmente il luogo. Non erano delle discariche. Ecco, senta, però lei ha ricevuto una lettera dal comune di San Casciano, se la ricorda? Sì, ricordo. Del 23 gennaio 1993, dove si diceva che questa amministrazione aveva provveduto a transennare la zona e ad apporre, questo si chiama in Montefiridolfi, e ad apporre i cartelli di divieto e discarico già dal 1990, lei ancora non ce l'ha, senza però riuscire ad arginare il fenomeno. Per porre fine a questo degrado, la giunta comunale, nella seduta del 15491, con propria decisione, approvò la perizia di rimozione dei rifiuti e delle terre ad esse mescolate. In precedenza, febbraio 1991, lei ancora non c'era, aveva provveduto a far eseguire un fossato sempre eccetera eccetera. Se la ricorda questa lettera? Sì, sì. Quindi c'era questo fenomeno piuttosto... Ripeto, per quello che so io, dal momento in cui sono arrivato e per quello che mi sono detto, per discarica si intende anche, almeno... C'è una legge sulle discariche. Esattamente, quindi avremmo dovuto intervenire d'ufficio e provvedere di conseguenza, intimando al proprietario del terreno di rimuovere se si trattava di rifiuti speciali. Comunque si trattava di questa forma di malcostume che la gente abbandonava questi oggetti. discarica può essere anche un semplice boiler o un... Simavera Maresciallo, lei deve dire quello che... Lei dice, però, capito, diciamo le cose come stanno. Qua c'è questa cosa, questa discarica si chiamava la discarica di Sant'Anna, si chiamava la discarica di Sant'Anna. No, non esiste. Ma allora le fu detto che c'era questa discarica di Sant'Anna o no? No, c'era un luogo dove la gente era abituata. Si chiamava la discarica di Sant'Anna perché là corre la via Sant'Anna. Non mi risulta. Non le risulta, però questa l'ha ricevuta questa legge. Questo l'ho ricevuta. Si parla di via Sant'Anna qua. Si parla senza altro di via Sant'Anna. E allora perché non lo dice? Scusi. Perché a me non risulta che esiste. E non risulta, però risulta che... Ma cosa cambia, avvocato? Cosa cambia? Perché deve dirlo se non lo sa? Cosa cambia, assolutamente. C'era una discarica. Presidente, le chiedo scusa. Veda, dal dire il sì al dire il no, c'è anche il nì. Però non si sa se è no o se è sì. Quindi cambia anche questo, Presidente. C'era una discarica. Certamente. Dove la gente scaricava. Però, capito, siamo abbocconati troppo. Perché questo è un documento che esiste. Non vedi, avvocato, lei mi ha chiesto... No, no, un documento. Se esiste, viene chiamato dai cittadini alla discarica di Sant'Anna. Bene, bene. Non ci sono manco le discariche. Senta, vediamo se c'erano queste cose ora. Se è vero che nella zona di San Casciano, Val di Pesa, per più tempo, in più periodi dell'anno, gravitavano, sostavano, dei circhi e questi. Esattamente, sì. A meno questi. Le posso indicare anche le date e i luoghi. Eh, come se me li dice. Sono nel 79 e nel capoluogo, esattamente, ai Macelli. Sì. Nell'ottato... Ma quanti? Quanti ne sono passati? Esattamente nel totale di sei, che va nel periodo dal 79 all'83. Ottato. Oh. Il totale di sei. Circo d'Ercos, eccetera, eccetera. Va bene. Vai vicino. Ci sono tutti qua. Senta, volevo dirvi un'altra cosa. Si fa agriturismo nella zona? Ci sono delle attività di agriturismo, sì. Parecchie? Ma, ehm... Non tante, ma ce ne sono. Io, almeno, che ne conosco personalmente, sono due o tre. Ecco, normalmente, ci sono italiani o ci sono stranieri che vengono? Ma, è mista. Il Chianti è una zona prediletta anche da stranieri, però non mi risulta che ci sia un fenomeno di una natura particolare. Guardi, tutti dicono che in Toscana, specialmente nella zona del Chianti, è piena di stranieri. C'è, questo è vero. Infatti gliel'ho detto poco a poco. Ecco il sì, il no e il nì. Gli ho detto che praticamente vengono gli stranieri. Lo dicono tutti, è un fenomeno, direi, notissimo. E allora cosa c'entra il maresciallo di San Casciano? Perché il maresciallo di San Casciano questo fenomeno lo conosce. No. Perché è addirittura un maresciallo dei carabinieri e lo deve conoscere. Facciamo aumenti, proseguiamo. Quando riguarda l'autorità locale di pubblica sicurezza, sono il comando di polizia municipale, quindi le varie cedole per le persone che gravitano nel territorio vengono mandate al comando di vicino. Lei sa benissimo che c'è una legge particolare anche sugli stranieri che è una legge che voi anche dovete far rispettare. La sa meglio di me. E allora, scusi, senti, maresciallo, volevo domandarle un'altra cosa. Lei ricorda, se furono sequestrate al signor Pacciani, tante cose, monili, perle, buccole, cose varie, e anche delle giacche teatrali, costumi, è vero questo? Sì, no, costumi no, delle giacche mi risultano. Già, costumi da teatro, mi perdoni, io ho la mente sempre portata ad altre cose, capito? Il teatro, capisci? Mi risultano, io ho notato, ho visto soltanto due giacche. Due giacche. Molto appariscenti. Molto appariscenti, quindi giacche che normalmente lei e io porteremmo a giro, no? Ma io no, personalmente. Eh, pure io penso. Vabbè, quindi sono giacche da teatro, giacche da circo equestre, giacche vestimenti. Sono quelle che sappiamo. Sì, quelle che sappiamo. Se volete vederle, ci vogliamo. Anche da persone che hanno un complesso musicale. Oh, complesso musicale. Quindi, vedi, sono delle divise, diciamo così. Possono essere delle divise. Senta, lei sa che cosa disse in proposito il Pacciani su questa roba che aveva trovato? Non può rispondere. Se lei lo sa. C'è il 62. Spalle sia per me che per lei. Certamente. Lei sa se qualcuno ha ragione e incasso il colpo. Chi di spalla ferisce, di spalla ferisce. Ah, Presidente, qua non si ferisce nessuno. Io non ero d'accordo tanto con questo 62. Ma c'è. Va bene. Senta, lei sa se qualcuno di questi circhi si... Qualcuno richiese, disse, domandò, denunziò il fatto che aveva perso qualcosa? Oppure non lo sa. Un denuncio agli atti non esiste. Non esiste. Senta. Lei sa se dall'attività di indagine che fu effettuata, ne parla il dottor Perugini, ne parlano un po' tutti quelli della Sam, mi pare che uno di questi è anche firmato da lei, che era uso il signor Pacciani girare per queste discariche. Ma se mi legge l'atto non mi risulta che io abbia mai fatto una notazione. Firmato, lei non l'ha firmato, io non ce l'ho sotto gli occhi, però mi sembrava che lei l'avesse pure firmato. Senta, un'ultima domanda, ed è questa. Lei contò, memorizzando quello che c'era dentro la casa, quando andò il 12-6, il 12-12-91, quanti mobili aveva il signor? Lei contò, quella del civico 28. Lei numerò, quella del civico, sì. Dunque posso dire, io me la ricordo, c'era l'ingresso con la cucina con un forno nella parete destra perpendicolare all'entrata, poi c'era il bagno, poi c'era la camera di letto. Mi ricordo che c'era praticamente la finestra, nella parte opposta rispetto all'entrata, c'era il letto sulla destra, spostato dalla parete, messo in posizione, mi sembra, penso che è trasversale, c'era un altro mobile, un armadio che non era posizionato lungo la parete. Si è ben ricordo. Quindi lei ricorda questi 5-6 mobili? Lei considera che è passato tanto tempo, poi le situazioni se ne sono riviste anche altre. No, no, per la memorizzazione del... cioè lei andò lì soltanto per vedere che cosa era successo, che quale mobile si avrebbe stato spostato. Bisogna dire anche che avevo, se la si può così chiamare, una pseudo giustificazione perché ogni tanto c'erano degli atti da notificare al signor Pacciani. Degli atti da notificare al signor Pacciani. Senta, lei sa che avete fatto degli accertamenti sull'auto del signor Pacciani, che era stata acquistata nuova nel 1900, mi pare, 82, se la ricordo è questa? Non è un accertamento che ho fatto io. Non ha fatto lei l'accertamento. Lei lo vedeva il signor Pacciani dopo uscito a giro per il paese? Dopo la sua scacciazione? Sì. Sì, l'ho visto in un paio di circostanze non occasionali. Non occasionali? Cioè l'andava lei a cercare? Cioè nel senso che quando lui usciva c'era sempre un'attività di polizia. E dove andava il suo faccio? Ma lui l'ho sempre visto per, diciamo, la strada principale di San Casciano, via Machiavelli. Una volta in Borgosacchiani, ricordo che in quella circostanza incontrò, incrociò anche il Vanni. Sì, ma questo non c'è dubbio. E quindi, niente. Lo incrociò e poi che fece? Niente. Poi dopo, naturalmente, la mia era soltanto una presenza a supporto di operatori di polizia che stavano effettuando il loro lavoro. Senta, quella macchina metallizzata, quella argenta, era grigio e chiara? Com'era? Era grigio e metallizzata. Ora, chiara... Il grigio metallizzato dell'argento, me lo ricordo, era chiarissimo. Era metallizzato? No, era metallizzato chiarissimo, perché c'erano fatti metallizzati e chiari. E quello che stavo dicendo, perché all'epoca non esisteva ancora il colore antracite canna di fucile, non veniva ancora... Non esiste, quindi era chiaro, benissimo. Per quanto riguarda la determinazione dei colori... No, siccome ce la ricordiamo, l'argenta, di fatto era argenta, si chiamava argenta anche per questo. No, solo per questo. Perché era argentata, molto d'argento. Non era solo metallizzata, era di tutti i colori. Beh, certo. Era metallizzata... Ma non si chiamava argenta, perché era argenta? Vabbè, ma io ricordo che le argenta, signor Presidente, poi non furono grandi macchine, perlomeno, erano tutte quante metallizzate di un argento chiaro. Molte erano argento chiaro. Qualcuno era piante, cioè non c'era ancora la canna di fucile, eccetera. Io non ho altre domande, grazie. Ne avrei una sola... C'è l'Avvocato più avanti? No. Come volete. Una sola, Presidente, è questa. Se il maresciallo Minoliti sa qualcosa sui telefoni che erano nelle case del Pacciani. Ieri, con l'Ispettore Lamperi, abbiamo appreso che nella Piazza del Popolo fu installato un telefono nell'anno 83. Ci ha parlato domande fatte prima, ma comunque divenne operativo nell'83. Mi sembra di aver sentito dicembre. Comunque, anno 83. Lei sa se c'era un telefono, e poi questo lo sappiamo dalle intercettazioni, nella Via Sonnino. Sa quando è stato messo il telefono in Via Sonnino? Dunque, so che esiste in Via Sonnino al Civico 30, non al 28. Esiste un impianto telefonico correlativo a parecchio. Non vorrei sbagliarmi, ma ritengo che sia stato fatto successivamente alla schercerazione. Però potrei anche sbagliarmi. Non è un accettamento che ho fatto. Bene, non ho domande, grazie. Avvocato Fioravanti, prego. Maresciallo Minoliti, io volevo tornare un attimo al problema delle discariche. Ecco, vicino a Sant'Anna esiste una discarica, cioè nella zona di Sant'Anna. Ripeto, avvocato, esiste un luogo che viene chiamato discarica perché è oggetto di... deposito di rifiuti da parte di persone. Secondo quella che è la mia definizione, quale carabiniere, discarica è anche un luogo dove esiste anche soltanto due pezzi che sono nocivi per l'ambiente. Così come ce ne può essere una montagna. Ma è grande come luogo. Ripeto, successivamente alla data del mio arrivo a Sant'Anna il luogo si presentava come un luogo occasionale di smaltimento da parte di sconsiderati di rifiuti. Ecco, vicino a questa discarica di Sant'Anna c'è per caso un maneggio? Un maneggio cavalli? Personalmente di maneggi ce ne sono tanti. a Montefiridolfi, proprio vicino. No, diciamo che sulla strada che da San Casciano porta a Mercatale, al Bivio, per Montefiridolfi, esiste un maneggio. Però è abbastanza distante. Quello che conosco io. Saranno due o tre chilometri. Vicino alla discarica di Sant'Anna esiste un maneggio per caso del signor Bini di Mercatale? Ed è quello che le stavo parlando io, non è vicino alla discarica di Sant'Anna. Ma è sulla strada che porta la discarica. Il maneggio si trova esattamente all'inizio del Bivio per Montefiridolfi. Ed è distante dal luogo che viene definito come discarica, per quello che mi risulta è circa tre chilometri, forse anche qualcosa in più. Cioè è vicino a quel distributore di benzina. Esattamente, il distributore di benzina si trova prima di imboccare il Bivio per Montefiridolfi. Ecco, senta una cosa. In merito invece al circo equestre, ai circhi equestri, per caso lei è mai venuto a conoscenza che a Mercatale sostava un circo equestre di nome Giro o Gira Catena, che era il cognome del proprietario? Allora, se l'epe circo equestre intende proprio come circo equestre, le posso dire che effettivamente a Mercatale c'è stato un circo equestre nell'anno 1980. Unica circostanza in cui un circo equestre è stato posto in estero in via Coffri di fronte alla scuola media. Sì, proprio lì dove veniva identificato, mi sembra, dall'imputato attuale in un interrogatorio con il dottor Vigna, presente anche lei. Ecco, è per caso arrestato oggi il proprietario di questo circo che lei sappia? Chiedo scusa, ma la pertinenza è la domanda dell'arresto di un proprietario del circo? Non so, io mi oppongo alla domanda. Bah, sembra assai leggerino. Comunque vediamo se il maresciallo lo sa. Non conosco nemmeno il nome. Se lei si riferisce a qualche altra circostanza è possibile. Ecco, allora, no, lasciamo stare. E comunque a sollicciano, lo posso dire io. In merito alle figlie di Pacciani, lei ha fatto vari interventi presso le figlie per la questione garage. Esattamente. E mi può dire il motivo per cui iniziò questa questione, cioè di privare Pacciani dell'uso di quel garage? Dunque, bisogna prima permettere che il garage è comunicante con l'abitazione di Piazza del Popolo 7 attraverso delle scale che portano all'ingresso dell'abitazione stessa. Sì, questo la Corte l'ha visto anche nell'ultimo. Quindi... C'è una porta comunque che si chiude dall'interno dell'abitazione in quel garage? Non è solo scale e... No, c'è una porta, non so se si può chiudere o meno perché non l'ho mai verificato. Comunque esiste una porta. E ricordo la circostanza che le figlie lamentavano la continua presenza del genitore in quel garage per cui loro volevano stare tranquille e vi chiedevano un interessamento perché loro non erano a conoscenza delle modalità di come potevano ovviare all'inconveniente. Dichiaravano sempre di voler stare tranquille e non gradivano la presenza e la visione del genitore. Ecco, lei sa come è finita la questione in pretura a Firenze per la disponibilità a Pacciani di quel garage? Io non ho avuto atti da me. Un articolo 700... Non ho avuto atti ufficiali. So che l'abitazione è stata data alle figliole, non so se l'uso del garage in disponibilità del signor Pacciani. Però non ho atti su cui ho potuto documentarli. Si tratta di un processo civile che non era... Sì, sì, è un processo civile con una risoluzione. Ecco, ma il motivo dei suoi interventi, il motivo base dei suoi interventi su questo garage per impedire, o meglio, per eseguire un ordine che voleva che Pacciani non ci stesse, era solo questo? No, non si trattava di nessun ordine. Su tal proposito, anzi, posso dire che non avevo ricevuto nessuna disposizione in merito. Si trattava del mero compito di un comandante di stazione che deve salvaguardare, naturalmente, deve tutelare l'interesse delle parti, che si trovi in discussione. Ripeto, si trattava di un condizionato tra privati, il nostro buon ufficio viene richiesto molto spesso e noi interveniamo. A tal proposito, posso anche rammentare che per accordo fra le parti io mi interessavo affinché l'amministrazione comunale ponesse in essere un qualche cosa, un tramezzo, per poter dividere in maniera definitiva, senza nemmeno serrature, il garage dalle scale che portavano all'abitazione. La cosa non fu fatta perché poi si risolse in maniera diversa. Lei partecipò ad un interrogatorio il 17 del mese di luglio 1991 e sentì Locci Giovanni. in merito ad una costruzione, o meglio ristrutturazione, di una casa in via Scopeti 1, località Tavarnuzze. Lei ricorda questo interrogatorio? Riguardava per caso Vanni? Ma se è mia firma, avvocato, io non lo ricordo perché di atti di polizia giudiziaria ne ho fatti tantissimi, quindi non so se c'è la mia firma lì. Sì, sì, Minoliti, Minoliti Arturo. Facciamoglielo vedere. È meglio forse se glielo fa vedere effettivamente. Alcuni li ho, altri. Ecco, guardi pure questo verbale, maresciallo. Lo legga bene. Vittorio... Ma fatti. Ma sì. Questa è la cosa più pratica, perché se fossero i figli, i figli non sono riusciti, ma è ancora una idea come riuscire a salvare Capo. Si legge male, ma comunque... Grazie. Il motivo era per assumere quante più notizie possibili su altre persone che ci interessavano, tipo nella circostanza la persona indicata nel verbale. Lei ha fatto indagini sulla presenza di Faggi Giovanni in San Casciano? Sulla sua macchina argenta ho contribuito alle indagini che venivano fatte da tutto il gruppo di lavoro. Noi abbiamo sentito un test ieri che ha riferito di un argento, di una macchina a tre volumi, 131 o meglio. Ecco si potrebbe sapere, sarebbe meglio fosse stata una 132. Mi potrebbe dire, però lei non è un tecnico sicuramente, il fanalino interno alla macchina, alla luce, dove è vicino allo specchietto? Ne parlava quel test di questa luce vicino allo specchietto retrovisore. Ma vedi avvocato, per quanto può essere la mia conoscenza, generalmente la luce si trova nella posizione centrale, in alto, sempre sulle autovetture, al centro dell'autovettura. Poi se era collocato in maniera diversa, stancamente non glielo posso e non glielo so dire. Era una circostanza se aveva visto la macchina. Perché poi il test aveva parlato, 131, 132, ma tipo è, tipo, 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 132, mi pare che non fosse individuato esattamente. Abbiamo detto però che era una a tre volumi, questo tipo, 131, 132, possiamo riguardare la verbalizzazione o risentire? Grazie, però non ha nessun'altra domanda, grazie. Possiamo licenziare il test? Signor Presidente, sì, senz'altro. Grazie, maresciallo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Signor Presidente, la difesa deve fare una richiesta, deve produrre, a esenza dell'articolo 234, questa cassetta. A esenza dell'articolo 234? 234, in riferimento all'articolo 218, presupposti per l'esperimento giudiziale. E' una cassetta dove sono riprodotte delle situazioni che sono state descritte da due o tre dei testimoni che si sono sentiti nelle udienze precedenti. Alcuni testimoni, lei ricorderà, signor Presidente, la Corte ricorda, dicono di aver visto una torcia, mentre loro facevano i fatti loro, un uomo e una donna, e dietro la torcia di avere intravisto, anzi visto bene, il volto del Pacciani. Un altro testimone avrebbe detto addirittura che il Pacciani, comunque una persona che poteva assomigliare al Pacciani, avrebbe abbracciato quasi per intero una Passat e avrebbe avuto una mano, una pistola, una qualcosa del genere, nell'altra mano era fasciata. Io produco questa cassetta se la Corte ritiene di poter farla visionare perché all'esito di questo documento, essendo i presupposti dell'articolo 218, quelli relativi a un fatto che si dovrebbe accertare, io chiedo di produrre, a esenza dell'articolo 234 e 218, questa cassetta. L'articolo 218 è chiaro, l'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Mi pare che a esenzia anche dell'articolo 507 del codice di procedura penale 234 e 218 sia ammissibile questa prova per verificare l'attendibilità di questi testimoni e se fosse stato possibile che quel fatto... Nella cassetta, da quello che le dice, c'è un esperimento giudiziale fatto da voi, che dovrebbe riprodurre le modalità. Presidente, se ritiene, certamente, questo non se ne tene conto, però se è possibile vedere, io non l'ho vista, me l'hanno portata stamattina, io non l'ho vista, quindi non lo so. Però io chiedo questo esperimento giudiziale, io chiedo l'esperimento giudiziale su questo. Chi l'ha fatto? Presidente, me l'ha portato un collega da Roma, il professor Bruno. Ha portato un collega da Roma, il professor Bruno l'ha fatto fare, io non l'ho vista, non lo so, prevedevo. Si rappresenta che cosa? Ma che oggetto? Mi pare che sono stato abbastanza chiaro. Scusate, se fossimo distratto, che tu... Certamente, si tratta di una ripresa, penso cinematografica, all'interno di una macchina, da una persona, da un operatore, il quale avrebbe dovuto vedere se... Si vedeva quello che c'era, di notte. Se la Corte non dovesse ritenere questa, io mi permetto di... Fra qualche minuto mi arriveranno le foto relative, fra qualche minuto, fra mezz'ora, e producono eventualmente le foto. L'esperimento io lo chiedo. Quindi, intanto, chiede l'esperimento giudiziale sulle situazioni in cui si sarebbe trovato lo Iandelli Luca. Lo Iandelli Luca e quell'altra signora che ha visto gli occhi, si ricorda così, gli occhi del Pacciani, ha riconosciuto gli occhi, la signora Opulista. Presidente, se mi consente due parole... Allora, il pubblico mistero... Allora, andrei per ordine. Direi, produzioni di esperimenti privati, a questo punto non vedo proprio come si possano introdurre, quindi mi oppongo a queste produzioni, sia fotografiche che filmate. Verrei invece alla richiesta di esperimento, sulla quale direi questo. Mi sembra che ogni mezzo di prova andava chiesto al momento opportuno, nel caso in cui si dovesse invece valutare ex 507. Mi sembra che si debba fare un giudizio sulla utilità o meno, in questo momento, di un esperimento giudiziale di questo tipo. Direi che la Corte ha già tutti gli elementi per valutare o meno l'attendibilità del teste e mi sembra che un esperimento in cui si dovrebbe fare dei testi sentiti, in un esperimento in cui si dovrebbe riprendere e ricostruire una situazione raccontataci da una teste o da un altro teste, in condizioni praticamente irripetibili, è oggi impossibile. Come si fa a ritrovare la situazione esatta di luce in cui si operò, il teste ricorda siano avvenuti certi avvenimenti, riprodurla oggi è praticamente impossibile. Ritengo quindi che la Corte abbia la possibilità di valutare le deposizioni dei testi al di là degli esperimenti. Mi oppongo perché non solo non è possibile rifarlo allo stesso modo, ma comunque sono richieste tardive. Io insisto per il semplice motivo che questi due accertamenti hanno coinvolto 3, 4, 5 persone. 5 persone, in particolare lo Iandelli per i riflessi che ha avuto in ordine all'attendibilità di alcune dichiarazioni rese dallo zio, di altre dichiarazioni rese da un'altra persona. E per quanto riguarda quell'altro, io non ricordo esattamente i nomi, credo la Lapini, per quello che ha detto quel signore che è venuto, che avrebbe visto addirittura la pila e dietro la pila la persona. Credo che le condizioni possono essere più che ripetibili, assolutamente ripetibili. Non abbiamo la pila perché l'ho sconosciuto. Le facciamo con 40 pile. Chissà che pila aveva. Facciamo con mille pile. Pila piccola, pila grande, pila media. L'esperimento va fatto con le stesse condizioni. Siccome era... Comunque lei... Io sono stato chiaro, mi oppongo. Io insisto. Le parti civili si oppongono all'acquisizione della prova che si vuol produrre, però sono remissive all'eventuale esperimento che la Corte voglia disporre. Allora la Corte si ritira. Buongiorno. Bene, diamo lettura della seguente ordinanza. La Corte sulla richiesta della difesa dell'imputato, sentite le altre parti, rilevato che alla luce degli elementi acquisiti del corso di battimento non appare assolutamente necessario procedere agli esperimenti giudiziali richiesti alla difesa e, conseguentemente, a prescindere da ogni questione di rito non può essere accolta la richiesta di produzione del nastro videoregistrato, per questi motivi respinge le richieste della difesa dell'imputato. Alleghiamolo al verbale. Bene, allora mi pare che abbiamo il professor De Fazio. Sì, il professor De Fazio sono... Sono più di uno, io dico De Fazio per dire, però sono... Sì, De Fazio, Gandiani, Luberto, ora ci diranno esattamente, sono i periti che nel corso delle indagini hanno fatto quello studio comparativo sugli otto duplici omicidi e il PM, nella sua richiesta di prove, ha chiesto proprio di sentirli su questo punto. Benissimo, facciamoli accomodare, allora, qui bisognerà probabilmente, Romano, staccare il microfono. Lavoriamo già, preparando. Ah, sì? Va bene, allora... Professor De Fazio, allora... Buongiorno, professore. Prego, accomodatevi, sistematevi meglio che potete. Buongiorno, buongiorno. Allora, Romano, lei ci presti assistenza perché abbiamo purtroppo un microfono solo. Quanti sono italiani, Pierini, Bedusti, De Fazio, Luberto? Sono periti, vero? Sono i periti del giudice Cesar. Per ribadire la loro qualità. Allora, il nome di ciascuno... Sono consulente. Certo, De Fazio. Professor De Fazio. Le generalità, professore, mi scusi, e basta. Le generalità. Nato a Serrata, 30 maggio 1932. Ecco, aspetti che la formula del... Non dei periti, ma dei testimoni. Perché sono in qualità di testimoni. Si osservano per quanto compatibili... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo, state pure comodi nel parlare. Ecco, lo stesso di generalità e leggere quella formula. Giovanni Beduschi, nato a Casal Maggiore l'8 agosto 1950. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Salvatore Luberto, nato a Cosenzi 12-2-1939. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ivan Galliani, nato a Carpi, di Modena, il 20 gennaio 1946. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Giovanni Pierini, nato a Firenze 24 giugno del 1950. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il Pubblico Ministero vi formulerà e poi le altre parti formuleranno delle domande. e quindi direi che per rispondere, diciamo che risponderà il Professor De Fazio e poi a seconda delle necessità lei, il Professore, passerà il microfono agli altri. Prego allora. Ecco la mia domanda, la più semplice e iniziale è questa. Se vuole il Professor De Fazio spiegare alla Corte qual è la loro professione e qual è il ramo, la disciplina di cui loro si occupano innanzitutto. Sì signora, questo collegio peritale è stato composto in base alla individuazione di competenze. Personalmente io sono direttore dell'Istituto di Medicina Regale di Modena, ero all'epoca della pilizia direttore della scuola di priorizzazione di medicina regale nonché di criminologia e il collegio peritale è costituito dal Professor Beduschi anche gli medico legale di formazione e come me interessato alle problematiche criminalistiche. dal Professor Ruberto e dal Professor Gagliani, entrambi criminologi e psicopatologi forenzi e dal Professor Giovanni Perini che è titolare della Carte di Tossicologia Forenze ma per un'impostazione eclettica del suo sapere si occupa molto di problematiche di informatizzazione anche relativamente all'immagine. Grazie, Presidente. Io faccio due domande che le sembreranno ovvie ma servono a far capire alla Corte qual è stato il loro lavoro. La prima domanda è questa. Il lavoro porta la data, è in due tempi, 1984-1985. Io chiedo, loro conoscono l'imputato? L'hanno mai visto? L'hanno mai esaminato? Lo so che è una domanda ovvia ma vorrei che fosse ben chiaro questo. Certamente no. Nessuno di loro? Io vedo l'oggetto di quella che era l'incarico dato a suo tempo e voi l'avete titolata riassuntivamente come indagine peritale criminalistica e criminologica in tema di ricostruzione della dinamica materiale e psicologica dei delitti. vorrei che lei innanzitutto spiegasse alla Corte cosa è stata, innanzitutto parlerei della ricostruzione della dinamica materiale, qual è stato l'oggetto del loro lavoro e dal punto di vista della dinamica materiale qual è stato il risultato. Sì signore, il titolo che noi abbiamo dato alla relazione riflette i quesiti che la Procura della Repubblica ci ha posto, cioè se i quesiti erano una ricostruzione della dinamica materiale e psicologica sottesa alle azioni dell'aggressore o degli aggressori e il secondo quesito, che presumibilmente si trattasse dell'opera ad un solo aggressore e quindi le modalità delle azioni lesive e quant'altro. Io mi rimanerei a questo primo punto. Ecco, allora nel titolo noi abbiamo dato alla preminenza ricostruzione della dinamica materiale e poi psicologica per un fatto molto semplice perché praticamente la prima parte, la ricostruzione della dinamica materiale risponde in realtà ad una ricostruzione basata su dati non acquisiti direttamente da noi, tranne che nell'ultimo duplice omicidio, ma nei primi sette dati documentali, verbali di sopralluogo, verbali di autorsia, dati circostanziali, cioè tutti i dati che potevano essere assediati e comparati per valutare le singole azioni omicidiarie, ma le connessioni anche fra l'una e l'altra. E questo diventava una base documentale che poteva dare alla nostra perizia, almeno le nostre intenzioni, la validità di strumento di prova. Quando passiamo invece alla... La parte materiale. La parte materiale. Quando passiamo alla valutazione della dinamica psicologica, evidentemente questa volta si tratta di una dinamica psicologica non dedotta da un rapporto con il possibile autore, ma dedotta in astratto in base a valutazioni desunte dalla dinamica materiale. È chiaro che a questo punto si passa da valutazioni che hanno dei punti di riferimento su dati obiettivi in valutazioni che tengono conto della nostra personale esperienza e soprattutto dell'esperienza di studiosi di altri paesi. Non per nulla, per questa seconda parte, ci siamo documentati presso fonti straniere anche, quando abbiamo assunto l'incarico, perché si trattava di... non fonti bibliografiche conoscevamo, fonti esperienziarie, perché bibliografiche. E quindi abbiamo messo prima dinamica materiale e poi dinamica psicologica. Evidentemente nel fare questo noi abbiamo utilizzato un metodo, e ci terrò a chiarire questo punto, non in sede giudiziarie ma in sede di mass media, si sono fatte delle confusioni parlando di identikit. Non abbiamo fatto nessun identikit. Ecco, ci vuole spiegare il limite o la portata o lo scopo di questo secondo lavoro? Un identikit è un lavoro sintetico che si basa sull'esistenza di dati che vengono correlati per riferirli ad un possibile autore. Noi abbiamo svolto un lavoro analitico sulla base dell'analisi dei singoli casi su piano medico legale e criminalistico per disumere la dinamica materiale. E quello per lei è un elemento di prova? Certo. Poi abbiamo svolto un lavoro interpretativo che essendo interpretativo può essere un elemento di convincimento, può essere un elemento che può essere accolto o meno dal giudice in base al suo vaglio non tecnico, ma abbiamo svolto un lavoro interpretativo sul secondo punto, la dinamica psicologica, che non è che sia infondato fantasioso, non tiene conto di elementi e di riferimento obiettivi. Che voi non conosceva, non conoscete. Allora a questo punto noi abbiamo fatto una perizia, quello che mi risulta è la prima che sia stata disposta in Italia e in questo settore, per risalire, in questo settore o anche in altri settori delittuosi, per risalire dalla dinamica delle azioni delittuose alle tipologie degli autori. A fine d'indagine, quindi. Questa perizia serviva a fine d'indagine per indirizzare l'indagine in un versante o in un altro, non faceva riferimento, faceva riferimento a prototipi, al plurale, non ad un prototipo. Ecco perché non era un identikit. È praticamente un'apelizia che è basata sul metodo analitico piuttosto che sul metodo sintetico. Dall'altra parte, l'apelizia è basata sul metodo sintetico, avrebbe validato arbitrariamente una nostra prevalente opinione del Collegio Piritare rispetto ad altre, mentre noi abbiamo esposto dei dati che poi abbiamo riportato a sintesi, ma che l'uno e l'altro possono essere anche in parte contraddittori, facendo un'analisi di casi sul piano della dinamica materiale e sul piano della dinamica psicologica. Credo di aver capito. E la Corte pure, lei è stato chiarissimo su questo punto. Allora vorrei esaminare con lei i risultati di quella che è la parte che lei ci ha indicato che ha più un contenuto di prova in quanto si basa su elementi oggettivi, cioè la parte della ricostruzione della dinamica materiale, per vedere se voi siete arrivati a delle conclusioni in tema di identità e o di unicità di autore. Mi sembra un lavoro molto complesso il vostro, vorrei che prima di spiegarci le conclusioni come e attraverso quali mezzi e attraverso quali elementi siete arrivati a conclusioni sul punto. Ecco, siccome la sua domanda innesca un discorso difficile, io la introdurrei sinteticamente e darei la parola poi al professor Beduschi. Come crede. Ecco, allora direi che l'analisi seriata degli episodi delituosi, con riferimento specifico in questo momento alla lesività riscontrata nei singoli casi, avalla l'ipotesi concretamente che tutti gli omicidi siano stati commessi dalla stessa persona. A ciò si arriva, prescindendo dall'elemento cerniera che ha guidato l'indagine, stessa arma, si arriva sulla base di una valutazione che tiene conto anche delle apparenti differenità e della discontinuità della serialità adesiva che caratterizza i casi dal primo all'ottavo. Dico dal primo all'ottavo, non dal secondo. Perché dal primo? Perché il primo è un caso spurio, che è spurio per la distanza di tempo rispetto alla sequenza dei diritti successivi, per la mancanza di armi da taglio nella dinamica del diritto, per la mancanza di riferimenti tipici dei diritti sessuali. E così anche il caso numero sesto, sei, Ostmeier e Uvrash, Rush, Ruscher, e spurio per la mancanza di armi da taglio nella dinamica del diritto, per la mancanza di riferimenti tipici dei diritti sessuali nelle modalità adesive. Si tratta in sostanza del caso della Locci e del caso dei due tedeschi. ma il problema è che, a cominciare dal secondo caso, noi notiamo una prevalente lesione di arma da fuoco nel maschio, che ha per i caratteri, per le sedi, nuca, fronte, eccetera, lo scopo di mettere fuori gioco la figura maschile, salvo casi di spreco dei proiettili nell'uso nell'azione dirittuosa. Una lesività spuria da taglio nel maschio non ben interpretabile che è comunque di volta in volta diversificata, tranne, per esempio, diversificata, prendiamo l'ultimo caso, la lesività da taglio riguarda la fuga dell'uomo e quindi praticamente l'uomo che veniva in corso e che man mano che veniva in corso veniva colpito. Poi abbiamo una lesività da taglio che comincia a diventare elettiva come finalismo nel secondo caso, cioè la Stefania Pettini e si definisce in modo chiaro, in senso sadico-sessuale, nei casi successivi. Ora, faccio solo qualche flash su determinati casi, per esempio il caso Mainardi. Il caso Mainardi è tale che presenta delle differenze rispetto agli altri casi, perché l'uomo è andato lì, l'aggressore è andato lì per compiere un delitto avente avvenenze sadico-sessuali come gli altri. Poi però il ragazzo ha messo in moto la macchina, stava per scappare e lì l'omicidio che probabilmente nasce sul piano dell'ideazione come omicidio sessuale diventa un omicidio da rapporto interpersonale con quello che fuggiva, cioè lì si è cimentato con una persona che gli sfuggiva. Ecco che lì noi abbiamo in questo caso un tipo di delitto reso diverso rispetto agli altri da fattore circostanziale, uomo che fugge e necessità dell'aggressore di cimentarsi con quest'uomo che fugge. Dopodiché infierisce sulla donna con 96 o 98 coltellate e questo è il secondo caso. Dopodiché praticamente infierisce sulla donna con... non c'è risinitare nel fuoco. Poi facciamo l'esposizione dei singoli casi che facciamo dopo. Sì, può darsi che i singoli casi come ricostruzione l'abbiamo già fatto abbondantemente, quindi possiamo essere anche sempre... Ecco, io concluderei dicendo questo, che in tutti i casi, tenendo conto delle variabilità circostanziali come nel caso Mainardi, in tutti i casi noi abbiamo una ideazione, programmazione razionale fredda del delitto e questo in aggiunta a determinate scelte, scelte di notte e di novi lunio, a determinati calcoli o opportunità, giorni prefestivi o come tali, scelta dei luoghi, sistematicità e metodicità, sovente di stampo di turistico delle lesioni, portano praticamente a convalidare che si è trattato di una stessa mano. Ma su questo punto interverrà poi il professor Pirini in riferimento all'analisi elettronica di immagini che ci dà dei dati molto interessanti. Voi avete dedotto qualcosa sul fatto che sia una sola mano nel senso non più umani? Noi abbiamo dedotto, e in base alla ricostruzione e alla tipologia dei singoli diritti e poi in sede di elaborazione elettronica di immagini in base a comparazioni computerizzate. Allora, vogliamo vedere questo punto? Io passerei all'illustrazione velocissima dei singoli casi. Possiamo essere senz'altro sintetici perché l'abbiamo fatta abbondantemente, quindi possiamo senz'altro farla, ma insieme. Si possono proiettare, signor Presidente, questi nostri... Questi grafici? Sì. Sono... Uno, lo bianco Locci, vede una lesività esclusivamente d'arma da fuoco e in assoluto è il più spurio. Spurio perché è il primo della serie e spurio perché non è ancora inquadrabile con valenze tipo lustmord, tipo omicidio sessuale, a sfondo sessuale. Il caso 2 diventa immediatamente più significativo in rapporto alla assoluta singolarità delle 96 lesioni da taglio sul corpo della... Che noi abbiamo visto proprio sui corpi, quindi. Ecco, lesioni da taglio, alcune profonde e quindi espressive di una pacifica volontà necatoria, ma altre invece assolutamente superficiali, apparentemente fuori da ogni economia delittuosa se non quella di poter costituire un saggio, perché il coltello non si è approfondito oltre che qualche millimetro sulla superficie cutanea. In questo caso... Quindi non sono mortali? Non mortali o addirittura in limine vita o forse post mortali. Ecco, in questo caso di significativo è sembrato rilevarsi in una lettura a posteriori, cioè in epicrisi con i successivi, una delimitazione dell'area del pube e una delimitazione dell'area del seno precordiale attraverso delle punteggiature di lesioni da arma e taglio come se se ne delimitasse il perimetro. È chiaro che ciò è stata una lettura suggestiva e interpretativa, però di fatto sul pube sono sei lesioni o sette che ne delimitano l'arco superiore e in regione precordiale viene quasi ad essere circoscritta, solo le fotografie potranno... Le abbiamo viste, quindi la corte le conosce già, quindi va bene una sua sintesi. Ecco, altrettanto, sempre caso numero due, gentilcore, c'è una prevalenza di lesioni d'arma da fuoco finalizzata al torace, torace addome, finalizzata quindi al cosiddetto effetto letale, più ancora che non all'effetto d'arresto. Nel caso tre, Foggi di Nuccio, compare per la prima volta l'escissione del pube, un'escissione estremamente disordinata a livello di lesività, di morfologia della lesività, assolutamente incongrua per quanto possa concepirla ad esempio chi fa un'autopsia o chi effettui un prelievo o chi abbia pratica chirurgica, perché è un'escissione che si spinge in modo irregolare a estirpare anche l'ano, si spinge anche in zona anale e presenta dei margini estremamente irregolari come per ripetuti tentativi di immissione dello strumento da punta e taglio e di irregolarità nella escissione rispetto ai tessuti profondi. Quindi apparentemente, mi scusi, una conoscenza anatomica scarsa? Una conoscenza anatomica, ovvero più che una conoscenza, una pratica di manualità tutto sommato estemporanea, soprattutto in riferimento alla diversa durezza dei piani tessutali profondi, per cui può esprimere una certa sorpresa nell'avere ad esempio incontrato l'osso pubico e quindi nell'aver dovuto modulare il taglio in un modo diverso da come lo si poteva concepire inizialmente. È un discorso che poi invece non si ritroverà nei casi successivi dove si è... Questo è il primo in cui c'è un'escissione del pub e la caratteristica è questa, di una scarsa capacità di... Sì, un certo impaccio nella nettezza del taglio e nell'uso sicuro dello strumento. Anche qui poi ci sono lesività d'arma da fuoco nell'uomo assolutamente tipiche di colpo di grazia, colpi alla nuca. Si passa poi al caso quarto, se sono eccessivamente sintetico me lo dica... Va benissimo così penso. Si passa poi al caso quarto dove si rinnova il rituale di asportazione del pube nella donna e qui abbiamo un taglio per il pubico, per il vaginale più netto, più preciso. Da anticipare che tutti questi tagli, come quelli che vedremo nei casi 7-8 di escissione della mammella sinistra, hanno una incisura nella continuità del loro perimetro sulle ore 11, ore 11 rispetto a un ipotetico quadrante di orologio. Questa considerazione o questo dato di fatto vi ha portato a delle... Questo dato di fatto ci ha portato a ritenere che l'azione sia stata fatta almeno in due tempi come atto di taglio e che quindi abbia interrotto un primo perimetro con un'azione tagliente e poi ne abbia iniziata una successiva. È sempre uguale in tutti i casi? Cioè denota una certa uguaglianza a questo tipo di... È sempre fissa alle ore 11. È uno degli elementi che vi ha portato a parlare di identità? Introdurrei una variabile banale, cioè ognuno di noi, salvo patologie, vecchiaia che interviene, vi riservi, ha un certo tipo di psicomotricità per cui io taglio la bistecca, tranne che non voglio tagliare in modo diverso, più o meno nello stesso modo, nello stesso tipo di inclinazione. Abbiamo tenuto conto di questo, di questo dato elementare. Poi le indagini sulle quali di inclinare il professor Pierini le abbiamo validate prima, facendo fare dei tagli a studenti, a campioni vari, per valutare a distanza di tempo la loro, che ripeto, salvo l'intervento di fattori patologici, la nostra psicomotricità porta a un certo punto a fare un taglio in un determinato modo. Quindi riprendendo il caso numero 4, conferma per la seconda volta l'escissione della zona sessuale, in particolare della zona genitale, e conferma anche numerose lesioni da punte taglio sul maschio, sul baldi, sul baldi Stefano. Nel caso numero 5, manca assolutamente lesività da punte taglio, ma è quello in cui, come noto, c'è stato il fattore sorpresa, e quindi è atipico rispetto ai primi due, ma è incernierato tra i primi due e i successivi per i motivi che ha detto il professor De Fazio. Anche il caso numero 6, quello dei due tedeschi, presenta lesività da arma da fuoco e minima lesività da taglio, al limite, per quelli che sono i verbali che noi abbiamo esaminato, al limite da confermare la lesività da taglio. E così ne abbiamo avuto conferma dai periti settori. E anche qui però veniva meno il fattore circostanziale della mancanza tra le due vittime di soggetto di sesso femminile. Possiamo passare agli ultimi due che sono invece... Il settimo e l'ottavo sono i più significativi, oltre che per la conferma, e sarebbe la terza e la quarta volta, di asportazione del pube e della vagina, in questo caso come... Pube e vagina che questa volta sembrano asportati con grande proprietà di atto e di taglio, e con rispetto e previsione delle componenti tessutali profonde, della diversa durezza e consistenza di queste componenti tessutali. La linea di demarcazione superiore è anche molto netta a prelevare proprio esclusivamente l'organo sessuale. Questo depone, mi scusi, su una circostanza di un autore diverso o è solo una maggiore esperienza? No, lo si è interpretato come un fattore di migliore esperienza e di affinamento della tecnica, anche perché, ripeto, i perimetri delle superfici di taglio, come poi potrà illustrare il professor Pierini, hanno mostrato effettivamente una sorta di identico percorso. Ecco, quindi in riferimento alla psicomotricità, un percorso identico a quello degli altri due. Quindi migliorata la qualità ma nello stesso percorso. Ultimo particolare è che compare nel settimo caso, Rontini, l'asportazione del seno sinistro, un'asportazione di seno che noi si è suggestivamente preconizzata già nel caso numero due in quanto perimetralmente delimitata dalle ferite del caso Pettini attorno al seno. Quindi è una continuità e un'evoluzione, dite voi? Una continuità e un'evoluzione, forse avente radici fino da allora, non sviluppata nei casi intermedi, e nel caso numero otto, quello dei francesi, si riconfermano più o meno le tipologie lesive del caso numero sette, sto parlando sempre del soggetto di sesso femminile, e si è ipotizzato in virtù di una serie di segni seriati in corrispondenza del prelievo sul seno, il fatto che ci potesse essere una difficoltà di filo nel taglio della lama. E che quindi ci siano stati anche vari tentativi risoltisi poi in escoriazioni superficiali. Ecco, interessante. Escoriazioni superficiali. Ecco, interessante perché non eravamo riusciti finora con gli altri periti a fare delle ipotesi, questa è una, il filo della lama. Ecco, una sorta di lama che avesse nel frattempo perso il filo per le operazioni precedenti. Per quanto riguarda il maschio... O per usi diversi. Per usi diversi, noi non lo sappiamo ovviamente. Per quanto riguarda il maschio e concluderei... Questo non dice lei, pubblico ministero. Glielo chiedo, glielo chiedo. Ecco, non glielo dica per usi diversi, lo dicano loro, scusi. È una domanda. No, va bene, è un'ipotesi. Sono ipotesi, tutte ipotesi. Possiamo rilevare un'eventuale alterazione del filo della lama, che poi, a questo abbiamo concorso, usi diversi, è possibile. È ovvio, lo sappiamo. Eh, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Io direi però che su questo punto, se non ti dispiace, facciamo parlare al professor Pellini, perché... Concludiamo. Niente, a conclusione, quindi, dei casi 7-8, per quanto riguarda l'uomo, c'è un incremento della lesività da punta e taglio anche sul cadavere del Stefanacci e del Caravecchievi. Lesività da punta e taglio tutta molto profonda, tutta potenzialmente mortale, e quindi c'è una sorta di accanimento diretto, non più con colpi d'arma da fuoco, colpi di grazia, c'è una sorta di accanimento diretto sui soggetti di sesso maschile, che nel caso ottavo si spiegano in rapporto al documentato tentativo di fuga, che può avere esasperato quindi il reo. Nel caso settimo, comunque, di fatto ci sono varie ferite profonde in zona toraco-addominale e anche a linguine sinistro. Prego, prego, se lei ci può dire qualcosa in più sotto un aspetto diverso di indagine su questa conclusione relativa all'identità o meno dell'autore. Introduco brevemente anche il metodo di analisi di immagini. Ci fa capire meglio. Molto brevemente l'analisi di immagini consiste in questo, introdurre nella memoria di un calcolatore un'immagine fotografica. In questo modo il calcolatore attribuisce ad ogni punto che forma l'immagine una coordinata. La stessa cosa la fa il nostro cervello con le immagini che provengono dall'occhio. La differenza però è questa, che la nostra retina è molto più sensibile dell'immagine di un calcolatore. Al tempo stesso però il nostro cervello non è in grado di fare operazioni matematiche di area, perimetro, profondità, eccetera, se non in maniera abbastanza approssimativa. Invece il calcolatore può farlo in maniera estremamente precisa. Allora abbiamo integrato le due cose. E' stata integrata la misura soggettiva legata all'esame visivo delle immagini dati con la misura oggettiva delle stesse immagini passate con un programma apposito al calcolatore. Per quanto riguarda questo specifico settore, cioè il passaggio delle immagini al calcolatore, ho potuto determinare alcuni parametri base, cercando di sceglierli fra quelli più semplici, in quanto non tutte le fotografie erano state fatte nelle stesse condizioni e quindi occorreva cercare di non porre al calcolatore domande troppo difficili perché avremmo avuto errori troppo difficili da gestire. Sì, sono state prese tutte le fotografie presenti in atti, le fotografie sono state tutte parametrizzate, cioè rese uniformi per quanto possibile in base agli indici anatomici, in modo da avere la stessa scala di ingrandimento. Per la lettura omogenea. Poi sono state tutte filtrate in bianco e nero, anche quelle colori, con una scala di 256 punti di grigio, in modo che potessero essere lette anche le foto di più vecchia data. A questo punto tutti i conteggi sono stati fatti su una scala di 256 livelli, in bianco e nero, valida per tutti. Ovvio che su una scala del genere certe inclinazioni non sono precise come su una scala, per esempio, di più di 50.000 punti, però ovvio che su una scala del genere così sensibile il primo caso non poteva entrare. Allora, visto se è sufficiente questo tipo di impostazione, passerei ai risultati. Le domande poste al calcolatore quali erano? Calcolare. In quale posizione del corpo si situava la lesione? Soprattutto quella pubblica, perché quella mammillare, essendo limitata a due casi, non permetteva poi di avere informazioni significative. Quindi i casi erano quattro. Le quattro escissioni pubbliche sono state localizzate come posizione rispetto alla radice delle cosce e rispetto alla linea dell'ombelico. Ne è stato verificato l'andamento del perimetro per vedere la forma geometrica risultante. Poi è stata calcolata l'area e la profondità della lesione. In ultimo è stato calcolato rispetto al perimetro dove probabilmente iniziava il taglio. L'azione di taglio. I risultati sono questi. Per quanto riguarda il perimetro, a parte il secondo caso, i perimetri sono pressoché equivalenti. I numeri che vengono citati in perizia non sono centimetri o millimetri, cioè non sono unità di misura, ma sono unità del video, cioè pixel, contate. Però possono essere, in buona approssimazione, essere considerati misura quando i casi vengono asseriati fra di loro, cioè sono lo stesso un elemento di confronto. Il secondo caso era un po' particolare perché siccome c'erano elementi di sfondamento, anche il computer ha avuto alcune difficoltà a localizzare il perimetro, ma non la forma del perimetro, cioè l'immagine geometrica risultate. Quindi, mentre per quanto riguarda l'area e il perimetro, posso dire che si tratta di quattro elissoidi con quattro aree perfettamente paragonabili, tranne il caso due, Susanna Cambi, per motivi di sfondamento, quindi difficoltà di parametrizzazione, la cosa più interessante è che per quanto riguarda invece il livello di schiacciamento dell'elissoide, questo è perfettamente equivalente a tutti e quattro i casi. Il livello di schiacciamento cosa si intende? Il calcolatore assegna con 0 l'immagine del cerchio, 1 l'immagine della retta. Quindi, praticamente, questo numero, che in tutti i casi oscille tra 0,6 e 0,71, significa che si tratta di un'immagine tipo pallone del rugby, vista lungo l'asse maggiore. Per quanto riguarda l'elemento profondità di taglio, visto che le immagini sono ovviamente piane, ho, sentite anche i miei colleghi, pensato di fare così, cioè di calcolare il livello di luminosità del fondo della lesione, della ferita. Infatti, il muscolo, in tutte le fotografie, anche in bianco e nero, appare in scuro, e il tessuto di polso in giallo, quindi in chiaro. A questo punto, il livello fra chiaro e scuro poteva dare una misura del livello al quale l'azione veniva portata avanti, l'azione di taglio. Quindi il coltello quanto era inserito? Esatto, quindi l'angolo di parallasse dell'azione di taglio. Questo parametro è costante in tutti e quattro i casi, quindi la profondità di discesa del coltello durante l'escessione è uniforme. Per quanto riguarda l'ultimo elemento, cioè l'angolo di incisura, questo si colloca all'incirca a ore undici guardando un quadrante da orologio. Sostanzialmente la posizione è equivalente anche all'analisi elettronica, tranne nel caso due, fatte salve le difficoltà, ricordate prima, e anche l'area di questo piccolo bottone di inizio è praticamente dello stesso indice. Questo per quanto riguarda le lesioni. Per quanto riguarda invece un reperto molto interessante, cioè quello del seno sinistro del caso di Nadine Mariot e della lesione da punta sull'omero del soggetto di sesso maschile dello stesso caso, l'analisi ha dato qualche inferenza in più. Infatti, come diceva il collega Professor Beduschi, sul seno sinistro sono stati notati dei segni di attacco. Una alternativa potrebbe essere anche quella di un coltello con un doppio filo di lama. In questo caso? Un filo monotagliente liscio, uniforme, e un filo zigrinato. Quando nell'azione di taglio si passa i 180 gradi, c'è un'adduzione di ulna sul radio che esita in un blocco fisiologico del polso, che tende quindi a strisciare il filo opposto. Verso l'esterno. Verso l'esterno. Però a livello ipotetico. Una misura invece un po' più precisa si ricava dalla ferita da punta a stampo sul radio del ragazzo, perché è una ferita a sezione triangolare. Questa sezione triangolare ha angoli di 20 gradi circa e fanno pensare qui ad un coltello con una carena di rinforzo. Altre misure non è stato possibile inferirne. Si fa una domanda su questo punto? Scusi un secondo, se cortesemente se le può annotare, se no è un po' già complesso di suo. Volevo chiedere allora ancora questo, non so se forse il professor De Fazio, quella domanda che avevo già fatto relativa alla possibilità, come avete scritto nella vostra relazione, di dire qualcosa sul fatto che si possa escludere che si tratti di azione di più soggetti. è una conseguenza di questo che lo possiamo escludere per questo o ci sono altri? Ma no, ci sono anche altri. Abbiamo detto che la nostra affermazione, la nostra conclusione sulla quale ci giochiamo la nostra professionalità che si tratti di una sola mano è basata su un quesito se presumibilmente si tratta di una sola mano. Noi diciamo che più che presumibilmente, perché a un certo punto qui abbiamo degli elementi di ancoraggio che possono, io ritengo, per valutare la Corte, assumere proprio il valore di prove. Poi ci sono un sacco di altri elementi. Nella storia criminale del worst murder, dei serial killer, non abbiamo una persona che sceglie le coppie, sceglie la donna dove gli capita per strada in ascensore. E qui abbiamo una scelta fissa quindi abbiamo elementi che verranno illustrati tra poco nella dinamica psicologica che concorrono anch'essi. Ma abbiamo anche altri elementi. Ex ajuvantibus. Quali sono gli altri elementi? Ma nel delitto Mainardi, quando Mainardi cercava di scappare, se si fosse stato un complice, se si fosse stato cos'era, uno spettatore, uno che interveniva anche lui con un'arma. Abbiamo, cioè, gli elementi circostanziali che possono avere significato di prova. Ma poi ci sono un sacco di altri elementi che concorrono a far ritenere che si tratta di un solo soggetto. Allora, rimaniamo ancora un attimo alla dinamica materiale. Voi avete cercato di spiegare come apparentemente dalla ricostruzione della dinamica materiale sia possibile ricavare, dite voi, che si tratti di un soggetto non esperto di armi, ma più esperto dell'arma bianca. Vogliamo spiegare meglio perché, da cosa si deduce? Allora, l'ultima cosa che mi rimaneva e si aggancia alla sua domanda da dire, dopo aver risposto ai risultati, era appunto che i valori ottenuti dalle analisi di elettorale che le immagini fanno pensare ad una uniformità del modus operandi, che si riflette nei risultati. Che l'azione di taglio è orientata da sinistra a destra, quindi soggetto d'estrimane. E che, per quanto riguarda la posizione, c'è da dire che tutto questo tipo di attività fa pensare ad un soggetto che possa avere una certa dimestichezza con l'azione di attaglio, altrimenti avremmo avuto dei risultati ancorché confrontabili fra di loro, però con delle variazioni percentuali molto elevate. Ricordo che, soprattutto, il parametro luminosità è quello che mi ha colpito di più perché l'azione di taglio portata da una radice della coscia all'altra lungo tutta l'arcata pubblica seguendo il filo fra piano muscolare e piano del tessuto adiposo è operazione tutt'altro che agevole. Mentre qualche deduzione sulle capacità dell'uso dell'arma da sparo? Voi avete scritto, non so se ricorda, dove l'arma grossomodo mi sembra di poter sintetizzare che l'arma da sparo è l'arma che serve per fermare e dalla ricostruzione della dinamica materiale non richiede una particolare abilità dell'uso dell'arma. Permesso che sull'arma da taglio sull'arma bianca la risposta nasce dai rilievi che sono stati esposti quindi da rilievi obiettivi sull'arma da fuoco noi non possiamo altro che interpretare noi vediamo un costante un progressivo un certo progressivo miglioramento nell'uso nel buon uso nel minore spreco nell'uso dell'arma da fuoco evidentemente però bisogna tenere conto di volta in volta di fattori circostanziali cioè voi esportate i fattori circostanziali quindi riteniamo di poter affermare che l'uso dell'arma da fuoco non è espressione di un esperto tiratore ecco era questo che una domanda ancora che si fonda più che altro per cercare di capire come siete arrivati a delle valutazioni voi e quello quelle due occasioni in cui voi parlate della altezza probabile o possibile dell'esecutore e volevo capire innanzitutto come e sulla base di quali dati siete arrivati a quelle conclusioni per vedere se i dati che vi avevamo fornito erano sufficienti a dirvi qualcosa in proposito e quindi quali sono le vostre conclusioni ma su cosa si basano io salvo a dare poi la parola a tutti i miei colleghi che vogliono rispondere su questo punto ci tengo a dire una cosa forse le occorre il microfono noi abbiamo valutato una impronte su autovetture dessunte da fotografie e abbiamo presunto che queste impronte fossero di una mano sul tetto dell'autovettura o di un ginocchio si trattasse di impronta dell'aggressore il che è tutto da stabilire non ci sono voi non sapevate se ci sono prove ora e questo è un primo elemento che abbiamo valutato per esempio per l'impronta per la possibile impronta di un ginocchio che impronta significa detersione della polvere che si poggia sull'autovettura noi abbiamo utilizzato le tabelle antropometriche in uso di Rollei del Manubrievi di Savito ma si è ben chiaro che le tabelle antropometriche stabiliscono delle medie perché uno può avere le gambe gli alti inferiori tozze il tronco sviluppato o viceversa quindi abbiamo dato dei parametri per determinate impronte basate su tabelle antropometriche che danno dei valori medi peraltro aggiungo per dovere di obiettività scientifica che sono tabelle antropometriche fatte il secolo scorso e l'inizio di questo secolo con una popolazione che è anche variata rispetto ai dati staturali l'altra cosa che aggiungo per l'altezza la presumibile altezza dell'aggressore basata sul foro sui fori trovati sul camper dei ragazzi tedeschi è che data questa altezza mi dice sempre a 130 cm 135 adesso poi entriremo in merito siccome lo abbiamo detto foro a distanza ravvicinata le ipotesi sono tre foro a distanza ravvicinata può significare che uno spari col braccio adotto e allora se troviamo un foro a una certa altezza e uno ha sparato a distanza ravvicinata col braccio adotto questa è una valutazione distanza meno ravvicinata con l'arto esteso e da un'altra valutazione o terza ipotesi che uno possa sparare del tutto bravo alzato devo anche chiarire che per ciò che riguarda il camper noi abbiamo tenuto conto non solo dei fori sui finestrini rispettivamente che è sparato con l'arto adotto con l'arto esteso o con l'arto inalzato ed essendo avendo preso come prima ipotesi l'arto adotto perché a distanza molto ravvicinata uno spara con l'altro adotto ma abbiamo tenuto conto anche del fatto che questa traiettoria è iniziata con il foro e poi finita con il proiettile che ha colpito il soggetto soggetto che noi abbiamo secondo i verbali poesia considerato situato nel pianale cioè voi credevate che fossero sul pianale in basso c'è scritto nel verbali poesia che i cadaveri giacciano sul pianale allora se questo è il vetro del camper e questo è il pianale noi dobbiamo ipotizzare un'infinazione così dall'alto verso il basso e un'infinazione così ci porta ad un determinato soggetto rispetto a un'infinazione così cioè in poche parole in questa posizione arto adotto o in posizione arto esteso o del tutto inalzato io posso prevedere una traiettoria di tipo orizzontale che mi comporta un'altezza ma se devo prevedere una traiettoria che mi va verso il basso devo presupporre un altro tipo di altezza noi abbiamo fatto il calcolo in base a cadaveri poggiati sul pianale dell'automezzo invece non sono lei ha visto nelle fotografie le possiamo riguardare presidente non solo sul pianale ma sono all'altezza processuale della quale non conoscevate bene se qualcuno sul punto può dire qualche altra cosa perché è stato oggetto di analisi no il problema ribadendo un attimo quello che ha detto il professor De Fazio in apertura e adesso la valutazione e i numeri che sono stati dati riguardo alla possibile altezza del reo innanzitutto erano in un ambito ricognitivo e di indagine inteso a formulare ipotesi e i parametri assunti sono stati segnalando preventivamente le dovute cautele nell'assumere il dato quello di un'impronta al suolo che si è esplicitato anche potesse essere di chi che sia compreso degli inquirenti un'impronta al suolo relativa a un numero di scarpa piuttosto lì non c'è nessuna prova quella dell'impronta sulla portiera della panda prospettata perché era doveroso prospettarla in quanto era un reperto di sopraluogo che sarebbe stato colpevole dimenticare ed escludere e il problema invece della traiettoria dei colpi nel caso dei due tedeschi che è stato fatto su un erroneo presupposto che i tedeschi giacessero a un metro più basso almeno di un metro di 80 70 80 centimetri più in basso di dove in realtà le fotografie che ci sono state rammostrate hanno dimostrato essere per cui se questi giacevano sul fondo del furgone si imponeva un'azione di questo genere e ci si poteva ipotizzare un'altezza che noi abbiamo definito superiore al metro e 80 viceversa se questi come le fotografie del sopralluogo hanno dimostrato si collocavano su un piano su un piano pari ai vetri del era sufficiente anche diciamo un'esplosione e una statura è stato chiarissimo professor De Fazio vorrei passare un attimo ma molto in sintesi perché lei ci ha detto subito che per quanto riguarda la dinamica psicologica è stato un insieme di dati forniti più che altro ai fini delle indagini e ci ha spiegato chiaramente che non si tratta di prove io le chiedo questo è stato possibile valutare qualcosa innanzitutto sulla base dei dati che avete avuto voi sulla possibilità che il soggetto autore che voi ricostruivate come tipologia nel modo che ci ha detto avesse o meno delle patologie mentali avete potuto dire qualcosa in proposita ovviamente nei limiti della vostra che l'autore da noi sul posto unico sulla base di quanto ho già detto rientri per dati di personalità in campo psicopatologico quindi abbia le condizioni psicopatologiche che si riflettono su tante cose sessualità compresa questo è fuori discussione ma che quest'autore organizzato capace di gestirsi fra un delitto o un altro post autore organizzato capace di gestirsi fra un delitto o un altro possa essere un malato di mente lo abbiamo sempre escluso anche dopo quando una volta depositata la penizia sono venute fuori ipotesi da parte di esperti psichiatri che hanno dichiarato che si trattava di un malato con questo o queste altre caratteristiche l'abbiamo sempre tranquillamente escluso perché la ideazione programmazione gestione dei diritti ma gestione soprattutto del suo modo di essere fra un diritto e l'altro esclude che possa essere un malato di mente io passerei a un'ultima domanda almeno per quel che mi riguarda al momento in questa ottica ricostruttiva ipotetica secondo voi la condotta tenuta che voi conoscete dai delitti è compatibile con una personalità che ha una particolare attrazione per una sessualità protratta svolta sulle figlie cioè intendo un soggetto che sia portato a una sessualità rivolta all'incesto oppure a prostitute è compatibile con il nostro soggetto voi avete concluso per una iposessualità potrebbe essere è la vostra conclusione è compatibile questa vostra conclusione con un soggetto che abbia una sessualità apparentemente deviata rivolta nel modo che le ho detto se il signor pubblico ministero me lo consente invece di dare risposte risposta subito alla sua domanda io penso perché abbiamo detto che la valutazione della dinamica psicologica è per forza di cose meno probabile però ci abbiamo lavorato tanto allora a un certo punto io penso che la risposta su questo problema della sessualità non può essere non può astrarre da una valutazione della dinamica psicologica dei reati certamente era solo per capire qual era la mia domanda oppure ne parla il professor Ruberto della dinamica psicologica dei singoli delitti e poi il professor Gagliani fa una sintesi generale del problema nel cui contesto verrà trattato questo argomento direttamente trattiamo la sessualità come se fosse una variabile indipendente era solo per capire qual era la domanda a lei a loro il modo di spiegare di tenere conto di questa domanda parcellalmente le rispondere salvo poi a rispondere se la domanda è la dinamica psicologica l'analisi dei sette case in rapporto alla dinamica psicologica cioè alla ricerca dei punti di identità e dei punti di differenza conferma pienamente i dati che sono emersi dall'analisi della dinamica materiale il primo elemento che è emerso esaminando tutti i delitti insieme prescindendo un momento dal primo che si discosta è che questi episodi delituosi nascano piuttosto che da una conflittualità interpersonale che in genere genera da una conflittualità intrapsichica cioè infatti la mancata scelta delle vittime eccetera cioè piuttosto che da un rapporto conflittuale tra A e B per cui A uccide B questo nasce da una specie di almeno la prima considerazione che abbiamo fatto da una specie di impulso A è confermato questo dato gradatamente man mano che si è mandato avanti nell'analisi dalla modus operandi nei vari casi che si ripropone con una costanza che ha del rituale cioè è sempre c'è l'uso dell'arma da fuoco in un certo modo di cui parlerò fra un attimo poi l'uso dell'arma da taglio poi la ricerca del feticio ed è costante negli unici due casi in cui questo modus operandi si discosta dagli altri intervengono degli elementi circostanziali diversi lo spostamento dell'auto in una strada trafficata quindi in una situazione di altissimo rischio e che evidentemente lascia veramente perplesse del mancato intervento dell'eventuale complice perché ripeto la strada ce li sono tagliati che la si è dovuta chiudere perché era una strada molto trafficata era su una piazzola e la macchina va da un punto all'altro e la seconda volta quando sono due uomini due maschi i tedeschi in tutti gli altri casi il modus operandi è sempre uguale noi per quanto concerne l'uso dell'arma da fuoco e dell'arma bianca abbiamo fatto anche l'esperienza e valutato anche i colpi sparati a segno cioè la dispersione dei colpi che sono sparati a distanza ravvicinata e soprattutto nei primi casi c'è una notevole dispersione di colpi cioè tra i colpi sparati e i colpi andati a segno e tutte le volte l'uso dell'arma da fuoco tra l'altro nei primi casi è preso di mira prevalentemente il torace solo dopo il secondo caso che costringe all'uso dell'arma bianca per ottenere l'effetto letale con ben 96 coltellate di cui sono le prime pur essendoci un miglioramento c'è sempre questa dispersione che dal punto di vista della dinamica psicologica fa pensare ad un stato di relativa eccitazione mentre l'individuo usa l'arma da fuoco che invece contrasta nettamente con la relativa almeno da quello che è la relativa freddezza la relativa precisione l'analisi d'immagine l'ha documentato poi ampiamente che invece si ottiene quando successivamente viene usata l'arma bianca e questa successione cioè questa maggiore io penso situazione di eccitamento nella prima parte quando usa l'arma da fuoco e questa strana calma freddezza quando usa l'arma da taglio quando la usa per i rituali sadici non quando la usa per finire la vittima o per ucciderlo per finire la vittima perché vorrei ricordare che nelle 96 coltellate la prima quelle che hanno riguardato la parte superiore del torace erano di una violenza tale che sono penetrate nello sterno quindi lasciano supporre un certo un certo un certo stato d'animo una certa modalità mentre quando usa l'arma bianca per i rituali sadici c'è una precisione una cosa che richiama una una certa freddezza ora e questa situazione si ripropone in tutti i casi se non è assolutamente contraddetta dai due casi anomali in cui ripeto la successione globale è identica ma l'assenza di alcuni elementi è legata ad elementi circostanziali imprevisti e imprevedibili allora tutto questo sul piano della dinamica psicologica ci ha confermato uno che le motivazioni più che i moventi cioè ci siamo mosse più sul piano motivo azionale che sul piano del movente dell'agire nasca da una conflittualità intrapsichica piuttosto che da una conflittualità relazionale no? il secondo punto la ritualità cioè è la assoluta costanza del modo soberante ci ha fatto ritenere anche sotto il profilo della dinamica psicologica altamente improbabile che almeno sei almeno eccetto il primo ripeto che ha una sua presenta dei problemi ad essere interpretato in questi temi almeno dal punto di vista psicologico siano opera tutti dello stesso soggetto all'interno di una pulsione che richiama le caratteristiche tipiche del delitto sessuale di un certo tipo di cui abbiamo parlato io se vuoi rispettare tu la progressione criminogenetica o la dinamica psicologica o perché la dinamica si ecco è già stato puntualizzato che quando noi abbiamo fatto questa indagine avevamo a disposizione in pratica del materiale che riguardava le scene dei delitti e le modalità con cui erano stati effettuati quindi avevamo a disposizione soltanto questo materiale di ripetazione e da questo dovevamo partire per fare delle ipotesi su delle caratteristiche di personalità dell'autore del reato per questo dal momento che eravamo consapevoli del fatto che entrando nell'ambito psicologico motivazionale sia nell'ambito delle ipotesi abbiamo scelto anche concordato con gli inquirenti appunto di effettuare ipotesi su singole caratteristiche che potessero indirizzare le indagini in determinate direzioni e strappolando invece quelle che potevano essere le caratteristiche comuni alla maggior parte dei delitti che potevano essere considerate invece come caratteristiche stabili di identità dell'autore e quindi come ipotesi più accreditate per quanto riguarda la sessualità dell'autore del reato di questi reati noi avevamo a disposizione soltanto questi delitti è evidente che una sessualità non può essere indagata nella sua compiutezza partendo soltanto da queste fatti specifiche non conoscendo il soggetto prego non conoscendo poi il soggetto si era nel 84 85 e quindi le ipotesi che sono state formulate sono state evidentemente desunte soltanto da quegli elementi che avevamo a disposizione che erano la specificità e la ritualità soprattutto di questi delitti e soprattutto degli ultimi delitti questi confrontando ovviamente questa tipologia delituosa con la letteratura scientifica quelle italiane molto avara non c'erano casi di questo genere descritti in precedenza se non alcuni che corrispondevano all'ambito della patologia di mente oppure della oligofrenia e che venivano descritti per epoche abbastanza remote fino a 800 inizio del 900 sostanzialmente la letteratura invece di lingua germanica parlo di letteratura scientifica è molto ricca di casistica e abbiamo attinto soprattutto a quella per comparare questi delitti a quelli e soprattutto a una casistica di autori noti e in effetti la letteratura scientifica germanica ce ne presentava tantissimi partendo da questa classificazione germanica abbiamo detto abbiamo desunto che gli ultimi delitti per la modalità con cui erano effettuati per l'assenza di una sessualità agita nella scena del delitto per l'assenza di interesse anche per una sessualità agita per la freddezza e il distacco con cui venivano trattati i corpi delle vittime o le vittime in vita doveva corrispondere a quella tipologia d'autore che i medici legali criminologi di lingua germanica classificano come delitto autori che commettono il delitto come equivalente sadico dell'atto sessuale cioè degli autori di reato per cui il delitto in sé rappresenta fonte di gratificazione sessuale al di là di ogni sessualità agita direttamente nell'ambito della scena del delitto e dell'azione delittuosa di casi come questo la letteratura germanica ne riporta tanti soprattutto omicidi che avvengono su singole non tutti su singole persone a dire la verità mai su coppie però se non casi sporadici occasionali di omicidio su coppie da parte di un autore di reato che invece prevalentemente uccideva singole persone e la scelta dell'oggetto di interesse è orientata spesso negli autori di reati sessuali sadici di omicidi sadici dal tipo prevalente di perversione quindi c'è l'omicidio pedofilo c'è l'omicidio sessuale pedofilo e omosessuale c'è l'omicidio omosessuale nell'omicidio anche nell'omicidio come equivalente sadico dell'autosessuale si può avere una predilezione specifica però si può avere anche soltanto ma questo con diciamo con il progressivo con il progredire delle fantasie sadiche della spinta colpulsiva ad agire si può avere anche invece un interesse prevalente per il tipo di azione che si commette indipendentemente dal tipo di vittima quindi partendo da queste premesse si può dire che tutte le ipotesi potevano essere formulate a tutto tonto noi dovevamo limitarci per dare delle indicazioni alle indagini a quelle ipotesi che potevano essere accreditate dalle scelte del modo della modalità operativa dell'autore del reato e da quelle più specifiche in modo particolare e quindi abbiamo appuntato l'attenzione sul fatto che si trattasse di coppie e sul fatto appunto che non c'era una sessualità agita abbiamo visto anche che per motivi diversi legati non soltanto al fatto che si trattasse di una stessa arma da fuoco come ci dicevano le perizie balistiche ma anche al fatto che le scelte dei luoghi attuata l'azione in tutti i casi ci interizzava verso uno stesso autore abbiamo cercato di fare ipotesi che legassero tutti gli omicidi anche se a parte il quinto e il sesto in cui erano accaduti forse dei fatti che avevano tolto la possibilità all'omicidio di proseguire la sua azione il primo e il secondo avevano caratteristiche diverse il primo per i motivi che sono stati detti non ha delle connotazioni sadico-sessuali specifiche se non questo tenue fatto che si trattasse di una coppia in atteggiamento amoroso e il secondo delitto in particolare aveva delle caratteristiche molto diverse dagli altri cioè mentre negli ultimi nei quattro casi che abbiamo detto si tratta di un lustmorde che è indirizzato da fantasie sadiche specifiche mirate all'uccisione all'interruzione probabilmente del rapporto sessuale della coppia all'uccisione di entrambi i partners e all'escissione di parti del corpo del partner femminile nel secondo caso evidentemente questa fantasia così perfezionata non c'era ancora nel secondo caso c'era soltanto una fantasia sadica legata all'uccisione legata probabilmente all'interruzione del rapporto sessuale e legata forse a fantasie di tipo sadico o predatorio nei confronti della donna come di nostra tutta la dinamica così come è stata esplicitata quindi abbiamo ipotizzato che ci sia stata un'evoluzione anche nelle fantasie sottese all'esecuzione poi dei delitti un'evoluzione che va dalla semplice fantasia di interrompere di uccidere interrompendo così l'atto sessuale fino alla fantasia di escindere parti del corpo della donna perché do tanta rilevanza alle fantasie perché in tutti i casi noti in letteratura questi comportamenti questi omicidi a scopo sessuale specialmente se del tipo che abbiamo detto sono legati a delle fantasie che vengono coltivate ed elaborate molto a lungo prima che si arrivi alla messa in atto cioè all'attuazione di quelle fantasie secondo una determinata modalità non solo ma le fantasie si perfezionano e anche il modus operandi si perfeziona e si affina allo stesso modo per venire in modo più specifico alla domanda arrivare alla domanda che è stata posta dal pubblico ministero posso citare ad esempio di questa casistica che è portata dagli autori germanici due casi che apparentemente sono molto diversi che paradigmatici da questo punto di vista sono il caso Kurten e il caso Manfred che viene ripartato come caso Manfred nel caso Manfred abbiamo un soggetto che era un soggetto inibito un soggetto timido un soggetto riservato un soggetto che non aveva mai avuto un rapporto sessuale un soggetto in giovane età un soggetto che conduceva una vita apparentemente del tutto nella norma nessuno sapeva che coltivava da tempo fantasie sadiche che erano nate dal punto di vista psicogenetico diciamo dal punto di vista ontologico difficile dirlo perché non l'ha mai saputo dire o non l'ha mai confessato da un punto di vista diciamo dei rapporti con la realtà erano nate attraverso l'osservazione delle uccisioni di animali come spesso avviene che ha innescato in lui la consapevolezza che ciò dava uno stato da prima di tensione di eccitazione e poi di piacere come il piacere sessuale da queste elaborando queste fantasie è arrivato ad elaborare fantasie di uccisione di sedizie di donne di ragazze e quindi è arrivato alla uccisione di ragazze dopo averle sediziate in questo soggetto non c'era altra fantasia altra sessualità agita se non questa che avveniva e avvenuta nel corso di tre omicidi e un tentato omicidio nell'arco di alcuni anni a lato opposto abbiamo il caso Corten un caso in cui c'era apparentemente una sessualità agita in modo aperto in modo che si trovavano tracce nella scena del delitto e nella vita corrente una sessualità agita in modo che poteva anche far pensare a un'ipersessualità in realtà l'espressione della sessualità e il raggiungimento della soddisfazione sessuale passava solo ed esclusivamente attraverso degli atti di tipo sadico e raggiungevano il loro culmine soltanto con l'omicidio in questo caso nel caso di Courten avevamo avuto nell'arco di una intera vita una sessualità agita cioè quella che si viene a conoscenza per i dati fenomenici che lui stesso ha confessato e che erano dati poi noti anche prima che lui confessasse a chi lo conosceva che iniziava fin dall'adolescenza con una sessualità perversa di tipo polimorfo con una situazione incestuosa nei confronti delle sorelle e con anche zoerastia cioè anche rapporti sessuali con animali nell'ambito della sessualità adolescenziale a poco alla volta però la sua sessualità si è perfezionata soltanto nella direzione che gli imponevano le sue fantasie sadiche nel senso che non nel senso che aveva una sessualità agita solo ed esclusivamente negli ambiti degli omicidi nel senso che tutta la sessualità agita includeva solo ed esclusivamente delle azioni sadiche rivolte a persone quindi in questo caso ripercorrendo dal punto di vista nostro cioè dell'esame che abbiamo fatto allora dell'84-85 ripercorrendo le scene dei vari delitti abbiamo ipotizzato che la sessualità che ci veniva esibita attraverso quella documentazione era una sessualità che era arrivata progressivamente ad affinarsi in senso sadico sessuale nel senso di fantasie indirizzate a colpire soprattutto coppie con quelle modalità che ci indicavano gli ultimi omicidi per quanto riguarda invece l'omicidio del 74 c'erano delle differenze molto significative se io avessi dovuto dire se avessi rispondere a una domanda a chi somiglia di più l'autore di quei reati dall'81 all'85 direi a Kurten a Kurten se dovessi dire a chi somiglia di più l'autore del reato del 74 direi a Manfred e quindi c'è stata una evoluzione che può spiegare anche lo stacco che c'è stato tra il 74 e l'81 nell'ambito dei delitti Manfred si pentiva dei delitti che commetteva Kurten no Manfred aveva un atteggiamento molto conflittuale nei confronti di questa sua sessualità e dei suoi omicidi soprattutto Kurten no per questo abbiamo ipotizzato che il delitto del 74 sia stato un delitto che è avvenuto in modo molto meno premeditato che non i delitti tra l'81 e l'85 che ormai erano utilizzate da fantasie molto elaborate sul piano della possibilità di attuazione e per questo abbiamo pensato che la emotività che è stata che è visibile nell'azione la scompostezza dell'azione corrispondesse anche a una non precisa finalità delle fantasie fino allora elaborate non fino all'atto dell'escissione e quindi non elaborate fino al lustmort vero come equivalente sadico dell'atto sessuale anche se di lustmort pur sempre si tratta in quanto la motivazione sessuale è infisibile anche nel secondo delitto per questo io dico la sessualità agita noi potremmo ipotizzare nell'84 e l'85 che una sessualità agita potesse essere sì di tipo polimorfo ma noi potevamo soltanto immaginare fare ipotesi sulla sessualità che poteva sottostare a quelle evidenze che noi vedevamo nella repertazione delle scene del delitto nella documentazione delle scene del delitto professore ecco forse lei professor De Fazio rispetto alla mia domanda ci può essere ancora più sintetico la mia domanda era quella se una sessualità protratta svolta sulle figlie poteva incestuosa o un altro tipo di sessualità anomala poteva essere compatibile con l'autore di questi delitti io cercherò di essere quanto mai sintetico e sottoscrivendo tutto quello che ha detto il mio collega voglio decodificare una cosa quando si finisce a curten si è riferito ad una sessualità che appariva ictuocoli una sessualità una iper sessualità ma che in realtà si esprimeva solo sotto forma di una sessualità sadica dimentichiamoci questo esempio curten consacrato nella letteratura criminologica tedesca per dire che nel nostro caso noi abbiamo una nel caso che noi abbiamo esaminato un inquadramento nell'ambito delle perversioni sessuali e non della patologia mentale perversioni sessuali che però in base alla ricostruzione fatta e qui esposta da Gagliani dal 1981 in poi si è definita come di tipo altamente sadico però che riconosce che rende presumibile e probabile prima dell'81 che l'autore dei diritti avesse anche comportamenti perversi polimorfi vuoi spiegare in due parole il concetto di comportamenti perversi con i modi sì nel senso che si è abituati generalmente e anche la letteratura specifica di che stampo psicodinamico psicologico psichiatrico ci indirizza in questa direzione a pensare alla perversione come monoperversione l'esebizionista è colui che commette solo ed esclusivamente atti di esibizionismo il feticista è colui che soddisfa la gratificazione alla gratificazione sessuale solo ed esclusivamente attraverso il comportamento di appropriazione feticistica di quello che è il suo feticcio invece in realtà non è così in realtà esiste esistono casi in cui vari tipi di parafilia ossia di perversione si assombrano nello stesso caso nello stesso soggetto e esistono e poi si sa la casistica dei singoli casi ci dice che in moltissimi casi chi arriva ad una perversione specifica ci arriva sperimentando varie forme di perversione attraverso cioè un polimorfismo della perversione mi ricollego quanto ha detto adesso il collega sulla verosimiglianza affermata già in perizia dall'ora di comportamenti polimorfi sessuali polimorfi che hanno preceduto un'evoluzione in senso sadico e che poi trovano nei diritti perché c'è una componente boieristica c'è una componente sadica tutte le componenti che abbiamo indicato per arrivare ad una prima premessa di risposta al pubblico ministero quando noi parliamo di perversione sessuale noi vogliamo a un certo punto facciamo delle valutazioni sul piano qualitativo della sessualità quando parliamo di iposessualità o ipersessualità siamo portati a fare delle valutazioni intendiamo fare di tipo quantitativo invece non è così esatto ebbene pervenendo alla sua domanda che riguarda in astratto non in concreto l'attuale di voi non lo conosciamo se il comportamento se avere rapporti con le figlie e espressioni di ipersessualità io rispondo senza proprio nessun travaglio intellettuale che assolutamente no è la riprova del contrario in via generale cioè non si può discutere la sessualità di una persona se non attraverso uno studio clinico di una persona ma se la domanda scolastica che lei fa come se fosse uno studente che dà un esame in tema di sessuologia se avere rapporti con le figlie e espressioni di ipersessualità la mia risposta scolasticamente pertinente che no perché a un certo punto se si va a vedere tutta la problematica dei diritti incestuosi io ne ho visti tanti operando a Modena in una zona abbastanza vicina al Trentino Alto Adige quando non c'erano gli istituti di minicina di gara per ora hanno fatto tante di piene perizie in tema di incesto che riguardavano personaggi vari senili alcolisti e di seguito perché si fa l'incesto si fa l'incesto per problematiche che lascio perdere sul piano psicodinamico che riguardano ma poi su un piano più terra terra è perché si ha e si vuole avere un possesso totale della figlia ma perché si fa l'incesto con la stessa dinamica con cui il vecchio va con la minore o va con la prostituta perché? perché non vuole essere giudicato sessualmente cioè non vuole essere non vuole essere giudicato sessualmente né vuole che poi la minore vada con altri per avere dei termini per l'agoni cioè senza nulla incidere questa mia risposta nel caso concreto perché sarebbe assurdo nel senso che nessuno di noi conosce questo soggetto nessuno di noi ha fatto un esame clinico però la domanda se l'avere rapporti con le figlie è prova di iper sessualità quindi di un surplus di sessualità la risposta è no di Massimo è il contrario quindi il soggetto che avete studiato voi come tipo di autore è perfettamente quel soggetto ipotetico compatibile con una persona che abbia questo tipo di attività sessuale incestuosa compatibile o meno a cui lei non sa rispondere no no è una domanda diversa che pone una comparazione potrei forse rispondere in un senso che il perverso il parafilico non è necessariamente incestuoso mi spiego non c'è una correlazione di dieta ma potrei dire che una cosa non esclude in via assoluta l'altra siccome è una domanda a Vergine non so se l'ha pensato allo stesso modo se potete aggiungere qualcosa al momento non ho domande grazie io non ho consulente di parte quindi bene signori in maniera raccomando possibilmente succinta anche per cui è una materia molto astratta come avete visto avvocato pellegrini vorrei domandare allorsignori rifacendomi alla considerazione testè svolta circa l'ansietà che si denota che si avverte nel vibrare le coltellate che in limine litis o post mortem rispetto alla freddezza che invece si avverte nell'operare le scissioni anatomiche del pube e del seno se questo potrebbe portare a apprezzare la possibilità che gli autori dell'un fatto e dell'altro siano persona diversa oppure se loro ritengono che l'autore degli atti delittuosi degli atti di morte sparare e uccidere o comunque completare l'evento morte attraverso le coltellate rispetto all'operazione escissoria hanno un filo conduttore unico anche fra loro sono legati da una mano unica se sono stato chiaro se no ripeto pure la domanda no no è stato chiaro grazie ma io con altrettanza spero chiarezza le rispondo che le distinzioni che sono state esposte dal professor ruberto circa la dinamica dell'azione nanosperare e la dinamica dell'azione del scindere non sono assolutamente tale da poter autorizzare l'ipotesi di due persone diverse la sua domanda è pertinente giusta ma la risposta è no perché si tratta di una deduzione che riguarda primo le possibilità e le modalità e le capacità dell'uso dell'arma da fuoco e alternativamente dell'arma da taglio come è stato detto da parte della stessa persona che può avere una diversa consuetudine di rapporti con l'una o con l'altra l'altra secondo perché si ricollega questo alla dinamica psicologica sparare in questo caso significava innescare un'azione che era preliminare rispetto al fine dell'azione tutta il fine dell'azione tutta era un fine di equivalente salico di un altro sessuale ha detto prima Gagliani quindi uccidere significava i preliminari del fine di quell'azione e quindi i preliminari del fine di quell'azione erano preliminari che necessariamente passavano attraverso un minimo di vaglio critico la paura quello lì scappa mi viene qualcuno e vi riservito mentre l'azione della scissione riguardava la realizzazione dell'idea fantasticata la realizzazione cioè dell'equivalente salico e l'altro sessuale allora la sua domanda ha una sua logica ma spero che la mia risposta abbia altrettanto logica non è tale questa differenziazione di due opzioni da consentire di far presumere due mani diverse ma sono due tempi diversi motivate in modo diverso della stessa mano la ringrazio la ringrazio mi dico la cosa Antoni una domanda prima per quanto riguarda la ricostruzione del delitto dei francesi furono usati due coltelli secondo voi o no dalla vostra perizia risulta questo o meno la nostra perizia risulta testualmente perché questo è un punto vediamo le pagine guardate pagina che pagina pagina 27 per noi è un punto molto importante l'avvocato Santone è stato anche il nostro allievo che ci incastra pure vediamo un pochino prima il seno con le citate difficoltà di affidatura del mezzo tagliente quindi il pub dove tali difficoltà di taglia hanno una pagina documentabile il che rende possibile l'ipotesi che disponesse di un secondo coltello esatto lo confermate questo eh sì ma confira cioè noi che abbiamo trovato e noi chiediamo la prova del secondo coltello diciamo che questo tipo di gestione che abbiamo trovato a contare un diritto non rende possibile una situazione di un'opera può spiegare meglio aggiungo solo un fatto che a pagina 27 della perizia c'è scritto prima il seno con le difficoltà citate di affilatura del mezzo tagliente quindi il pub dove tali difficoltà di taglio non appaiono documentabili perché l'analisi elettronica fa vedere un margine più netto e non ci sono quelle striature che appaiono sopra il seno sinistro perché aveva usato lo scansore elettronico in questo caso sì sì sempre benissimo il che rende possibile l'ipotesi che disponesse di un secondo coltello aperta parentesi o di uno strumento a filalame chiusa parentesi cioè non è stata mai fatta perché non è possibile farlo una discussione sul fatto che possedesse uno o più coltelli esatto perché negli altri delitti sul materiale documentario che avevamo a disposizione è stato fatto un esame accurato delle ferite come caratteri del continuo e quindi si diceva pagina 111 della prima perizia lo strumento tagliente impiegato è probabilmente ad un solo filo di taglio d'accordo? certo perché? perché le ferite che abbiamo esaminato erano di quel genere nel secondo caso la pagina 27 della seconda perizia quello che soprattutto porta attenzione ad una maggior caratterizzazione dello strumento tagliente è la ferita da punta a stampo sul radio del maschio d'accordo? certamente bene altra domanda? sì sì presidente avete parlato della differenza macroscopica tra il delitto del 1968 non vi è rituale dopo sei anni di un altro delitto completamente diverso il 1974 delitto d'impeto quasi e fra l'altro ecco la prima domanda dice probabilmente conosceva la vittima ecco io vorrei sapere perché voi arrivate a questa affermazione nel 74 poi passiamo alla domanda conclusiva questa è una domanda interlocutoria parziale sì è importante perché sarebbe un'ipotesi di lavoro certamente interessante abbiamo già detto che nell'omicidio delle 74 si differenzia dagli altri dal punto di vista dell'esecuzione materiale e anche dal punto di vista della motivazione sottesa almeno quella che si poteva leggere all'epoca esaminando i dati della scena del delitto è un delitto che viene compiuto con molta più immediatezza molta più emotività degli ultimi delitti e quindi è un delitto che non è mirato da intenzionalità sadiche prefigurate e premeditate come invece gli altri è l'espressione scomposta di un bisogno di inferire sadicamente sulla vittima e rappresenta anche ci sono degli elementi che rappresentano anche da un lato il tentativo di esprimere una sessualità sulla scena del delitto come per esempio il tentativo di ramo di tralcio di vite che è stato trovato in fisso in vagina è un atto evidentemente di carattere sadico che esprime in qualche modo una fantasia di tipo predatorio che non troviamo più negli altri delitti da un lato può prefigurare tuttavia già una fantasia legata al pube o ai piedi del pube come feticio corporeo ed esistono casi inutile che mi dilunga di feticismo di parti del corpo che sono ben descritti dalla letteratura sia criminologica che non e questo è un caso e e quindi si può legare in questo modo agli altri il primo delitto quello delle 68 abbiamo detto che per quanto riguardava la nostra osservazione per noi non aveva nessuna caratteristiche in comune con gli altri delitti perché non lo potevamo trattare come un delitto a motivazione sessuale quindi tolto il fatto che si trattava di una coppia in atteggiamento amoroso e che come ci dicevano l'arma era la stessa non potevamo trovare nessun elemento di ricongiungimento con gli altri però volendo ipotizzare partendo dal particolare dell'arma da fuoco arma da fuoco e poi abbiamo saputo successivamente anche proiettili probabilmente utilizzati sempre della stessa partita loro non lo sapevamo allora abbiamo ipotizzato che dal momento che anche negli ultimi delitti si evidenziava che l'arma da fuoco era un oggetto molto importante e l'utilizzazione dell'arma da fuoco era un oggetto dal punto di vista del sentaticismo sadico era molto importante l'omicida fosse venuto in qualche modo in possesso di questa arma e l'avesse integrata nelle sue fantasie sadiche cioè integrata nel rituale sadico e utilizzata poi successivamente come parte integrante della sua gratificazione sadica per quanto riguarda la seconda domanda noi ci siamo rifatti nel tentativo di fornire degli elementi di indagine anche se generici abbiamo tinto sia alla letteratura germanica che a quella statunitense quella statunitense è costituita soprattutto come è ampiamente illustrato in perizia dal metodo tipo di stampo criminalistico comparativo utilizzato dall'FBI che asseriando vari casi di Lusport con autori noti è arrivato a determinare per via puramente statistica delle caratteristiche che si possono statisticamente mettere in relazione comparando alcuni aspetti della scena del delitto e altri aspetti della ragazza caratteristiche degli autori infatti allora in questi casi l'FBI dà delle indicazioni che sono però molto generiche tipo vabbè con caratteristiche di questo tipo l'autore è di colore oppure bianco più spesso bianco più spesso di colore ecco una di queste indicazioni che dà è che bianco più spesso di colore ecco una di queste indicazioni che dà è che se c'è un rapporto personalizzato con la vittima se si può esumere un rapporto personalizzato con la vittima allora si tratta di un autore di reato che molto spesso abita vicino al luogo della vittima nel senso che allora quel reato vuol dire che non è stato tanto premeditato da suggerire la cautela di farlo eseguire lontano dal luogo di residenza e di abitazione su vittima sconosciuta noi come siamo arrivati a questa ipotesi che è solo un'ipotesi da alcune lesioni che sono state inferte nel viso è l'unico caso in cui sono inferte delle lesioni viso oltre al fatto che è l'unico caso in cui c'è una emotività così prorompente nel omicidio della parte del sesso femminile della coppia e al fatto che è l'unico caso in cui è documentata la ricerca di effetti personali all'interno dell'auto nella borsetta eccetera anche l'asportazione di effetti personali quindi abbiamo pensato potrebbe essere un rapporto personalizzato con la vittima può essere un rapporto personalizzato con la vittima che si è determinato in quel momento per una particolare emotività scatenata dalla reazione della vittima per il fatto che la vittima non era morta ma può essere anche un rapporto personalizzato da una conoscenza precedente conoscenza che potrebbe essere anche unilaterale cioè l'omicida che conosceva la vittima e non viceversa però sulla base di questa ipotesi è possibile che conoscesse la vittima abbiamo detto in questo caso non è detto che abbia utilizzato la cautela di andare lontano dal suo luogo di residenza e quindi è possibile che abitasse in quell'epoca vicino al luogo del delitto ecco 68 quindi ha detto 6 anni 74 due omicidi completamente diversi altri 6 anni 1981 omicidi ancora diversi quindi noi abbiamo altri 6 omicidi e poi l'autore o gli autori interrompono la propria opera si può parlare abbiamo delle statistiche o casi di serial killer che si interrompono in questo modo cioè è un fatto anomalo si può definire questa persona un serial killer o no visto la cadenza di questi omicidi così diversa e così anomala perché sicuramente io ve lo chiedo a voi ma mi sembra di ricordare che non vi sono cadenze tali in nessun serial killer se si parla da da miocchi o o edilitti recentemente avvenuti in Russia noi vediamo una sequenzialità ben precisa una cadenza precisa in questo caso questa cadenza mi sembra aver capito che avete detto ma vi può essere un'evoluzione psicotica partendo proprio dal 68 allora vi domando è vero questo queste cadenze questi intervalli così anomali e che lo rendono così unico possono far pensare a un serial killer o no e soprattutto nel 1968 pagina 17 della vostra perizia voi dite che questo sviluppo io a volte dico psicotico sbaglierò sarà un pessimo allievo voi dite che è uno vi può essere un altro un modo di evoluzione avviene comunque partendo da due direttrici o aver assistito al fatto del 68 o aver avuto l'arma del 68 che lo ricollega al fatto escludete quindi terzium non tatur però vorrei sapere queste due cose se confermate visto che non c'è stata una conferma della iposessualità affermata nella perizia circa l'autore di questi fatti abbiamo già sottolineato gli aspetti relativi alle dinamiche omicidiarie che fanno propendere il giudizio sull'omicidio più nel senso di una iposessualità che non di una ipersessualità certamente e qui vorrei sapere come si può spiegare partendo da queste affermazioni aver assistito nel 68 l'omicidio o aver avuto l'arma va bene pagina 17 con queste cadenze particolarissime molto caratteristiche e che quindi alla fine se si può definirlo comunque un serial killer o meno e perché in sintesi io spero di ricordare le 12 domande comprese le domande dell'avvocato Santoni la prima è richiedo una premessa che serial killer si diventa come avvocato o come un'altra cosa cioè non è che uno è un serial killer serial killer si diventa se mi è consentito a fare un riferimento italiano esperienziale e personale il caso di Torino che alcuni di noi qui presenti hanno dovuto periziare nel caso del canonista che ha ucciso nove prostitute non è che lui era serial killer lui è diventato serial killer ci ha preso la mano la mano o fra virgolette gusto cioè è diventato un po' di allenamento è diventato serial killer si va bene non è ora e ognuno ci diventa secondo le cadenze le fortune le sfortune di ogni carriera anche la criminale è una carriera ora il problema è che cominciamo con la prima domanda che sottende poi anche l'ultima con quelle di mezzo è che la distanza di tempo fra un delitto e un altro è certamente inusuale e improponibile per un individuo che ha un'impostazione psicotica che è un malato di mente e che non controlla la propria impulsività è esattamente l'opposto che noi abbiamo detto che qui non è proponibile la chiave di lettura psicotica l'abbiamo detto anche quando al di fuori dell'aula giudiziale ma in sede giornalistiche determinati colleghi psicotici di chiarissima fama dicevano se sei un malato vieni che ti curiamo ma che malato cioè a un certo punto un individuo che riesce a gestire le problematiche dell'esecuzione di diritti e poi dell'intervallo fra un diritto e l'altro per anni non può essere un malato di mente non sarebbe da firmare non clinicamente non che non abbia connotazioni ultra psicopatologiche di personalità ma venendo al dunque poi la domanda dell'avvocato presuppone anche un fatto che il secondo diritto non abbia niente mentre per il primo veramente manca ogni connotazione di diritto in senso sadico sessuale e quindi non è ricollegabile criminologicamente agli altri però bisogna dire per onestà di risposta che non essendo ricollegabile non esiste nessuna risposta fruibile in termini peritari una non fruibile in termini peritari perché non si può escludere se non può essere utilizzato in una serie giudiziaria non si può escludere che un primo diritto non avente caratteri sadico sessuali non possa costituire un elemento spurio in rapporto al fatto che c'era il figlio della roccia e venisse a vita però primo diritto noi non possiamo ricollegarlo il secondo diritto è in un certo senso anche avendo caratteristiche diverse anche essendo un omicidio di impulso in cui ha dato 96 o 98 coltellata le vittime che erano decisamente eccessive con tutto questo però abbiamo anche detto prima è che in qualche misura la prefigurazione dei successivi in un soggetto che ha praticamente cominciato a fochettare col coltello le proprie fantasie intorno a un seno e poi è andata avanti dopo quindi abbiamo non abbiamo escluso mentre escludiamo per il primo per noi la possibilità di ricollegarlo il secondo diritto l'abbiamo poi ricollegato in una visione ricostruttiva e non mi ricordo le altre domande ecco professore adoro una precisazione su questo secondo voi visto questa cadenza di tempi va bene quindi un'evoluzione ovviamente un'evoluzione c'è stata perché dal dal 74 all'81 da un atteggiamento sadico improvvisato istintivo si passa a qualche cosa di premeditato se nella vita comune cioè di tutti i giorni vi possono essere vi possono essere significative cambiamenti nel quotidiano nel video di tutti i giorni cioè questa persona che cambia il suo approccio al delitto dall'esecuzione all'atto primordiale istintivo violento 96 coltellato una fatica fra le altre norme poi altri sei anni ha una concezione più premeditata diversa più feticistica se nella vita di tutti i giorni lui può essere è cambiato cioè visivamente nei suoi comportamenti nei suoi rapporti col prossimo vi può essere una modificazione oppure questo suo cambiamento criminale rimane soltanto all'interno si esterna in quel campo e basta ecco la domanda mi sembra chiara se vi è casistica casi che possono far capire se vi è un cambiamento all'esterno o soltanto come si diceva una volta nella faccia interna dell'uomo e non in quell'esterno vi è il cambiamento che poi si esterna nel delitto ma io salvo a dare poi la parola ai colleghi dico che se stiamo parlando di perversioni sessuali e di questo stiamo parlando le perversioni sessuali non possono essere correlate direttamente ad un comportamento agito nei rispetti del prossimo cioè c'è l'impiegato che va in ufficio con un comportamento normale c'è chi fa determinati mestieri insospettabili ha delle perversioni sessuali ora il comportamento che dovrebbe cambiare nei rapporti con gli altri non è quel comportamento praticamente è un comportamento che in qualche misura che ha dei collegamenti anche con la personalità e con la perversione ma che non si traduce in espressioni comportamentali non riesco a spiegarlo meglio spero che gli altri no, chiarissimo non si produce cambiamenti nel cioè non vi è una differenziazione nell'azione nelle prossime perversioni sessuali non è che ha un comportamento tale che si modifica modificandosi progredendo la perversione sessuale perché siamo in un comportamento che riguarda una sfera ben distinta che viene dissimulato tranquillamente o può essere dissimulato nelle altre attività perché non ha deficit di critica perché non ha dei disturbi della mentalizzazione e di altro e di altri settori del modo di essere psichico tali se non è che uno ha la perversione ha le allucinazioni ha le illusioni c'è le ridiche no, no, no avete notato atteggiamenti anzi sovente mette in atto dei comportamenti perfettamente dissimulatori può mettere in atto dei comportamenti perfettamente dissimulatori bene perfetto stringiamo però avete notato dei comportamenti di là dell'eccessione del pube feticistici per esempio alla Locci fu strappata la catenina lo stesso alla Rontini alla denuncio fu ritrovata non si sa se volontariamente le è in bocca questa catenina questi possono essere comportamenti criminologicamente interessanti o no rilevanti o no per la Locci mi sembra che abbiamo detto che non riusciamo a capire come la Locci avesse la cos'era la parte dell'orologio no, allora non ricordo non vi ricordate questi no, abbiamo abbiamo parlato di aspetti feticistici abbiamo cercato gli aspetti feticistici al di là dell'escissione e dell'asportazione del fube sì, abbiamo cercato nei verbali abbiamo cercato per vedere se c'erano o meno in realtà abbiamo trovato che un interesse di tipo feticistico come c'è spesso in questi casi in cui l'autore del delitto poi prende qualcosa di personale della vittima un oggetto personale per lo più che ti ricordi direttamente la vittima o la situazione delittuosa per poi riprodurre in fantasia la situazione delittuosa stessa in questo caso non abbiamo trovato un interesse feticistico se non quello per parte del corpo che si è perfezionato soltanto nell'81 nel 74 invece c'era c'è stato questo tipo di interesse quindi l'abbiamo interpretato nel senso di un interesse feticistico già presente ma non ancora focalizzato su un oggetto ben preciso e che poi tra il 74 e l'81 si è perfezionato con questo feticismo di parti del corpo che era già presente nel 74 come dimostrano le ferite e l'interesse per il pube ma non era ancora presente l'ideazione della tecnica per rescinderlo non ho altre domande vi ringrazio signori a quest'ora sospenderei però va bene quindi alle 15.30 ci vediamo crediamo alle 15.30 che voi signori professori ci dispiace e non ho neanche io ormai ormai la cosa di c'è una conoscenza di oggi che vuoi fare quest'anno stiamo rintracciando i periti sono i giornalisti che chiacchiano e fanno un po' di case che ci vuole si è considero la informazione si eravamo rimasti colao per la verità allora avvocato colao una domanda prego l'azione di sparo che il professor Luberto e anche gli altri ma in particolare il professor Luberto ha diviso dall'azione dell'accoltellamento nettamente diviso e si è riferita anche a questa domanda il mio collega avvocato pellegrini di parte civile parlare più forte sì grazie scusi dicevo l'azione di sparo che è nettamente divisa dalla susseguente azione di accoltellamento è stata definita da lei come azione frenetica rispetto all'azione fredda e direi calcolata successiva dell'accoltellamento con i rituali bene io chiedo in questa azione di sparo frenetica l'autore può raggiungere l'orgasmo e quindi avere una soddisfazione tale da avere poi nettamente soddisfatto quei bisogni primari ed incontenibili che lo spingevano a questo genere il che in un certo senso giustificherebbe anche forse l'azione di sparo che c'è stata senza accoltellamento nell'omicidio dei tedeschi sarebbe limitata alla sparatoria anche perché questa azione è stata frenetica da entrambi i versanti del furgone spostamenti rapidi come cercare di mirare l'uomo degli uomini dentro questo è il punto posso rispondere il presidente allora innanzitutto io nel mio intervento ho detto che tutta l'azione omicidiaria ricostruendo la dinamica psicologica ha il carattere di una ritualità cioè quindi è tutta l'azione rituale dal secondo omicidio almeno fino alla fine sicuramente all'interno di questa azione rituale che si ripete grosso modo sempre la stessa ci sono due momenti un momento in cui utilizza l'arma da fuoco in cui si hanno degli elementi accennavo al rapporto tra colpi sparate e colpi andate a segno che fanno pensare non ad una freneticità ad uno stato d'animo di maggiore tensione che d'altro canto troviamo anche nel secondo caso nel caso della Pettini nella prima parte in cui viene usata l'arma da taglio con una notevole violenza ora l'effetto violento l'effetto disordinato dal punto di vista psicologico può significare che il soggetto è in un certo stato d'animo la azione successiva dell'utilizzo dell'arma bianca invece per i rituali sadici nella sua regolare regolarità nella sua sistematica in caso lascia pensare ad una situazione di non dico di calcio pensare ad una situazione di non dico di calma ma di freddezza che può richiamare addirittura se non vengo fra indesi una freddezza di tipo quasi psicotica cioè questo senza nulla avere a che fare con la malattia mentale vera e propria cioè richiamare una struttura di personalità di un certo tipo quando la seconda parte circa la l'esito orgasmico di una certa situazione ovviamente il problema ce lo siamo posto ed è possibile non solo nel momento in cui viene agita l'azione ma addirittura anche nella fase di preparazione sono capitati casi in un certo senso non si è assolutamente documentato nulla di tutto questo perché tutte le ricerche che sono state fatte nei delitti precedenti e negli ultimi due nei quali abbiamo avuto la possibilità di intervenire direttamente sono state ricercate segni chiari di questo tipo e non sono state trovate però l'esito orgasmo è indifferente ai fini delle due possibilità perché quando usa l'arma da fuoco l'arma da fuoco la usa con intento letale tant'è vero che la vittima di sesso maschile è uccisa e poi trascurata completamente quando usa l'arma da taglio invece per i rituali sadici allora cambia proprio la finalizzazione e quindi è a questa diversa finalità all'interno di un'unica azione che è legato in via ipotetica ma a mio avviso un'ipotesi molto fondata il diverso stato d'animo del soggetto scusi sempre l'asporto dei dei fetici è chiaro che aveva lo scopo di rievocare le sensazioni forti tal che ci fu anche il messaggio inviato alla dottoressa Silvia della Monica e quello dove voleva essere più che un messaggio al magistrato una rievocazione di quella forte sensazione dire il pezzo di seno profondo inviato alla alla donna alla donna bene sono state asportate anche questi omicidi ecco cioè il volere conservare non so oggetti vari che sono stati asportati il volere conservare a tutti i costi pur essendo futili e banali all'apparenza hanno un significato feticistico poi dopo passare l'asportazione del pub e del coso sembra avere un chiaro significato feticista quando per gli altri oggetti a parte il fatto che l'evenienza si verifica solo nel secondo caso e in un altro caso quella delle chiavi della macchina e sono state buttate sul posto non è che non non c'è una ricorrenza nella ricerca nella conservazione di oggetti quindi secondo me gli oggetti e l'asportazione di parti di organo sono due problemi che a mio avviso sotto il profilo della dinamica dell'azione hanno un significato molto diverso non so se insomma in campo clinico quando si esamina un soggetto si conferisce significato feticistico all'asportazione di un determinato oggetto poi mi rapporta la relazione con quell'oggetto noi prescindiamo da questo perché non abbiamo operato un'osservazione di una persona diciamo però che per ciò che riguarda l'asportazione del pubo del seno è fuori di discussione il significato feticistico per ciò che riguarda oggetti che ipotetici oggetti che possono essere stati asportati è verosimile che l'asportazione dell'oggetto può aver praticamente stimolato il soggetto a portarlo via perché quell'oggetto l'ha colpito perché l'oggetto gli interessava è sempre un ricordo un souvenir o qualche cosa però non mi spingerei a parlare di queticismo in rapporto ad oggetti indeterminati che la persona aveva portato via perché diventerebbe veramente un'affermazione a prioristica cosa che non è per il feticcio corporeo una cosa ancora nell'omicidio Mainardi e Migliorini ci fu un gesto strano alla fine della dinamica avventurosa di tutto l'iter che fu veramente strano delle chiavi che vennerò presi e gettati via voi naturalmente dite ed è un'ipotesi logica che furono gettati per gesto di sfida e di disprezzo però può essere può rappresentare un gesto di ira rabbiosa e di sfogo di rabbia perché il soggetto aveva adocchiato in quel caso la donna e quindi si era visto sfuggire la preda dire di sì avvocato noi questo in fondo fra le righe l'abbiamo detto cioè nel caso Migliorini non è andato tutto secondo copione secondo le sue intenzioni per cui a un certo punto a quelle che erano le motivazioni di tipo sadico sessuale sono subentate motivazioni di un delitto comune cioè lui si è cimentato con il Minarini si chiamava ragazzo no? Com'è? Con Mainardi chiedo scusa lui si è diventato con Mainardi che tentava di sfuggirgli e alla fine ha buttato queste chiavi sprecandosi per un attimo di tempo e non verificando che Mainardi fosse realmente morto e non era morto tant'è vero che è stato ricoverato per poco tempo in ospedale quindi è chiaro che è subentrata nell'aggressore così una situazione un po' confusionaria perché tutto non è andato secondo copione e allora lui diciamo abbiamo anche detto che questo diritto che nasce e forse si conclude all'insegna del diritto sessuale ha avuto questo intermezzo di rapporto agonistico con la vittima che cercava di sfuggirlo e quindi con rabbia e con tutto quello che lei un'ultima cosa la separazione dell'uomo dalla donna indipendentemente dall'iter aberrante di tutta la serie di omicidi però rappresenta il temperamento geloso e possessivo di un individuo il dividere l'uomo ammassa l'uomo per poi avere la donna a disposizione in ultima analisi e fare i suoi riti però li divide li separa sempre no? porta la donna dietro una macchina porta la donna lungo un borro e li esegue quindi chiedo rappresenta questo un temperamento geloso al massimo che vuole naturalmente esasperatamente dividere due persone e immettersi fra di queste sotto il termine geloso che è utilizzato possono attraverso questo termine possono passare diverse ipotesi è certo che lui elimina che l'aggressore elimina l'uomo e il suo problema è eliminarlo per poi accentrare la sua attenzione sulla donna secondo le modalità che abbiamo già detto questa mattina però è altrettanto certo che la presenza dell'uomo non è casuale cioè non è un aggressore che riesce una volta una donna da sola un'altra volta in coppia un'altra volta passeggio con la madre no che dice sempre punta la donna ma punta la donna in una situazione di coppia allora puntando la donna in una situazione di coppia quello che le dice può essere vero e attendibile cioè questo voler separare tutto questo è detto da lei in un'osservazione che è sottesa al termine gelosia potrebbero esserci altri tipi di valutazioni che per esempio abbiamo anche adombrato quello che può essere stato il ruolo e il significato della cosiddetta scena primaria nell'esecuzione di questi diritti grazie non ho altre domande allora la difesa avvocato beva acqua professor Pierini lei stamani quando il signor pubblico ministero le ha chiesto di ricordare come aveva eseguito questa attività di di taglio del pub ha parlato di un coltello comunque di un arnese che era sicuramente affilato e che poi dall'altra parte così ho cercato di capire io poteva essere anche seghettato va bene così sì ecco mi dà l'idea di un coltello da sub o no sì diciamo sì per analogia a quella che è la forma o da caccia o da caccia diciamo di tipo sportivo non potrebbe essere un coltello da caccia con l'estrattore per esempio se finisce la domanda così riesco a seguire poi tutti i vari punti Presidente scusi va bene dico no io mi sto inserendo può essere da sub può essere da caccia lei e lei cacciatore io sono subacqueo e quindi ognuno vede il coltello alla parte sua chiedo scusi io sono sopracqueo grazie allora dunque per quanto riguarda il tipo di coltello ho detto anche che l'unico caso in cui è stata possibile fare un po' di modellistica cioè un per modellistica si intende recupero della forma tridimensionale dell'oggetto perché normalmente durante l'esame delle lesioni da taglio si hanno soltanto dei piani bidimensionali d'accordo però nel caso dell'impronta stampo sul radio del ragazzo francese il piano osseo permette di mantenere la forma proprio per mancanza di elasticità quindi certe misure sono precise infatti è l'unico caso per il quale mi sono spinto a fare una misura angolare del filo di taglio cioè 20 gradi ammettendo quindi che l'osso abbia funzionato da calco dalla parte opposta all'angolo di 20 gradi c'è l'altro angolo acuto che però è frammentato scheggiato come si spiega questa differenza se noi immaginiamo una piramide in sezione quindi un triangolo con la base molto lunga e l'altezza abbastanza breve rimangono due angoli di 20 gradi quello di destra corrisponde al filo liscio uniforme del coltello quello di sinistra l'incognito dà luogo ad un angolo con delle micro fratture di accompagnamento questo farebbe pensare ad un tagliente che essendo ondulato percuote non percuote percuote non percuote ad intermittenza la zona e lascia questo tipo di breccia in più la piccola altezza starebbe per lo spessore del coltello tutta la forma ha sezione triangolare quindi un coltello a sezione triangolare è un coltello carenato d'accordo la carena non è tagliente ma fa da rinforzo da ossatura ho fatto un po' una ricerca di vari tipi di coltello che potessero assomigliare a questo e in effetti ho visto che sono in genere coltelli di tipo sportivo ad avere questa struttura di sezione e di rinforzo però ne ho trovati anche di varissimi tipi e alcuni sono un po' tipo gladio romano come forma cioè tendono a essere molto appessantiti nella punta e questo non mi tornerebbe diciamo per i conti di dinamica quindi non ho espresso nessun parere sulla identificazione ulteriore del coltello al di là del fatto di citare i parametri di sezione grazie professor De Fazio mi scusi lei stamani su domanda del signor pubblico ministero ha parlato di iper sessualità incompatibile con la fissazione sessuale esatica di un tipo come quello che loro in astratto avevano esaminato quello incompatibile con una fissazione sessuale esatica io scusi la terminologia non sono come il collega che è stato loro allievo io sono un modestissimo avvocato quindi no cioè come un uomo fissato per quello che ha commesso questo tipo di reati cioè lei a un certo punto per quel che ricordo nella sua relazione peritale parla di una persona che potrebbe essere non molto dotata sessualmente ma ipodotata e addirittura un uomo che non ha queste grandi capacità amatorie eccetera e stamattina avete fatto una sorta di distinguo per quel che ho capito che dal 1981 questa persona non doveva essere una persona ipersessuale va bene poteva non essere una persona che aveva attività erotica attività sessuale piuttosto elevata piuttosto continua avvocato se si ferma io rispondo fino adesso e se no non riesco a ritenere più certo perché non dunque io questa distinzione non l'abbiamo fatta abbiamo detto che nel 1981 i delitti acquistano una connotazione sadico sessuale pacifica a questo non abbiamo legato l'affermazione che la connotazione sadico sessuale pacifica significhi ipersessualità o iposessualità anzi ho fatto la distinzione fra perversione sessuale perversione di cui espressione in questo caso il sadismo come alterazione qualitativa del modo di essere sessuale e ipo e iper come alterazioni quantitativa quantitativa ho detto che sono due cose che possono andare di pari passo ma non necessariamente quindi no nessuno di noi ha detto che dall'81 in poi l'individuo si è rivelato iposessuale come le ha detto cioè non l'avete indicato voi avete fatto no abbiamo indicato che dal 1981 in poi i delitti si sono connotati inequivocabilmente in senso sadico sessuale e avete dato l'immagine per quel che ricordo professore di una persona che avesse dei problemi sessuali nel vostro elaborato avete indicato una persona che aveva un'altezza di un certo tipo e comunque questo anche se oggi poi ci si riduce mi perdono e poi avete anche indicato una persona che sicuramente aveva dei grossi problemi sessuali è vero o non è vero i problemi sessuali di questa persona che voi avete indicato erano problemi negativi nel senso che quest'uomo non andava non aveva capito non so se mi sono spiegato ma non si deve spiegare lei si deve far spiegare no io sto facendo il controesame abbia pazienza signor ma non può dirgli mi sono spiegato io l'ho lasciato lavorare lasci lavorare anche me stia tranquillo ho capito mi sono spiegato no non mi sono spiegato io vorrei la domanda perché se no non riesco a capire la domanda è questa lei si perché c'è l'interpolazione dell'altezza una domanda per volta le rispondo l'altezza poi ne parliamo no no non interpoli io mi faccio le domande e le rispondo perché se no se lei fa un discorso parli dei problemi sessuali di quest'uomo professore i problemi sessuali di quest'uomo da voi sono stati indicati in maniera abbastanza pacifica espressa ben delineata nel vostro elaborato va bene qual era secondo lei il tipo di persona che poteva aver commesso questi delitti se lo ricorda quello che disse allora benissimo ecco me lo dico me lo vuol ripetere quello che noi abbiamo spiegato nella relazione che abbiamo ripetito questa mattina e che ripetiamo adesso è che la persona si connota sul piano sessuale soprattutto e probabilmente per quella che sono le perversioni sessuali aspetto di tipo qualitativo nel sintetizzare nel sintetizzare le conclusioni della pelizia e quindi in una prospettiva sintetica abbiamo indicato abbiamo dato una opzione verso l'ipotesi di una persona ipodotata sul piano sessuale cioè di iposessualità piuttosto che di ipersessualità questa volta utilizzando una variabile di tipo quantitativo mi rendo sono chiaro quantitativo che nulla toglie alla variabile qualitativa la prima acclarata da una ricostruzione la seconda riferita ad una tipologia d'autore quantitativo cioè se capisco una persona che fa poco all'amore o no allora mi dica qual è eh no professore me lo dica lei quantitativa nel parlare ecco nel parlare di iposessualità e non di ipersessualità questo non è legato al numero delle volte che quella persona è capace di fare l'amore ma per esempio l'iposessuale ha necessità di stimolazione particolare per poter eh raggiungere un livello di eccitatori eccetera quindi iposessuale in questo senso non nel senso quantitativo se fa l'amore tre volte o quattro volte la settimana colui il quale fa l'amore con moglie con figlie e compagnia bella non potrebbe essere un iposessuale ecco un momento lì no lì si è detto lì si è detto stamattina a proposito di questa specifica domanda che se una persona nell'avere un rapporto sessuale con una persona di sesso diversa anziché andare alla ricerca di un rapporto simmetrico cioè di una persona alla pare con la quale confrontarsi direttamente cerca un rapporto asimmetrico cioè con una persona meno dotata sulla quale può avere un certo ascendente evidentemente anche questo questa difficoltà di confrontarsi di cercare un partner ricorso è espressione a nostro parere in rapporto una letteratura di ipo e non di ipersessualità questo era il problema se una persona oltre a avere la moglie oltre a avere le figlie va anche dalle prostitute e ci va normalmente anche questo è iposessuale no avvocato me lo dica lei scusate professore io le ho chiarito solo il concetto di iposessuale dal nostro punto di vista questo può essere e questo può essere poi applicato alle persone alle situazioni le più diverse se parliamo di una situazione specifica le posso rispondere sulla situazione specifica in generale non posso che rispondere così ecco la situazione specifica posso parlare rivelamente signor Presidente Allocato lei ci mette in imbarazzo perché quello che noi diciamo non può essere riferito a situazioni che non conosciamo allora il nostro discorso era e resta un discorso che se in questa sede potrà servire a qualcuno servirà in termini di compatibilità o di incompatibilità ma non certo per tipologizzare cioè il discorso è quello che ha fatto il mio collega circa l'espressione quantitativa ma se in astratto prescindendo dalle esigenze di questo processo si chiede a un qualsiasi anche medio anche mediocre studioso di criminologia se l'andar con le figlie è espressione di ipersessualità la risposta è no questo non toglie che in un determinato caso possa essere anche sì ma la risposta di linea di massima cioè non è un elemento mi scusi lo dico è un elemento che possa essere adotto a prova di ipersessualità casomai potrebbe essere il contrario ma tutto questo prescinde completamente veda professore io sono un difensore e io purtroppo mi accorgo così è una mia sensazione forse sbagliata che voi avete fatto un certo tipo di indagine senza avere nessun imputato va bene avete fatto un'indagine scientificamente a mio avviso corretta io non sono un esperto ma ho chiesto molto ben fatta tenendo conto di alcuni elementi oggettivi cioè i reperti che vi sono stati forniti avete fatto avete guardato avete esaminato avete controllato e avete dato una determinata così conclusione alle vostre indagini che oggi sono un po' mi scusi leggermente un po' ridimensionate adattate o adattabili questo allora io vorrei che si ritornasse ad essere dal punto di vista scientifico chiedo scusa perché tutti possiamo essere suggestionati dal punto di vista scientifico essere rigorosi perché qua ancora la nostra legge dice la nostra Costituzione lo sostiene grazie a Dio lo dice che l'imputato fino a sentenza definitiva di condanna si presume innoce le hanno già detto che non lo posso allora io voglio fare per finire questa premessa lei non interrompe voglio fare questa premessa avvocato per favore metodologica volevo le domande lei ha fatto una domanda ai periti e mi hanno risposto non so se hanno risposto ma non è che si può svilire il lavoro dei periti per questo io non svilisco io credo che non svilire io voglio capire Presidente tutto uomini e cose elaborati degli uomini in momenti assolutamente asettici poi faccio anche io una domanda non sono chiari i risultati mi scusi professore quali sono i risultati del vostro studio i risultati del vostro studio e lo studio di questa serie di fatti di episodi abbiamo parlato da stamattina per carità quello lì e da stamattina non si parla da stamattina ne parliamo è una domanda avvocato questa è una domanda generica avvocato ci sono le conclusioni i periti l'hanno illustrato allora dalla sua analisi se ne fuori un dato profilo psicopatologico dell'autore della serie omicidiaria conferma il profilo descritto nella sua perizia io credo di aver detto proprio il dovere in coscienza di ripeterlo credo di aver detto chiaramente che stamattina che le indagini che noi abbiamo fatto e il contributo che possiamo portare oggi è lo stesso dei presupposti delle indagini che abbiamo fatto è un'indagine che tentava di risalire dalla tipologia delle azioni delittuose alla tipologia degli autori o dell'autore cosa ben diversa dall'identikit non abbiamo tenuto presente non c'erano 4, 5, 6 sospetti per cui dire qual era l'identikit nei riguardi dei possibili sospetti no era sospettata tutta la maniera interna scientificamente era così ecco ora restando valido questo presupposto e quindi non entrando minimamente in valutazioni che riguardino fatti specie attuali che non conosciamo e persone che non conosciamo perciò che perciò che riguarda la ricostruzione dell'altezza c'è una variabile che è venuta fuori oggi e che noi della quale noi abbiamo tenuto conto un conto diverso in perizia la variabile è che il soggetto è stato considerato da noi in perizia soggetto nel camper sul pianale cioè sul pianale significa sul fondo del camper e oggi ci si dice no, non era sul pianale ma era su un letto rialzato e caspita cambia notevolmente la cosa perché poiché è una traiettoria è una traiettoria che comincia dal punto in cui c'è stato il foro cioè il vetro ma si perfeziona il punto in cui c'è stato il foro e il punto geometrico iniziale si perfeziona dove attinge i proiettili evidentemente cambiano le cose se il cadavere era se il cadavere se il soggetto era in questa posizione rispetto al vetro o in questa posizione quindi non è cambiato nient'altro che questo aspetto per ciò che riguarda i problemi di iposessualità o ipersessualità noi abbiamo dedicato la maggior parte delle pagine della nostra perizia a parlare di perversione sessuale l'abbiamo confermata per ciò che riguarda queste benedette conclusioni che non si trovano e la parte conclusiva della perizia nel dare una definizione ecco qua opzione si tratta di un soggetto con sicure connotazioni psicopatologiche della personalità ma ciò non significa affatto la presenza di una forma di patologia mentale grave già diagnosticata anzi l'abbiamo esclusa le turbe della sfera sessuale possono accompagnarsi a schrezzi neurotici o essere sintomo occulto di una patologia più grave di per sé altrimenti e o non macroscopicamente evidente siamo alla penultima pagina conclusione la personalità implicata alle azioni di tose non è esprimibile sul piano nosografico cioè non si può catalogarla secondo gli schemi della fichiatria se non tautologicamente in temi di paraferia di paraferia e di devianza sessuale poi quanto alla iposessualità è solo nella conclusione che dovendo fare un'opzione tra soggetti quindi questa volta con un risvolto quantitativo della sessualità tra oggetti ipo e iposessuali abbiamo fatto un'opzione tipologica verso soggetti iposessuali sia ben chiaro però che mentre la perversione e l'affermazione della perversione trova un elemento documentale importante nelle azioni sadico-sessuali compiute sulle vittime la valutazione dell'ipo o dell'iposessualità da noi espressa almeno la penso così chiunque la pensi di rassamento era un orientamento un'opzione fra l'una e l'altra ipotesi va bene questo nuovo orientamento di oggi caro professore vorrevo sapere se si concilia oppur no con quelle affermazioni che lei ha fatto a proposito di questa indagine si può ipotizzare che questo modo di pensare presupponga una conoscenza un'esperienza diretta del comportamento amoroso del coito sempre nei confronti di questa persona delle sue varie fasi e delle relative sensazioni che forse l'omicidio mi chiedo scusa dove sta leggendo perché non ho la pagina sto leggendo una frase del professore mi può dire la pagina si ora gliela dico come la sta leggendo no la sto leggendo il professore se la ricorda se l'ha scritta lui se la ricorda mi può dire la pagina per cortesia me lo dice lui non lei no lo deve dire lei lei sta leggendo o gliela fa dire al professore che pagina hai via lei non la può io sto domandando no lei sta leggendo la pagina allora lei sta facendo una domanda eccoci io vorrei la pagina dove il professore parla di colpo lei sta facendo una domanda Presidente io sto facendo una domanda al professore se il professore ricorda questo che ha scritto ecco dove l'ha scritto ora non gli ricordo se ha scritto questo attenzione però avvocato non confonda la domanda suggestiva la domanda ma di Presidente io non so io Presidente mi scusi io Presidente guardi siamo agli sgoccioli di questo processo questa non sarebbe una domanda suggestiva se non l'avesse scritta Presidente io non faccio domande suggestive a nessuno questi non sono ha diritto di farle ha diritto di farle tra l'altro avrei anche diritto di farle ma attenzione non si può dire lei ha detto questo se non è vero lei continuamente mi dice che devo fare attenzione che devo stare attento io uso lo stesso metro nei confronti di soio del pubblico ministero Presidente non sono un bambino io sto facendo il mio dovere io pure eh no io sto facendo il mio dovere silenzio o sospendo l'udienza non ho capito avvocato la domanda suggestiva è proprio fuori luogo questa cosa mi scusi Presidente ma è impossibile non è quella che lei vorrebbe fare se il professore non ha scritto quello che lei certamente certamente caro Presidente io non credo di fare delle cose io nella mia vita ho sempre tenuto un comportamento molto ortodosso lo sappiamo e quindi se io la ringrazio ma evidentemente la mia cosiddetta bontà è da parte no avvocato invece guardi che proprio le persone per bene come lei sono quelli che hanno maggior credito presso la sono quelli che credono in fare i furbi e gli arroganti che non ce l'hanno e prima o poi la pagano ma le persone ma io il mio credito me lo sono conquistato quotidianamente in 36 anni di professione me lo sono conquistato e lei è stimato da noi e lo sa e quindi io sto cercando di fare il mio dovere però naturalmente io le devo ricordare certamente le regole ci sono io credo di fare il mio dovere ricordando dove vi sia parentesi signori sono le 4 e 10 bene grazie e io domani ho anche un altro processo da fare tra l'altro quindi si immagini come sto io ricordo se lei a un certo punto della sua ora gliela trovo avete fatto tutta una serie di affermazioni che io le leggo per quanto riguarda la posizione Pettini non è stata prestata alcuna attenzione agli indumenti mentre è stato rovesciato il contenuto della borsetta senza che si possa dire con certezza che qualcosa è stato asportato è vero se lo ricordo questo quindi voi cercavate di trovare un qualche cosa il feticio un qualche cosa che costui l'assassino voleva cercare e trovare pare che in tutti quanti i delitti tutti quanti i delitti nonostante queste coppie facessero l'amore non fosse trovato non fossero marito e moglie ma fossero fidanzati quindi con dei problemi anche di procreazione va bene non è mai stato trovato un profilattico giusto? tranne una volta certamente è questo volevo arrivare tranne una volta nel quinto delitto migliorini mainardi giusto? sì migliorini mainardi baccaiano dove vi era un preservativo profilattico pieno di sperma e anche un fazzoletto pieno di sperma e quel famoso omicidio nel quale il signor killer spara vuole uccidere anche la macchina tant'è che spara i fari vuole fermare questa macchina e la ferma buttando via le chiavi o no? o giusto? mainardi mainardi ecco la domanda che io le faccio è una domanda che presuppone anche una risposta intuitiva è possibile che quest'uomo questo signore cercasse il preservativo perché non si è mai trovato il preservativo sono stati uccisi dei ragazzi e nei corpi del maschio non è mai stato trovato nonostante degli altri delitti e che questo preservativo è rimasto lì perché o avevano già fatto evidentemente avevano già consumato l'atto amoroso e quindi questo signore è dovuto scappare fuggire perché ha dovuto così reagire anche lui alla reazione dell'autista è possibile che l'unica cosa o una delle cose che costui cercasse poteva essere il preservativo è domanda così avvocato noi ci siamo perché ecco scusi non è stato è stato rovistata la borsetta sono state eccetera tante cose però non è mai stato vi dico con estrema franchezza proprio ieri l'altro ieri nel metterci insieme per riguardare cercare di ricordarci poi la penizia perché è passato quel tempo una cosa però è certa che barbaro rocci non coito perché a un certo punto no aspetti in questi tutti questi casi nella maggior parte barbaro rocci non coito di nuccio non coito perché sono tutte state trovate con le mutande e gli uomini vestiti cambi Susanna non coito qualcuno aveva il membro fuori però e Migliorini Mainardi coito punto interrogativo vi dico gli appunti che ho fatto io cioè in sostanza in tutti questi delitti c'è una prova circostanziale che il coito che si trattava di persone anche Pierontini non coito si trattava di persone in una fase iniziale di effusione amorose con i loro partner mentre per il caso Migliorini Mainardi avevamo messo un punto interrogativo perché questo benedetto profilattico nell'auto un fasoletto di carta usata per pulire liquido seminale è un profilattico annodato contenente liquido seminale questo è stato avrebbe dovuto essere oggetto di indagini da parte dei periti che hanno visto che hanno proceduto le indagini necroscopiche adesso io qualunque cosa dicessimo sarebbe un'illazione era un preservativo che riguardava un coito avvenuto prima che arrivasse l'aggressore era un preservativo che ha lasciato la macchina lì comunque la domanda è questa non furono neppure trovati dei preservativi non usati nulla ogni volta che scusi e di fatti mi sobbiene quest'idea perché due ragazzi vanno a fare all'amore normalmente credo almeno che si cerca di evitare a meno che la ragazza non abbia c'è la pillola l'avvocato siamo d'accordo Presidente lei trova sempre un elemento per trovarmi però è possibile che anche che ci sia sì certo ma lei non è il pubblico ministero scusi Presidente allora lei deve a questo punto c'è questa situazione non si trova né nella borsetta della ragazza né nel portafoglio del ragazzo né nelle tasche dei ragazzi non si trovano mai questi preservativi la domanda che faccio io a me stesso ma la rivolgo a loro è possibile è possibile che questo serial killer che vuole uccidere che uccide tenta di uccidere uccide prima che si abbia l'atto sessuale vuole è legato in qualche modo la sua idea è legata a questo a questo profilattico nel senso che questo profilattico non consente la propagazione normale come dovrebbe essere secondo Santa Romana Chiesa oppure no se lo facesse secondo Santa Romana Chiesa avremmo non la configurazione del feticcio ma altre ipotesi certo io questo voglio andare avanti esatto altre ipotesi che non sono io il problema è questo che lei in fondo alla sua domanda presuppone una cosa questi ragazzi che erano in coppia dovevano avere dei preservativi questa è la secondo me normalmente in the quad secondo i latini acidi per le ruge allora se i ragazzi che erano in coppia avevano dei preservativi e non sono stati mai trovati preservativi dalla polizia giudiziaria se la polizia giudiziaria è andata a cercarli e li ha notati allora nasce il problema che pone lei che si pone per noi in questo momento in termini nuovi e di rispondere a ognuno anche perché bene io dico che il preservativo di preservativo il preservativo non utilizzato ancora perché si tratterebbe di asportazioni di preservativi non utilizzate come feticcio personalmente mi sta stretto però tutto può essere benissimo bisogna vedere cosa ne pensate bisogna vedere che tipo di va bene va bene andiamo avanti chiedo scusa del gioco di parole no mi scusi professore però siccome mi perdoni siccome è stato anche è certo che è stato rovistato nella borsa di una delle vittime di una donna è stato rovistato per cercare qualcosa che poi non è stata trovata questo qualcosa non si sa non si sa che cosa sia stato rovistato scusa per l'espressione che mi sta sento cioè se visto che l'uomo feticista lo era e l'ha dimostrato poi con le asportazioni di pubbi e di seno uno porta via la carta di identità con la fotografia porta via l'indumento ma non sono state portate queste cose no voglio dire se è feticismo d'oggetti potrebbe portare via potrebbe portare via vabbè lei mi pone una domanda io non posso certo escludere che non porti via le scatole intonze non toccate dei preservativi perché poi quello che lei dice ci fa pensare mi fa pensare che non solo non sarebbero stati trovati i preservativi ma nemmeno le buste certamente neanche le buste però erano persone donne con mutande donne che evidentemente io abbi dico ma con mutande poi le mutande probabilmente se le sarebbero tolte no ho capito penso cioè due arrivato prima del coito ecco questo si appunto però non avevano lei dice avevano mutande dei preservativi no è una mia ipotesi se posso aggiungere qualcosa prego lei lo sa che ce l'avevamo posta la domanda se si trattasse di omicidi a sfondo moralistico ce l'avevamo posta in un caso in cui accanto all'automobile era stato trovato un giornaletto pornografico stracciato abbiamo anche detto che è possibile che reati di questo genere abbiano anche come componente motivazionale questa però che in realtà dalle evidenze documentarie non emergevano altri elementi a prova di questo per quanto riguarda i profilattici ci eravamo posto il problema ma l'abbiamo accantonato non abbiamo proseguito in alcune ipotesi in merito in quanto nell'evidenza documentarie non emergerono poi descrizioni mai neanche di residui di contenitori di un aspetto usato e quindi abbiamo fatto i codi come se non ci fossero d'altra parte io penso che se una persona ce l'ha con un determinato oggetto non lo prende per tenerselo come fetticcio ma lo distrugge quindi come l'ipotesi che noi abbiamo fatto per il possibile sfondo moralistico motivazionale l'abbiamo fatta per il giornaletto stracciato che poi chissà chi l'ha stracciato così l'avremmo fatta se avessimo trovato dei profilattici distrutti senta professore stamattina ho sentito da loro su domanda del pubblico ministero se questa persona nel momento in cui commetteva questa sorta di delitti poteva essere oppure no imputabile cioè pieno stato piena capacità di intendere e di volere io non ho capito bene se sì o se no però certamente una persona che commette questi fatti reato così efferati così strani così abnormi secondo me ma io non sono un esperto in materia non dovrebbe essere totalmente capace di intendere di volere comunque razionale sì è capace benissimo comunque allora se è capace se lei mi dice che è capace benissimo senta allora vorrei capire a proposito della chiave gettata quando si parla della chiave gettata nel processo Migliorini nel fatto relativo alla morte di Migliorini ma in arti lei ha fatto questo ha detto questa frase sentimenti di grandezza incrementati dai successi tratti di personalità di tipo paranoicale un gesto sprezzante di vittoria e di trionfo quando cioè lui butta via la chiave uccidendo anche la macchina fra virgolette cioè la macchina tu sei messa in moto io ti tolgo ti tolgo la chiave ti tolgo la vita ti uccito uccito i tuoi occhi perché sparo ai fari dopodiché ti tolgo la chiave perché tu non possa più andare avanti perché tu possa morire in quel momento e io me ne vado ecco lei conferma questa frase sentimenti di grandezza incrementati dai successi tratti di personalità di tipo paranoicale un gesto sprezzante di vittoria e di trionfo avvocato io più che confermare vorrei interpretarla e per tutto rispondo alla sua prima domanda non si è mai trattato nella nostra penizia né stamattina mi sembra che sia stato da chiesto da qualcuno il problema dell'imputabilità oh io gliela chiedo io no non si tratta di rispondere per essere chiaro la domanda il Presidente ha consentito la domanda allora io devo dare la risposta il problema se si pone un problema in termini scolastici cioè un non delitto come epifenomeno di una patologia mentale la risposta è no come qualcuno deve aver già detto bene cioè non è questi delitti non sono epifenomenici di una patologia mentale non è una schizofrenia paranoide che si può accompagnare a delitti contratti che non solo sono salisi ma possono arrivare fino all'antropofagia in cui si direbbe sì un momento allora sono delitti epifenomenici una schizofrenia paranoide ed è ultra presumibile che il soggetto non sia imputabile non siamo in questo campo quando dovesse esserci una persona concreta da esaminare il problema sarebbe l'eventuale ma del tutto eventuale valore di malattia di quell'atto in rapporto a quell'atto cioè un qualche cosa che si lega al concetto di infernità e non di patologia però in questo tipo di delitti questo tipo di discorso varrebbe se fosse un delitto ma se noi abbiamo un soggetto che a distanza di 5, 6 anni 4 anni l'uno all'altro ha commesso questo tipo di delitto con questa riflessione allora non verrebbe validata a priori nemmeno l'ipotesi di un vizio totale o parziale di 20 che si ricolleghi ad un valore di malattia dell'atto non so se sono stato chiaro cioè se fosse uno solo no essendo tanti no se fosse uno solo non sarebbe comunque una un vizio totale o parziale che riguarda una conseguenza epifenomenica ad una malattia mentale però ci sarebbe da interpretare perché se io ho un disturbo narcisistico di personalità e sono perfetto in tutto e poi a un certo punto ad una felice narcisistica reagisco con una cosa spropositata può darsi che quindi un atto spropositato assuma un valore di malattia in rapporto ad un disturbo narcisistico di personalità che costituisce un'infermità ma non una patologia mentale allora però quando i delitti si ripetono e abbiamo avuto anche l'ipotesi di giudice Giancarlo quando i delitti si ripetono e allora il problema riguarderebbe casomai il primo delitto non so se mi spiego quindi il primo il secondo il terzo e no no avvocato abbia pazienza il primo diritto perché il primo diritto sto parlando di un altro caso il primo diritto può aver avuto può essere stata una risposta personologica avente valore di malattia in un non malato mentale ma la ripetizione la programmazione di diritti a tempi di questo diritto di altri diritti non ci sta con il concetto di in linea di massima di un concetto di non imputabilità io credo di essermi spinto già troppo in una risposta che è teorica che non riguarda niente e nessuno per ciò che riguarda invece la seconda domanda che lei mi ha fatto riguarda che cosa ecco questa affermazione è qua il il gesto di toglia di chiave dell'auto ecco scott i gettari paranoicali sì evidentemente privo di significato e di finalità materiale erano già stati colpiti non potevano scappare più ed ha un valore puramente psicologico quasi fosse un gesto sprezzante di vittoria e di trionfo tutta l'azione in questo caso benché probabilmente non abbia seguito le primitive intenzioni dell'omicidio a causa di una serie di imprevisti acquista così un valore di un significato a sé che condurrà alla sua ripetizione come si dirà nel commento a caso successivo quasi fosse stata vissuta come un sadico gioco persecutorio un macro volituare di calcia tra gatto e topo di per se stesso soddisfacente e culminante un gesto di vittoria di autoaffermazione ecco secondo lei questo con la patologia mentale non ha nulla a che fare no questo ha a che fare con tutti con tutte quelle che sono le reazioni di chiunque anche di uno di noi il quale a un certo punto fa un atto inutile perché buttarvi alle chiavi non era un atto economico perché i due non potevano scattare erano stati colpiti ma fa un atto che ha un valore simbolico di sprezzo di rabbia di tutto quello che vuole e anche di un ipoteso ecco secondo lei uno che fa un atto inutile nei confronti di una macchina è un normale uno che fa un atto del genere nei confronti di una macchina che uccide la macchina è normale nessuno ha detto che ha ucciso la macchina non l'abbiamo neanche pensato ma di la verità non l'abbiamo neanche pensato benissimo senta abbiamo pensato che abbia ucciso i fari in senso che ha tentato i fari certamente gli occhi la vista e va bene buttavia vabbè è una mia idea sbaglio non sono professore serio non sono professore no 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 io non sono professore sono solo un cristiano mi capita se mi arrabbio di sbattere una torta di andarmi via non dopo aver ammazzato no però voglio dire allora l'atto di sbattere una torta in caso a me poi si rompa anche il vetro e può capitare per sì in casa non è mica un atto che porta che porta a me però scusi questa è una ripetizione costante con dei riti particolari che così mi sembrano tant'è che questo è un caso unico pare uno dei pochi casi al mondo mi sembra che questo signore che ha colpito che ha fatto queste cose sia diverso dai miliardi di altri individui che per ora vivono in questa terra ma non sto dicendo buttare le chiavi sto dicendo il tipico comportamento di questo tizio secondo voi con questo tipo di condotta di comportamento ogni otto anni ogni tre anni ogni anno ogni sei mesi perché c'è stato anche qualche omicidio nell'ambito di un anno soltanto due omicidi secondo voi è indice di una normalità di carattere che non vi sia una patologia assolutamente basta volevo sapere questo da voi abbiamo parlato di tratti psicopatologici rilevanti che tuttavia non si non si incanalano nell'ambito di un'idea psichiatrica cioè per intenderci il modo per intenderci la patologia mentale vera e propria è un'alterazione di tipo qualitativo del modo di essere psichico io sento qua e dico la madonna mi sta parlando siamo in cento sono solo io che sento la madonna che mi sta parlando ho delle allucinazioni ho quindi l'alterazione mentale la patologia mentale vera e propria è un'alterazione qualitativa del modo di essere psichico poi ci sono le alterazioni quantitative del modo di essere psichico che è lascibile che viene lascibile che è fatta in un modo che è fatta in un altro e poi ci sono le situazioni limite che si realizzano nell'ambito dei cosiddetti disturbi di personalità che sono sempre queste alterazioni di tipo quantitative del modo di essere psichico tutte di rilevanza psicopatologica cioè tutto hanno a che fare con alterazioni del psichismo ma che non se non diventano alterazioni qualitative cioè se non si tingono di sintomi che sono proprio delle psicosi non sono patologi è come nel campo fisico c'è chi ha un po' di mal di testo professore insoldoni mi perdoni io sono un uomo così un uomo della strada molto della strada lei ebbe modo di avere questo incarico dal procuratore della Repubblica di Firenze in quel periodo si disse tante cose lo stesso procuratore della Repubblica di Firenze invocò che questo signore venisse a lui perché sicuramente uno che commetteva questo tipo di reati non è un procuratore questo tipo di reati così ho letto sul giornale non fu il procuratore della Repubblica ho letto male o qualcuno o lei stesso era sicuramente un malato di mente fu lei no poteva essere un malato di mente c'era un professore che dava interviste che diceva sei malato di mente vieni da me che ti cura non mi sono mai illuso che andasse da lui per farci nemmeno il procuratore della Repubblica ma il problema è questo mi scusi professore perché qua lo sentono tutti e lo sentiamo tutti noi l'autore di questi delitti secondo lei e secondo i suoi illustri colleghi è un uomo normale no e mi dica questo mi sembra che stiano dicendo tutto l'incontrario cioè avvocato una domanda cattiva perché no no scusi può essere una persona normale certamente quando commette quei fatti è un uomo normale allora secondo il codice quando commette quei fatti è un uomo normale sì o no avvocato le ha già risposte no io la domanda non mi ha risposto non l'ho capito abbondantemente non l'ho capito presidente scusi se me lo ripeto non c'è nulla non credo che si metta nulla sono disponibili e quando commette questi fatti quando ha questo che voi dite prima conflittualità interna questo signore è un uomo normale mi spieghi se è così oppure se no la domanda è cattiva perché non è cattiva è una domanda di un difensore che difende un cittadino italiano che è imputato di una serie di delitti e domanda a lei per poter fare eventualmente qualche cosa se è una persona che commette queste cose se dovesse essere ritenuto responsabile e oppure no nel momento in cui commette questi omicidi normale come lei e come me oppure no è un uomo è un uomo su piano scientifico non è un uomo è un uomo scientifico allora lei è uno scienziato me lo deve dire no scientifico perché nel momento in cui dico che l'uomo che poi sguorta via pubi e segni è un uomo normale i manicomio mandano me e non gli spiacerebbe e allora vuol dire che non è normale questo è il buon senso comune l'avevo già detto io tempo fa questo è il buon senso comune questo è il buon senso comune trafica perché ha cominciato a commettere i viatti dal secondo delitto in poi fino a per un arco di anni molto lungo con evidentemente delle fasi fra un delitto e un altro in cui si è controllato in cui ha saputo mantenere completamente nascosta la genitalità questa persona non è un soggetto affetto alla patologia psichiatrica però è una personalità con grossi tratti psicopatologici ma personalità con grossi tratti psicopatologici non significa malato mentale va bene? quindi è un normale è un normale è un carattere opatico va bene? carattere opatico non lo so e che cos'è? io ho detto persona uomo tratti psicopatologici che si realizzano e si manifestano nei suoi diritti attraverso attività sadico-sessuali e può darsi invece che se un impiegato è un impiegato modello se un camionista non crea incidenti stradali quindi voglio dire le altre cose le sta aggiungendo lei io mi fermo io non sto aggiungendo nulla lei professore sa benissimo che la giurisprudenza della corte suprema di Cassazione sul punto ha detto che non c'è necessità soltanto avvocato lasciamo la corte suprema di Cassazione mi scusi no è professore scusi o lei la domanda è questa la domanda è questa no per me ha già risposto sì certo presidente però la domanda è questa aveva già risposto prima mi perdone presidente mi perdone vorremmo fare un po' chiarezza mi scusi tanto perché il processo non è un processo di incidente stradale io non voglio fare nulla voglio sapere sulla base di quello che questi signori sostengono che cosa è possibile ipotizzare allora siccome la corte suprema ha detto questo può essere un impiegato modello però l'impiegato modello può essere anche pazzo perché se ha le conflittualità interne è un impiegato modello che è un pazzo il professore dice che può essere anche non affetto da patologie patologie allora le domande siccome poi non è uno psichiatra il professore allora c'è uno psichiatra fra loro mi pare sono tutti psichiatri allora meglio che mai allora se una affezione della personalità una patologia della personalità se una patologia della personalità che può avere rilevanza penale anche sul piano psichiatrico o no può essere quella patologia di cui poteva essere affetto o sarebbe affetto l'autore di questi misfatti io lo domando a chi loro vogliono parlare io ho già risposto vuoi rispondere tu a questa domanda ecco io mi trovo molto in imbarazzo di rispondere a queste domande perché già è difficile quando si valuta l'imputabilità di una persona già è difficile farlo quando si esamina la persona vedendola due, quattro, cinque volte professore lei è psichiatra? sono psichiatra è bellissimo scusi se già lo so può parlare un leggermente più forte tenere più vicino al microfono mi dispiace ecco già è difficile farla questa valutazione quando si esamina più volte una persona farla poi alla cieca in questo modo mi sembra che sia ancora più difficile se poi riportiamo i termini della valutazione al vizio di mente o meno allora siamo ancora più nell'astratto perché il problema del vizio di mente è il problema di una convenzione giuridica e questo problema è difficile da affrontare adesso era ancora più difficile da affrontare nell'84-85 quando abbiamo scritto quelle cose che ci viene chiesto di spiegare allora il problema era quello di poter dire agli inquirenti se era una ipotesi e noi allora abbiamo detto no sarebbe un errore restringere a quella categoria di persone la ricerca perché probabilmente la persona che commette questi delitti non ha ancora ricevuto e forse non riceverà neanche in futuro una diagnosi psicopatologica e non è sotto cura probabilmente e forse non lo sarà neanche in futuro di sua spontanea volontà da servizi psichiatri o da psichiatri si tratta di una persona che agisce in modo troppo organizzato per essere una persona troppo egosintonico agisce in modo troppo egosintonico per essere una persona che sente il bisogno di rivolgersi a psichiatri o essere una persona che è riconosciuta da altri come avente bisogno di terapie di psichiatri da questo poi a poter dire se scusi un attimo a poter dire se effettivamente la persona si potrebbe ipotizzare allora che la persona fosse affetta da una grave turba di mente o meno un po' ce ne passa quello che posso dire è che guardando la rassegna casistica di tutti i casi che siamo riusciti a trovare sono stati pochi i casi che a livello di valutazione sede giudiziaria sono stati giudicati affetto da un vizio di mente e da un vizio totale di mente in particolare e molti di più i casi che sono stati giudicati completamente imputabili questo lo posso dire perché fa parte delle conoscenze scientifiche prima di passare dunque panate io faccio una sola domanda a lei anche io sono specifiche di psichiatria le passi di professor Ruberto che prima di essere professor ordinario di criminologia ha percorso tutti i gradi della carriera psichiatrica anche il professor Ruberto è uno psichiatra quindi sì ha percorso tutti i gradi della carriera psichiatrica nei centri disegnamentali però mi consenta proprio per forse eccedo nel parlare mi dispiace se il presidente mi tocca la parola ma mi consenta una cosa è la prima volta che mi trovo a valutare la categoria dell'imputabilità o della non imputabilità in riferimento ad una tipologia di diritto e non ad una persona e francamente mi trovo molto attenziale ecco professore lei che si trova cioè valutare la categoria dell'imputabilità in riferimento a un tipologio di diritto professore siamo perfettamente d'accordo lei all'umiltà riconosciuta le domando anche questo è la prima volta che lei vedeva un quadro e ha fatto e ha tracciato lei quella così quell'analisi di quel quadro che gli ha mandato il dottor Perugini scusi le rispondo subito ha fatto lei prima domanda l'ha fatta lei scusi avvocato io rispondo soltanto se mi si consente di rispondere in un contesto che non sia proprio sì no perché questo mortificherebbe chiunque il dottor Perugini mi ha portato un quadro e nell'ambito delle prestazioni ausiliarie di polizia giudiziaria nessun incarico peritare mi ha chiesto un parere questo quadro non me l'ha attribuito non gli ha dato un nome un cognome eccetera e io ho dato un parere però nel parere che ho qua sa cosa ho scritto parere che un quadro si può interpretare conoscendo una persona e riferire poi torniamo però l'imputabilità e riferire che l'espressione pittorica ad una persona nota cioè quando in campo psicopatologico la produzione pittorica viene utilizzata a corredo della conoscenza di una personalità invece la valutazione in astratto ha tutti i limiti che hanno la produzione in astratto perché non fia l'altro che valutare delle raffigurazioni in rapporto a schematiche e tipologie se vuole cioè il parere lo posso no no l'ho già letto il parere è un parere che ha condizionato anche il pubblico ministero che ha emesso un provvedimento di cattura guarda non sul no no anche quello no 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 e no e si si e si no sul provvedimento non si indica neppure come indizio sul provvedimento no ma si ispira certamente e l'ho già denunzato mettiamola col quadro non c'è niente se vuole io leggo le promesse e dico lo scritto allora non ho altre domande presidente invece ne ho una io ah no scusi avvocato che ora va prego grazie precedente posso puntualizzare una no guardi mi sembra che quello che scusi professore ma quello che ha detto il professor che non si può tracciare sulla base di fatti e non di persone con un quadro psicopatologico di un soggetto questa è la è la verità allora avvocato fioravanti prego io non so a chi rivolgere la domanda comunque mi riporto alle conclusioni della perizia firmata dai ci da 4 5 illustri professori e precisamente alla pagina 163 alla domanda numero 8 l'omicida è un malato di mente io rivolgo di nuovo e voglio continuare il discorso del collega avvocato prego guardi lei per carità può fare tutte le domande che vuole ma o formula una domanda nuova anche sotto questo profilo o se no di questo argomento non parliamo più se lei mi formula una domanda sotto un diverso profilo gliela a me quindi la formula è sempre Presidente io prima di formulare la domanda faccio un'istanza alla Corte Tassise l'istanza è questa siccome il pubblico ministero poco fa ha detto che nessun magistrato e nessun pubblico ministero ha mai ritenuto che l'omicida l'autore di questi sedici omicidi potesse essere un pazzo io chiedo l'acquisizione di una cassetta di trasmissione televisiva telefono giallo di febbraio 1987 che ho io e se la Corte chiede di acquisirla io la depositerò dove il Dottor Vigna unitamente al vicequestore allora ora non ricordo come si chiami che accompagnava il Dottor Vigna a quella trasmissione e da quella trasmissione fu rilevato quell'identikit famoso che voi avete in deposito dove il Dottor Vigna affermava che l'autore di questi sedici duplici omicidi o meglio diceva sette duplici omicidi è sicuramente un pazzo ora è la massima stima del Dottor Vigna no 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 io siccome il pubblico ministero diceva però non è che il suo parere ci influenzi di poco non è molto e tanto meno può avere altri io rispondevo se dire pazzo di uno ha qualche valenza giuridica no ma io rispondevo ad un'affermazione negatoria questa è la sua richiesta ecco questa è la mia richiesta e ora io faccio la domanda il pubblico ministero si oppone no remissivo remissivo signori della difesa di parte civile remissivi anche siamo remissivi prego l'omicida studiato da voi io poi chi mi risponderà non lo so è un pazzo o è un malato di mente questa è la mia domanda è un pazzo non gliel'ammetto per i motivi non me l'ammette allora grazie della nona missione Presidente non abbiamo studiato nessun omicida noi ah perché chi l'ha fatti quei morti chi li ha fatti non hanno periziato nessun omicida non abbiamo studiato nessun omicida avvocato abbiamo fatto un altro non hanno il soggetto avvocato ma voi avete hanno studiato il caso hanno studiato il caso ecco il caso a pagina 163 è scritto l'omicida è un malato di mente l'omicida è un ipotetico ma voi stavate trattando questi casi nell'85 e mi pare avranno risposto come hanno detto prima ma non lo so agli inquirenti se era una ipotesi accreditabile quella di una patologia di mente perché avrebbe indirizzato le indagini ovviamente verso una categoria di persone abbastanza è un malato di mente con un punto interrogativo sì è praticamente un capitoletto finale dove dopo quando abbiamo detto che si tratta di un solo aggressore di un solo autore ci siamo posti il problema in astratto di stabilire in astratto non in campo clinico perché non ce l'avevamo lì per visitarlo stabilire se è un malato di mente o meno non di stabilire se fosse imputabile o meno posto che come è noto a tutti e certamente a lei più che a me l'imputabilità o meno si ricollega al concetto di infermità è una cosa un po' diversa e abbiamo risposto che l'omicida non è un malato di mente cioè però la valutazione dell'omicida non riguarda l'atto dell'asportare i pube riguarda una storia di delitti che è andato avanti 16 anni con intervalli di non delitti quindi abbiamo risposto a nostro avviso non è un malato di mente forse la risposta più precisa sarebbe stata può non essere un malato di mente no no non è qualcosa di più c'è la presidenza cioè il problema un malato di mente che commette un delitto e che riesce a gestire con tutta l'opinione pubblica e con tutta la città alla ricerca dell'autore che riesce a gestire la problematica del delitto è magari ad organizzare un altro e viva Dio siamo andati di mente a queste capacità di controllo emozionale signor Presidente mi perdono volevo solo puntualizzare sul piano della comprensibilità però una perversione sessuale anche molto grave non è necessariamente legata a patologia è sicuramente qualcosa di non normale se vogliamo usare il termine mi pare che abbiamo approfondito però la perversione non è sempre patologie è solo patologie grazie professor basta con questo proseguiamo sotto altri aspetti se ne avete dunque io chiedevo una spiegazione e sotto forma di domanda ve la chiedo voi parlate di macabro rituale dell'escissione può avere un significato dell'inconscio in questi casi cioè di vita non regolare vissuta da bambino inibizioni sopraffazioni della madre o del padre da altre persone o tra loro può avere questa fenomenologia la spiegazione che voi qui non mi date mi parlate di macabro rituale dell'escissione con un significato dell'incoscio di una castrazione simbolica ecco io vorrei una spiegazione spiegazione gliela diamo perché la sua domanda è se può avere non si ha in questo caso allora praticamente si può dare una visione psicodinamica che però resta in astratto perché non possiamo applicare in concreto all'un determinato uomo si quindi se la domanda è se può avere questo significato la risposta è si può averlo per quanto riguarda scusi 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 no stavo allungando leggermente è una distorsione di una sessualità infantile insita o provocata può essere può essere può essere sicuramente indica che ci sono state distorsioni della psicosessualità io non so della sessualità infantile perché per sessualità parlando di sessualità in generale in senso colloquiale si intende la sessualità agita parlando di psicosessualità si intende quello che uno immagina quello che uno è fantastica cerca la sessualità sono due cose diverse uno cresce con entrambe attraverso entrambe la parte visibile non sempre è tutta la parte della sessualità sicuramente non rispecchia completamente la psicosessualità per quanto riguarda i riferimenti sulla alle teorie psicodinamiche abbiamo dovuto doverosamente fare riferimento alla teoria psicoanalitica soprattutto per dire che dal punto di vista delle indicazioni alle indagini non da una volta e in quanto questa teoria esplora esplora soprattutto e la pratica psicoanalitica che è connessa a questa teoria esplora soprattutto gli aspetti soggettivi inconsci una parte cioè di realtà che è tutta soggettiva e che a volte non ha nessun correlato con la realtà esterna e mentre le indagini si rivolgono soprattutto alla realtà esterna a quello che si può percepire e verificare abbiamo fatto riferimento e abbiamo sintetizzato la posizione attraverso mi pare nelle definizioni di Schorsch che si è occupato più degli altri recentemente del sadismo soprattutto e di fizione di Fenichel e abbiamo sintetizzato tutto con questa interpretazione psicodinamica sul complesso di castrazione per fare soltanto un riferimento alla teoria psicodinamica va bene grazie ecco signor presidente qua c'è il consulente tecnico della difesa si potrebbe mettere anche lì così davanti a loro ci sono problemi ma può stare anche lì non c'è mica nessun problema deve parlare io devo fare le domande vuole sentire io devo fare le domande lui dovrebbe rispondere può farlo può farlo anche stare dove sta più comodo perché lì non ha da appoggiarsi avvocato è solo fatto che lo interroga come test e quindi abbiamo la possibilità di farlo non è come test è un consulente chiedo scusa per carità se lo vogliamo fare mettere qui non c'è nessun problema forse è meglio se no può restare tranquillamente è meglio presidente abbiamo più la possibilità di allora cerchiamo ora qui abbiamo un problema tecnico il microfono viene facile aspettate allora un momentino di pazienza possiamo fare un break di due minuti no avvocato no benissimo volevo fare una telefonata perché domani c'è un processo volevo dire se si poteva rinviare no no per carità allora avvocato per carità no 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 vado a fare la telefonata noi la aspettiamo quindi no no va bene va bene se è urgente se è urgente la faccia noi la aspettiamo devo telefonare a un giudice se mi consente di rinviare invece di domani mattina di fare lunedì martedì no no va bene la faccio dopo se è urgente avvocato vado a farla devo trovare il giudice semmai avvocato più avanti se lei voleva fare domande al suo consulente non so come vi siete divisi i compiti tra l'altro era lui che voleva iniziare bene e allora intanto facciamo prego si vuole accomodare nel frattempo noi si accomodi prego vuole cortesemente fornire le sue generalità mi chiamo Francesco si sente? mi chiamo Francesco Bruno sono nato il 10 maggio 1948 10 maggio 1948 a Celico provincia di Cosenza risiede? risiedo a Roma si accomodi il microfono come le viene meglio risiedo a Roma via bradi fiscali 184 ed è consulente della difesa no? è consulente quindi no non pronuncia nessuna forma allora aspettiamo posso iniziare anche io se può fare una domanda una domanda penso che no professor Bruno vuole dire alla corte qual è la sua professione la mia professione è di psichiatra criminologo sono professore associato di psicopatologia forense all'università di Roma la Sapienza ecco durante la sua attività scientifica lei si è interessato di serial killers sì sono interessato diverse volte di questo tipo di problematica sia in generale sia in casi concreti in quanto al di là dell'attività scientifica ho svolto un'attività di collaborazione presso per degli anni in particolare fino all'1987 presso il servizio informazioni per la sicurezza democratica e poi successivamente sono stato consulente della polizia di stato per una serie di delitti compiuti da serial killer quali sono le sue competenze specifiche in materia competenze specifiche appunto sono queste che dicevo e poi naturalmente gli studi che sto portando avanti su questo in particolare sono anche per queste cose consulente delle Nazioni Unite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità se vuole può fornire alla Corte la definizione scientifica certamente non per il Presidente e i giudici togati ma per la Corte e per i giudici popolari la definizione scientifica di questo termine quanti e quali tipi di serial killer conosce ed in cosa questi criminali differiscono dai criminali comuni anche efferati dunque intanto bisogna precisare che non esiste una definizione scientifica di serial killer si tratta di una definizione su basi comportamentali che è stata proposta dalla ormai famosa unità di scienze comportamentali dell'FBI e che poi però ha avuto una vasta eco e un certo successo da parte di tutti coloro che si occupano di questa materia perché effettivamente definisce in modo abbastanza soddisfacente una tipologia criminale che prima andava sotto il nome generico di mostri e così via in particolare il serial killer è un assassino un omicida come dice il termine stesso della definizione che colpisce ripetutamente e che quindi commette in tempi diversi e in luoghi diversi numerosi omicidi e normalmente più di quattro omicidi e con meno più di quattro omicidi quando si hanno delle modalità diverse naturalmente si parla di altri tipi di serial di killer in particolare per esempio lo spree killer che ha colpisce con un numero minore di casi oppure il mass murder che per esempio è quel soggetto che uccide una grande quantità di individui però nello stesso tempo nella stessa situazione quando la persona che all'improvviso si munisce di un fucile e comincia a sparare indiscriminatamente colpendo le automobili sull'autostrada in particolare per quanto riguarda i serial killer ci sono diverse classificazioni ci sono i cosiddetti serial killer organizzati e i serial killer disorganizzati i serial killer psicopatici e i serial killer psicotici i serial killer che poi possono definirsi anche a seconda delle tipologie delle azioni criminose dagli essi compiuti così abbiamo per esempio serial killer antropofagi abbiamo i serial killer che gli squartatori ecco per esempio il famoso jack of squartatori gli strangolatori e il caso del monstro di Firenze è un caso molto particolare perché abbiamo come elemento distintivo la mutilazione del corpo femminile ma poi abbiamo anche il caso particolare della uccisione di una coppia e questo è un elemento unico per quanto vi abbia analizzato dalla letteratura e quanto ho visto che anche i colleghi hanno fatto prima di me tutti coloro che sono interessati non hanno mai trovato precedenti di questo tipo cioè non esiste nella storia del crimine che noi conosciamo un killer che abbia indirizzato la sua azione delittuosa su coppie e soprattutto poi su un numero così elevato di coppie ed esclusivamente su coppie c'è da dire che se il soggetto avesse voluto colpire l'elemento femminile avrebbe avuto maggiori facilità nell'utilizzare vittime più semplici quindi è evidente che pur prestando una particolare attenzione all'elemento femminile il suo obiettivo principale sia rappresentato dalla coppia altrimenti non correrebbe i rischi molteplici di dover affrontare e uccidere due persone invece che una direi quindi che ci sono molte differenze in particolare riguardo la questione che definisce i serial killer inorganizzati e disorganizzati su questo si è detto molto diciamo che il cosiddetto mostro di Firenze rappresenta tipicamente l'esempio di un serial killer organizzato però sia capace di prevedere di pianificare la situazione criminale e in questo caso di pianificarla molto bene quindi se potessimo dire diremmo organizzatissimo rispetto anche ad altri soggetti organizzati che conosciamo al contrario il soggetto disorganizzato è preso talmente dall'eccitazione di compiere l'atto omicidiario che di solito lo compie è così in seguito ad un impulso e non tiene conto delle conseguenze o non ne tiene conto sufficientemente e in questi casi naturalmente le forze dell'ordine hanno facile gioco a individuare il soggetto per quanto riguarda la distinzione in psicotici e psicopatici anche in questo io sono estremamente d'accordo con le conclusioni della perizia del professor De Fazio e gli altri professori che l'hanno firmata perché ritengo che il mostro con cui noi abbiamo a che fare appartenga appunto alla categoria degli psicopatici che è un po' una vecchia definizione per indicare disturbi di personalità i disturbi di personalità in psichiatria sono delle categorie nosografiche che possono avere valore di malattia ma possono anche non averlo dipende dalla quantità dalla qualità e naturalmente da tutta una serie di altri elementi che non è possibile valutare in teoria ma bisogna valutare nella pratica certamente il soggetto non sembra essere di tipo psicotico perché con il termine psicosi si intendono invece delle malattie psichiatriche che hanno un normale decorso con un inizio e una fine che non durano questo alasso di tempo e soprattutto portano il soggetto ad una condizione di perdita dell'autonomia quindi non sono compatibili con le azioni che il mostro ha compiuto quindi in altri termini abbiamo a che fare con una persona che una volta disponibile in cui possiamo interrogarla o parlarci probabilmente potremmo anche riscontrare inferma e quindi potremmo anche valutarne l'imputabilità o meno a priori certamente possiamo dire che è una persona molto ben organizzata e quindi che presenti al massimo un disturbo di personalità per quanto riguarda il concetto sulle perversioni sessuali direi che le perversioni con questo termine questo è un termine ambiguo che dà luogo a molte confusioni perché scientificamente per perversioni sessuali intendiamo delle patologie che sono tali perché considerate tali dalle classificazioni nosografiche più importanti quindi sia da quella dell'Unione Mondiale della Sanità sia da quella cosiddetta di SM3 terzo o quarto che consistono nella deviazione dell'impulso sessuale deviazione obbligata qualitativa dell'impulso sessuale verso oggetti che non sono gli oggetti del normale rapporto sessuale o verso l'ottenimento di un piacere di un piacere che si ha con mezzi diversi rispetto a quelli vogliamo tenere chiusa quella porta là per favore deve sempre stare chiusa scusi professore rispetto a quelli che sono i normali mezzi per il conseguimento del piacere in una coppia eterosessuale c'è solo un caso in cui una perversione sessuale non ha valore di malattia ed è la omosessualità ecosintonica cioè l'omosessualità vissuta bene dal soggetto che ne è portatore ecco in questo caso si parla di un differente atteggiamento sessuale ma non di una patologia per perversione sessuale poi invece in senso volgare intendiamo spesso delle deviazioni dell'istinto sessuale che però non rivestono il carattere di necessità di compulsione che è tipico invece delle perversioni stesse in altri termini ciascuno di noi sperimenta nel suo vissuto personale delle preferenze sul piano sessuale che possono essere anche talvolta molto spiccate ecco in questo caso volgarmente si può anche parlare di perversioni allora queste sono quelle perversioni che sono compatibili fra loro sono compatibili in diversi in uno stesso soggetto proprio perché non conclusive cioè il soggetto per esempio non ha il piacere sessuale soltanto con i bambini come nel caso della pederastia ma anche con gli omosessuali e allora ecco abbiamo la partecipazione di perversioni che però non sono obbligate quindi non sarebbero le vere e proprie perversioni sessuali che hanno invece valore di malattia quando esiste la compulsione e quando non esiste la possibilità di avere un rapporto sessuale normale quindi nel caso in cui la perversione sessuale è malattia quindi è obbligata il soggetto non ha la possibilità di avere altri rapporti di avere rapporti sessuali normali o anche altre perversioni sessuali contemporanee è molto difficile nel caso in particolare dei serial killer tutti i serial killer fin qui noti e non mi riferisco soltanto a quelli di Kraft-Tabbing ma a tutti diciamo i casi anche più noti più i più moderni basta pensare al il cannibale di Rostov Cigadillo oppure il Damer Geoffrey Damer il mostro di Miluocchi eccetera ecco tutti questi hanno un atteggiamento sessuale in cui sono presenti in modo più o meno sfumato numerose perversioni ma nessuna di queste è assolutamente obbligata in particolare nei serial killer troviamo l'omosessualità troviamo la necrofilia troviamo l'antropofagia il vampirismo e così via abbiamo una serie notevole di perversioni sessuali senti professore chiedo scusa chiedo scusa interrompe approfitto comunque lei ha un elaborato vero professore ecco volevo voglio parlare proprio dell'elaborato perché mi mette un attimo in difficoltà mi spiego subito in cosa consiste io non ho consulente tecnico quindi il professor Bruno stamani molto gentilmente mi ha dato copia dell'elaborato per consentirmi il mio contresame ora io sono in imbarazzo a dire quel che sto per dire alla corte ma l'elaborato che mi è stato dato contiene chi l'ha fatto nome e cognome di cosa si tratta e poi mi ci scrive cioè c'è scritto attenzione io prendo attenzione sono elaborato e mi si dice i capitoli 7 7.1 7.2 7.3 8 di questo studio sono riservati io dico che l'ho aperto non vorrei aver commesso un qualcosa e non dovevo non possono essere eccetera io dico ma allora è elaborato per la corte pubblicare in esenso dati alle stampe ecco ho capito ma oggi danno tutti alle stampe no no mi chiedo è riservato attenzione è riservato di un elaborato va bene va bene mi chiedo va bene va bene si tratta va bene si tratta di una lo spiega il professore lo spiega ma il 233 non prevede attenzioni né riserve quindi lo possiamo leggere tutti bene grazie allora invece dato che la parte teorica parte c'era già illustratamente chiedo però il motivo di questa eccezione non vuole che sia pubblicata oggetto di ma non c'è la Mondadori qui non c'è cioè in altri termini no 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 non è questa non è questa preoccupazione in altri termini il mio mestiere in particolare è un mestiere che dovrebbe essere svolto come è stato svolto correttamente dai professori che ho di fronte nella fase della investigazione perché le cose che noi diciamo non hanno un valore di prova se non nei termini in cui si riferiscono a degli elementi materiali e questo può essere per determinati ragionamenti medico-legali ma hanno però un valore importante di tipo di indirizzo eventualmente di comprensione di quello che avviene e di indirizzo delle indagini questo studio che io ho già cominciato nel 1985 e portato avanti contiene delle indicazioni di luoghi di nomi di situazioni che potrebbero essere utili ai fini dell'indagine e che potrebbero coinvolgere terze persone che non sono diciamo nei confronti delle quali io non ho assolutamente nessuna nessun elemento di prova per questo motivo la mia posizione è un pochino difficile e sono stato molto in dubbio su questo e volevo chiedere al Presidente della Corte Assisi se sono autorizzato a parlare di queste cose di essere nella stratosfera qui non è un procedimento a carico di una persona nota cosa c'entra in tutti questi discorsi su indagini eccetera un consulente tecnico deve parlare di fatti concernenti questo processo se ha intenzione o di fare studi per le indagini ci sono talmente tante strade tante procure della Repubblica non produce quei documenti dove il Professore ritiene che vi possono essere degli atti coperti invece signori cerchiamo di accelerare perché Presidente certamente cercherò di accelerare le domande sono velocissime lei mi ha capito lei ha fatto ha preso visione del lavoro per Italia dei professori De Fazio Luppetto Caldiani eccetera e ne condivide le conclusioni sì o no le condivido in pieno queste conclusioni perché riflettono pienamente quello che cerco di distriggere in che cosa si differenzia ovviamente condivido le conclusioni dell'elaborato per Italia che loro hanno presentato mentre condivido un po' meno il discorso fatto stamane cioè soprattutto riguardo al concetto al discorso sulla ibersessualità e via corrente e ce lo vuole spiegare qual è il suo concetto cioè in altri termini nella sia da quello che emerge nel loro studio ma anche da quello che emerge dalle mie osservazioni abbiamo a che fare con una persona cioè il cosiddetto l'autore diciamo l'autore di questi omicidi è una persona che dimostra di avere una sessualità assolutamente coartata ed inibita è una persona che dimostra di avere paura del corpo femminile e di non conoscere il corpo femminile adeguatamente tant'è che tutta la dinamica del secondo omicidio è una dinamica che riguarda proprio l'esplorazione nella conoscenza di questo corpo in più parliamo di un soggetto che ha una esprime nel suo atto omicidiario una un equivalente sadico come giustamente è stato definito e quindi sostituisce l'azione omicidiaria e ancora di più la repertazione di questi fetici che però non è sicuro che siano fetici che potrebbero giustamente sono stati chiamati con termine assolutamente inadeguato souvenir diciamo delle cose che porta via e non sappiamo poi per quale fine e quale ne sarà il destino successivo gli elementi che abbiamo a disposizione dimostrano che intende conservare a lungo certamente conservare sa come anche conservare bene questi reperti quindi probabilmente li conserverà e dicevo quindi è una persona che esaurisce la sua spinta sessuale innanzitutto nell'uccisione e poi successivamente con ciò che farà di questi reperti che porta a casa questo tipo di perversione sessuale non è compatibile con un comportamento sessuale normale e adeguato né tantomeno con un comportamento sessuale eccitato quale quello dell'imputato nel modo più assoluto non perché l'imputato abbia anche svolto atti di incesto vedremo che la personalità che emerge dall'analisi degli atti che l'omicida fa è una personalità assolutamente opposta a quella del genitore incestuoso in quanto normalmente il genitore incestuoso è una persona che nella sua infanzia è stata maltrattata dalla figura paterna e ha avuto una figura materna non particolarmente sensibile e comunque non seduttiva tant'è che poi lui non ha alcun tabù alcuna remora a utilizzare sessualmente persone che hanno a che fare con la sua stessa famiglia e che quindi sono di solito protette da un tabù che è molto profondo nell'uomo e che si acquisisce da bambini innanzitutto con il tabù nei confronti della propria madre quindi è lo stesso tabù che protegge la madre come protegge le figlie quindi al contrario l'omicida dimostra di avere un questa angoscia nei confronti della figura femminile che lo porta a togliere alla figura femminile gli elementi che la rendono tale ecco perché poi il risultato ultimo delle sue mutilazioni è anche quello di impedire a questa figura di essere tale di essere ben distinguibile e quindi è presumibile che nella sua infanzia non abbia avuto un padre maltrattante ma al contrario un padre una figura paterna assente una figura paterna lontana e al contrario una madre molto seduttiva e molto dominante tale da togliere ma stiamo parlando del tipo d'autore o del delitto ha parlato lei fin dall'inizio del tipo d'autore fin dall'inizio di questo processo secondo me stiamo parlando troppo però tipo d'autore non me ne parla il pubblico ministero del tipo d'autore no 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 perché proprio lei no no professore io capisce va bene allora secondo io non sto dissertando io non sto dissertando sulla luna sto dissertando su elementi concreti che sono gli stessi elementi su cui è stata affidata la presenza ai professori che ho di fronte cerchiamo di stringere non credo di meritare meno tempo di quanto mi è riservato però la invito a essere più certamente mi spiace che l'ora è tarda però il processo è anche delicato e difficile certo Presidente mi scusi allora Professor Bruno secondo lei quindi lei ha visitato Pacciani ho parlato con Pacciani non lo ho secondo lei da quello che lei così dalla sua analisi dalla sua indagine dalla sua attività così di ricerca della personalità di esame della personalità questa personalità dell'attuale imputato è compatibile con quella con il profilo che i professori Luberto i professori peri di ufficio hanno fatto del cosiddetto mostro c'è opposizione su questa domanda Presidente perché perché è una domanda che tende a introdurre come valutazione personologica una violazione dell'articolo 220 secondo comma del codice penale 220 secondo comma parla soltanto di che cosa di perizie criminologiche perizie criminologiche ma di fatti questa è una perizie criminologiche che ha fatto no non sull'imputato però la personalità dell'imputato la persona dell'imputato secondo lei è compatibile con l'idea che si sono fatti che ci hanno reso i signori consulenti d'ufficio per il d'ufficio guardi da quello che io ho avuto c'è opposizione Presidente sull'apposizione non l'ammetto perché è chiaramente in violazione 220 secondo comma non ammette la domanda come spiega lei professore se lo spiega se riesce a spiegarlo scientificamente il fatto vera Presidente però si poteva anche non ammettere mi scusi Presidente siamo d'accordo ma veda si poteva anche non ammettere per carità lei lo ha fatto io mi volevo togliere la toga si poteva anche no Presidente si poteva anche non ammettere per esempio che le ragazze le figlie ci venissero a dire tutto quello che hanno detto del padre si è rifatto un altro processo quelle sono circostanze di fatto lasciamo stare sull'imputato di fatto sull'imputato che hanno evidentemente attinenza all'oggetto del processo oh meno male oh perché questo non ha attinenza Presidente c'è 220 non lo conosce non l'ho fatto io non mi farete carico io lo spero di avere applicato con rigore la procedura in questo processo ho cercato sempre di lasciarvi un pochino la brilla sciolta però oltre certi i limiti non si può andare se poi c'è un'opposizione formale figuriamo va bene come spiega scientificamente il fatto che il mostro non colpisca lo posso fare questa domanda o no? di avvocato posso fare non colpisca più dal 1985 se lei lo spiega professore tanto a questo punto spiega più lunga perfine ecco benissimo meno male benissimo anche perché quello che io ho detto l'ho detto già nel 1985 l'ho anche mandato a dire alla questura di Firenze perché l'ho detto nell'ambito di un'attività istituzionale da me svolta e quindi dovrebbe esserci prova da qualche parte di quello che ho detto ho detto nel 1985 che quello sarebbe stato l'ultimo delitto e l'ho detto sulla base di un'analisi precisa che è stata compiuta su tutti i delitti in quanto se uno chiede se uno fa un piccolo sforzo mentale e si chiede il perché di questi delitti e non se lo chiede soltanto perché sono le lucubrazioni mentali di uno psichiatra ma perché sono gli strumenti moderni con cui si fanno le indagini che tra l'altro il dottor Perugini conosce benissimo anche se appega male lei l'aveva già detto allora perché? ecco esatto quindi questo perché perché è possibile prevedere il comportamento di una persona e questo lo sanno tutti coloro che si occupano di psicologia applicata alle esigenze dell'investigazione criminale o alle esigenze della polizia quindi è possibile prevedere e la mia previsione fu assolutamente negativa in questo senso per il semplice motivo che gli otto delitti rappresentano un ciclo con delle motivazioni psicologiche precise che probabilmente non sono quelle che io immagino che siano ma che però probabilmente sono molto vicine vista che comunque questa previsione è risultata azzeccata dico anche che qualora il l'attuale imputato di questo processo venisse condannato probabilmente questo potrebbe essere un elemento utile perché il l'assassino no scusi questa è una valutazione per carità per carità per carità non è una valutazione per carità non è nulla valutazione è il mio consulente te sentiamola deve dare una valutazione è certo probabilmente sentiamola fino in fondo sentiamola in carità non avrete mica paura una cosa l'ha azzeccata e allora noi siamo qui contenti che ha paura di questo che cosa fate silenzio fate silenzio tutte e due professore vuole continuare prego vi tolgo la parola a tutte e due in questo momento io dicevo come atto di previsione che se è ovvio che io ritenga bracciani innocente altrimenti non starei qui ma in ogni caso qualora questo attuale imputato venisse condannato probabilmente questo sarebbe un motivo sufficiente a dare a quello che io ritengo essere l'omicida che ovviamente non conosco uno stimolo psicologico a sentirsi in qualche modo defraudato di una posizione e per cui è possibile che questo stimolo prevalga su altre considerazioni e lo riporti a farsi vivo non è detto che si debba far vivo necessariamente con omicidi né con omicidi simili a quelli finora compiuti bene va bene questa è una sua previsione senta mi scusi un'altra domanda credo sia pertinente certo in questo processo si è parlato molto del seno sinistro perché in realtà purtroppo i seni sinistri di alcune ragazze sono state asportate e vi è stata anche una teoria cioè si è innestata una teoria del seno sinistro ecco lei ci può dire qualcosa su questo seno sinistro della Miranda seno sinistro di Miranda seno sinistro di queste ragazze eccetera vedete le sue deduzioni scientifiche in merito se ce le dice se le crede si pensa sentivo prima oggi anche i professori per cui la massima strima soprattutto il professor De Fazio che considero un caposcuola in questa disciplina quasi offendersi al nome di identikit l'identikit psicologico è una realtà una realtà che si fa si compie e che viene viene fatta appunto dalle migliori polizie del mondo quando si fa un identikit però bisogna seguire delle regole molto precise perché altrimenti naturalmente si dicono fischi per fiaschi e così si prendono si fanno degli errori grossolani e una delle regole fondamentali è quella di non fare recuperazioni di non fare interpretazioni laddove esiste un motivo pratico un motivo obiettivo un motivo semplice per spiegare il comportamento di una persona quindi noi possiamo fare delle interpretazioni laddove troviamo dei fatti che sono inspiegabili e possiamo spiegarci solo attraverso delle interpretazioni mentre non possiamo fare interpretazioni quando ci sono delle situazioni obiettive che sono alla portata di tutti nel caso specifico tutti sanno che la maggior parte delle persone quindi anche delle donne ed estrimane e per questo motivo il seno che più facilmente si scopre nell'operazione dell'allattamento materno è innanzitutto il seno sinistro poi verrà quello destro poi nuovamente quello sinistro secondo l'alternanza non perché ci sia una scelta così razionale sotto ma perché viene più formato è un fatto banale così come è evidente che c'è un altro fatto banale che è quello che una persona di estrimane che deve operare togliendo tagliando un seno che non è un'operazione molto semplice cerchi di posizionarsi nel modo più semplice e il modo più semplice consiste nel operare il seno sinistro perché è quello che viene più facilmente a mano detto questo non c'è nessun'altra interpretazione un'altra domanda scusi qua si è parlato di voyerismo cioè secondo lei il voyerismo il guardone è compatibile anche con l'omicida? se noi per voyerismo intendiamo la perversione sessuale voyerismo vero e proprio dobbiamo dire che è una delle perversioni sessuali meno associata ad atti di criminalità quindi è molto difficile è difficile pensare che un voyerista sia anche un criminale di questa fatta perché di solito il voyerista ha tale paura della coppia degli altri da addirittura neanche avvicinarsi ma guardare o cercare di guardare da lontano sostituendo l'atto del guardare all'atto fisiologico del rapporto eterosessuale quindi no volevo dire che però in questa vicenda del mostro di Firenze si è molto equivocato sul voyerismo perché naturalmente il fatto di colpire delle coppiette ha subito fatto pensare che l'autore potesse essere un voyerista io escludo che sia tale ritengo viceversa che il soggetto che ha deciso di uccidere delle coppie in atteggiamento amoroso sia costretto per forza a essere anche voyerista cioè a guardare a vedere anche perché tutti coloro che sono occupati di questo hanno visto e hanno constatato che lui non uccide a caso ma uccide prima che questi possano avere il rapporto sessuale come ad impedire loro di averlo quindi deve per forza osservare ma questa osservazione ancora una volta non dobbiamo interpretarla come una perversione sessuale ma come un fatto facilitante quello che sarà l'azione omicidiaria successiva senti nel 1974 vi è stato l'omicidio Stefania Pettini questa povera ragazza fu trovata oltre che uccisa con un tralcio di vite lei sa dove ci può spiegare che c'è stata la prima escissione pubblica di questa in questo cadavere no no avvocato no 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 il tralcio è stato disegnato aveva preso aveva disegnato c'è stato un tralcio di vite ma dunque io tra le altre cose non ho ancora capito quindi non ho una risposta del perché l'omicida porti via cominci a portare via il pub e poi il seno in quanto mi sarei aspettato psicologicamente un comportamento diverso e anche sotto il profilo chirurgico un escalation dalla cosa più facile cioè portare via il seno la cosa un po' più difficile portare via un qualche cosa che è più difficile sicuramente sotto questo profilo ma per quanto riguarda la domanda specifica direi che il tralcio di vite ha avuto un duplice significato da una parte il significato della utilizzazione di uno strumento atto a esplorare una parte del corpo che evidentemente il mostro non conosce o conosce molto poco tant'è che fra l'altro si limiterà ad una introduzione abbastanza poco approfondita tant'è che produce delle lievi e chimosi e certamente non raggiunge il fondo del spollo dell'utero quindi questo è un primo significato rimane da capire perché il mostro avendo a disposizione coltello abbia invece deciso di utilizzare uno strumento abbastanza improprio come un tralcio di vite tra l'altro dovendo prenderlo strapparlo perdendo del tempo eccetera la mia spiegazione è che il tralcio di vite ha un significato simbolico di natura religiosa il soggetto getta questo tralcio di vite a significare e ricordando una parabola contenuta nel Vangelo di San Giovanni che dice esattamente io sono il signore rivolto ai suoi allievi dice io sono come io sono la vigna e coloro che resteranno attaccati a me saranno premiati e faranno frutti coloro che invece si allontaneranno da me saranno dei tralci cattivi che l'agricoltore cioè il padre mio strapperà via e getterà nel fuoco e nella perdizione ed è per questo che ritengo che se il significato della uccisione di queste coppie ha un significato paranoicale religioso probabilmente il tralcio di vite è un preannuncio di quello che avverrà dopo ed è proprio analizzando in questa chiave i delitti che sono arrivato a a comprenderne che il numero massimo sarebbe stato di 8 7 diciamo a partire da quello altre due domande e poi dovrei chietarmi senta qua vi è stata un'intuizione indagativa non del pubblico ministero ma della credo della della polizia nell'accostare la figura della venere del botticelli e quella della povera Carmela di Nuccio lei ha visto queste fotografie sono state accostate addirittura il capo della SAM ha fatto un riferimento ben preciso tant'è che ha illustrato anche un suo libro va bene ecco che cosa ne pensa lei aveva una collana e questo apre il grosso problema cioè il grosso problema dell'analisi psicodinamica o psicologica dei quadri i quadri non possono essere sottoposti ad analisi psicologica atta a valutare le diciamo le caratteristiche dell'autore che li ha fatti perché nei quadri prevale spesso un aspetto razionale cognitivo per cui l'autore vuol dare un significato preciso a quello che sta facendo e questo qualunque autore tanto più i grandi autori naturalmente ciò non toglie che se si hanno notizie particolareggiate sulla persona dell'autore si possa anche esprimere qualche elemento sul perché una determinata situazione sia stata simbolizzata in un modo piuttosto che in un altro per quanto riguarda in particolare noi parliamo della venere del Botticelli cioè della primavera del Botticelli Sandro Filippepi si chiamava che è una delle ordine più alte dell'umanità il quadro rappresenta come tutti sanno l'affermazione del regno di Venere sulla terra che è in linea con quella che era la filosofia dell'epoca in particolare la filosofia del poliziano d'altro canto siamo qui a Firenze e credo che il signor Presidente sicuramente conosce meglio di me questa parte in ogni caso una filosofia che riguardava la riguardava diciamo la bellezza il mito della bellezza il mito dell'amore e della capacità di godere di questi sentimenti nella naturalità ecco a contatto con la natura nel gioco della natura questo in particolare nella scena che si vede non è quella una scena di potenza il contatto erotico con il vento zefilo diventerà primavera e come tale farà diventare fiori tutto ciò che tocca e entrerà nel regno di venere ma se le cose stanno così e coloro che tutti i grandi diciamo studiosi della storia dell'arte concordano con questa interpretazione è evidente che questo è esattamente l'opposto del mostro il mostro è contro questo tipo di realtà e uccide delle giovani vite delle giovani coppie per impedire loro di avere dei contatti d'amore quindi siamo esattamente al contrario d'altro canto mi pare sempre per la solita regola che dicevo prima la collana fra le labbra della povera vittima non rappresenta altro che il naturale il risultato di un'azione di trascinamento in cui il cadavere è stato sottoposto l'ultima domanda ed è questa lei ha tracciato un identikit se così si può posso parlare no vedo si sorride del mostro del presumibile assassino ecco questo tipo di persona è compatibile con una persona che piange si dispera si incavola al dibattimento eccetera tipo i pagiani assolutamente no assolutamente no perché da quello che noi abbiamo e che ritengo sia condivisibile da tutti coloro che hanno studiato questi omicidi se c'è una cosa che distingue il mostro è la sua freddezza è la sua capacità notevolissima di reagire di controllare di dominare tutti gli imprevisti che gli succedono anche quelli gravi quelli gravissimi come una macchina che si mette in moto e se ne va o un giovane di vent'anni che gli scappa dalle mani ecco lui riesce tutte le volte a controllare il suo comportamento e a portare a fine l'atto quindi è un tipo di carattere un tipo di personalità che non ha assolutamente nulla a che vedere con quella che conosciamo grazie professore io ho una domanda Presidente se mi consente ho una domanda una domanda sola prego poi magari una al professor De Fazio ma al consulente il professor Bruno una sola perché effettivamente io da quando ho cominciato a parlare di parabola religiosa devo fare poi una domanda scusate io una sola la volevo fare prima ai periti la faccio in fondo dopo che voi avete terminato tutto l'esame dicevo questo è una domanda sola perché da quando il professor Bruno ha cominciato a parlare di parabola religiosa e da cui sette si fermano io effettivamente ho perso la capacità di capirlo quindi è un mio limite non ho consulente mi fermo volevo solo capire questo nel suo elaborato il professor Bruno dà una spiegazione al messaggio alla dottoressa Silvia della Monica e dice testualmente Silvia della Monica traduzione luogo clinico della Monica o delle suore o della santa suora poi aggiunge in effetti a Bagno a Ripoli esistono ben due cliniche d'estremo interesse una intitolata Santa Monica e l'altra Santa Teresa volevo capire cioè la busta la dottoressa della Monica ha a che vedere con una clinica di Bagno a Ripoli io sinceramente avendo i limiti che ho detto nella capacità di capire questo tipo di consulenza e soprattutto il professor Bruno chiedo ausilio a lui perché se no veramente io non ci riesco la dottoressa della Monica clinica Santa Monica a Bagno a Ripoli scusate ma io proprio ho bisogno di i passaggi saranno spiegati no proprio perché non sono spiegati Presidente sono spiegati i passaggi sono spiegati non sono spiegati per me c'è scritto decrittazione dei messaggi scusi allora gliele faccio insieme l'altro è questo dice proiettile sotto la casella uguale deporre le armi pezzetto di seno sacrificio alla madre mancanza di una B nel messaggio località o nome con iniziale B Bagno a Ripoli io effettivamente cioè procura della Repubblica manca una B perché la località è Bagno a Ripoli qui o nel elaborato si spiega oppure ce lo spiega il professor Bruno perché effettivamente come è difficile a me sarà difficile penso poi alla Corte non vorrei poi la Corte si trovasse in difficoltà potrei continuare perché ce ne sono talmente tante che io sono veramente dito di guanto di proiettile lei perché pensa che la Corte si trovi in difficoltà no io dico per me no no lei parli per se posso la Corte lei faccia lei ha fatto questa domanda si aggiungo aggiungo l'ultima dito di guanto con proiettile deporre le armi castrazione la Corte capirà io non capisco chiedo la Corte leggerà l'intero elaborato professore no ma è una pagina intera non è che è meglio presidente è la mia domanda no 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 niente andiamo avanti facciamo domanda se mi autorizza rispondere no no non l'autorizzo allora la domanda è questa la faccio al professor De Fazio professore su quello che ha detto il professor Bruno a me i punti che interessano sono le considerazioni sul voyerismo e l'incompatibilità con l'autore di questi delitti innanzitutto può dire qualcosa a lei oppure prima ci vuol dire qualcosa in generale sulle no 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 in generale no 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 mai in generale non parliamo più per carità allora a me interessa facciamo domande quello che ha detto il professor Bruno sul voyerismo quanto sul tralcio di vite ma che a natura è religiosa cominciamo dal voyerismo io non so se lo posso dire perché non so se io perché dovrei essere intimorito dalla dichiarata competenza e esperienza del professor Bruno posso dirlo perché sono un vecchio docente che che occupa posizioni di rilievo nella criminologia a livello nazionale e internazionale da quando il professor Bruno aveva i pantaloni corti che il discorso è che lui fa per ciò che riguarda compatibilità Pacciani non Pacciani io assolutamente non sono in grado di entrare non posso entrare come pedito perché non lo so lui conosce Pacciani ma sono tre cose che vorrei dire poi vengo anche alla sua la prima cosa quando ha parlato ha introdotto il valore di concetto di malattia è un valore che cioè cosa sta a significare significa che di fronte a determinate infermità che non sono patologie mentali può ricorrere o meno la non imputabilità o il vizio parziale ma in funzione dell'esame di determinati fatti di determinate persone non per categorie mentre quello che lui ha detto può far pensare che le perversioni reggono non reggono tutti i disturbi i cosiddetti disturbi dell'asse secondo e del DSM3 per esempio sono disturbi di personalità che possono in quel caso rivestire valore di malattia quindi non può essere applicato in funzione di categorie nosografiche non di tipo psicotico non può essere applicato quindi non riesco a capire perché il discorso sul non valore di malattia delle perversioni sessuali sul valore di malattia delle perversioni sessuali le perversioni sessuali non hanno aprioristicamente né valore né non valore di malattia è solo nel singolo caso nella singola penizia che possono eventualmente avercelo siamo a conto su questo? è vero perché le perversioni sessuali se sono perversioni sessuali sono scritte sui libri sono scritte sui libri che sono delle malattie sono delle patologie sono dei disorders dei disturbi mentali metta la vetta come vuole ma così sono se poi vogliamo inventarci le cose ma caro Bruno se fosse così allora una truffa da parte di uno che ha compiuto una perversione sessuale finirà con la vera valore di malattia ma stiamo scherzando cioè è sempre l'esame della persona e del caso concreto che porta a individuare l'esistenza o meno valore di malattia allora per non compondere le idee non è legito ricollegare i valori di malattia ad una etichetta siamo d'accordo su questo perché è scolastico elementare e continuiamo con le cose scolastiche elementari secondo punto il professor Bruno ha introdotto così il discorso del valore dell'identikit io mi sono trovato signor Pubblico Ministero con una penizia che vale poco vale niente ma che ci è costata fatica mi sono trovato con una con una ho visto una relazione dell'FBI del quale ha un massimo rispetto e che fa riferimento a questa penizia che noi abbiamo depositato l'ho letta e l'ho meditata con una certa preoccupazione perché si tratta dell'applicazione di un metodo sbrigativo e semplicistico relativo alla valutazione delle personalità inorganizzate e disorganizzate peraltro organizzato riferito come ha detto poi il professor Bruno al termine psicopatico con termine per molti versi superato e inglobato in altre cioè si tratta di uno strumento d'orientamente agito dall'unità sulla base di riferimenti comportamentistici qui siamo in un tutt'altra materia in un tutt'altro tipo di impostazione magari più fallibile ma meno grossolana meno grossieri quindi non vedo il secondo punto di riprendimento il terzo punto su quale vorrei intervenire e questo ha a che fare qualche misura di intervenire e questo ha a che fare qualche misura con quanto a che si pubblico ministero è il discorso della ipo-iper-sessualità noi non siamo in grado e quindi non entro in discussione con il professor Bruno in questo caso di dire se la tua diputata ipo-sessuale iper-sessuale non l'abbiamo mai visto non conosciamo niente non siamo in grado di dire nulla e non diciamo nulla però l'affermazione che ho fatto correttiva e che il professor Bruno vive come correttiva dell'iniziale periodista scritta che dice che condivide non incide sulla sua valutazione della personalità del suo cliente io dico solo che il fatto che si dica che una persona ha avuto rapporti con le figlie non può e la domanda che faccia lui non può essere adotto come prova di iper-sessualità siamo d'accordo su questo o no? cioè non parliamo di pacciani parliamo sì perché questo abbiamo chiarito ma lui io non posso io non conosco la persona lui può dire quello che vuole non è la strada mi scusi professore anche se lui aveva i pantaloni corti e lei era più grande quindi gli ha voluto dare è una questione di stile professore mi scusi allora siccome lei fa un discorso di questo tipo e cioè lei dice che non è possibile sapere se oppur no colui che ha avuto rapporti con la figlia eccetera vogliamo far spiegare io non gliel'ho tolto è successo qualche c'è un gap al microfono di Rosario Belacchi purtroppo erano abbiamo degli impianti qui grazie presidente vuole far spiegare al professor Bruno dove si differenzia lui va bene rispetto a lei in questa analisi cioè pur essendo questo signore così come è stato ritenuto da una sentenza del tribunale un incestuoso qual è la differenza sua di questo signore rispetto a quello che dice lei ecco glielo possiamo far dire perché se no resta così in aria questo discorso grazie io premetto che il professor De Fazio può dire di me tranquillamente dei balzoni corti perché è stato lui che che mi ha elevato al sogno e quindi ho un rispetto filiale nei suoi confronti e quindi può dire qualunque cosa sicuramente non mi offenderà tutt'altro ma il professore non voleva mancare di riguardo a lei detto questo detto questo detto questo io ritengo una cosa particolare io sono d'accordo con l'affermazione che il fatto il rapporto incestuoso non sia di per sé segno di iper sessualità anzi vado anche di più spesso diciamo nella maggior parte dei casi può essere un segno di iposessualità o comunque di problemi riguardanti questo in generale ecco dove mi discosto da quello che dice il professor De Fazio mi discosto fondamentalmente in questo punto negli anni che vanno dal 1981 al 1985 il mostro uccide sei volte ecco e in quegli anni dimostra il massimo di furor sessuale nei suoi atti quindi che negli stessi anni questa persona oltre a soddisfarsi psicologicamente per gli atti che sta compiendo sia anche violentatore in senso incestuoso delle proprie figlie e nello stesso tempo frequenti prostitute abbia normali rapporti sessuali con la propria moglie e così via è per parte mia assolutamente da escludere questo è il punto grazie e questo ha la barba dell'articolo 220 questo lo dice lei ma ci sono anche i rasori dunque signori avete altre domande da fare? perché se no vorrei fare io una domanda o due ai periti e a lei professore che è allora abbiamo parlato prima di questo unico soggetto secondo voi che spara a coltella uccide squarta e via dicendo ma questo fatto che il soggetto agente che uccide fa tutte queste belle cose sia uno solo implica anche secondo voi che abbia potuto agire anche da solo che cioè ci potesse essere o non essere un altro soggetto con funzioni che ovviamente non sono quelle che compie quel soggetto là che possono essere di appoggio o di altro tipo se siete in grado di no per ciò che mi riguarda siamo posti il problema del concorso di più persone nel una o più persone nel rivolgere i diritti lei ci chiede se in una o più di accompagnatore fantasmatico che non partecipa ai diritti ma gli fa da appoggio io dico subito quello che intuitivamente mi viene sulla base proprio delle mie e che questo toglierebbe ogni sapore all'autore di delitti che a noi abbiamo definito su base sadico-sessuale non so cosa ne pensano gli altri noi ci siamo posti il problema appunto se fossero un autore solo o più autori sia in senso logica autori però capito che nell'ambito dello stesso dell'autore è uno solo ma ci poteva essere la presenza concomitante di un'altra persona che so che gli teneva la macchina che gli reggeva la lampadina che gli faceva da palo specialmente la macchina ecco veramente sarebbe stranissimo insomma capito gli faceva da palo sarebbe difficilmente ipotizzabile in quanto i domicidi a sfondo sessuale commessi da più persone due persone più persone vedono praticamente sempre la partecipazione di tutti i presenti in una misura maggiore o minore e questo lo si deduce anche dalla scena del delitto in quanto il tipo di lesioni che si trovano il tipo di tracce che si trovano nella scena del delitto sono evidentemente lasciate da mani diverse da passaggi di persone diverse che hanno un diverso modus operandi che hanno diverse modalità di esprimere la loro aggressività e la loro sessualità inoltre i delitti in cui omicidi a sfondo sessuale in cui vi sono più partecipanti anche due partecipanti generalmente non sono ritualizzati nel senso che sono nell'ambito di una dinamica a sfondo sessuale un esito in genere non premeditato di un'azione predatore di tipo predatorio anche di tipo sadico sessuale che poi viene spinta fino all'eccesso per motivi per lo più situazionali oppure per coprire i reati a sfondo sessuale l'omicidio viene commesso in modo funzionale invece la ritualizzazione di questo tipo generalmente non prevede la presenza di nessun altro bene volete aggiungere niente comunque il concetto è chiaro va bene un'altra cosa volevo domandare ma questa è proprio l'uso da parte di determinati soggetti di vibratore falli artificiali su se stesso o sui partner eccetera è un indice di ipersessualità o di ipossessualità oppure a seconda dei casi cioè l'uso di vibratore su terzi o su se stesso anche su se stesso nel corso di un rapporto che uno può avere con un altro soggetto dico subito che la prima volta in Italia è una domanda e vi pongo si è sempre la prima volta che mi si pone l'uso di vibratore su terzi d'altra parte in questo processo ci siamo imbattuti in vari oggetti di questo genere in mano alle più disparate persone ecco una prima risposta che è a bozzo è questa cioè sulla base che penso possa essere logico-dedutiva l'uso del vibratore su se stesso in connessione con altri atti sessuali presumibilmente potrebbe avere valore di stimolazione non so valore di stimolo di concorso a stimoli facilitanti le elezioni o cose di questo genere francamente non lo so cioè io è un problema che nella mia esperienza non si è mai posto si è posto il problema dell'uso di vibratori su terze persone e in questo caso ha un significato particolare o no scusate è una domanda apparentemente strana è difficile è difficile dirlo però è un ammettiamolo nel caso chiamiamolo così normale almeno penso io non lo so toglie della propria iposessualità e più poverà anche altri lo riguardi dire dall'inizio nel caso in cui sia usato con un caso in cui vengo utilizzato con una parpe femminile dall'uomo allora questo uso può assumere tanti significati una specie il vibratore verrebbe essere una specie di protesi del pene in qualche misura quindi può avere questo significato che può essere in una protesi sostitutiva o aggiuntiva chiamiamola come vogliamo ma l'uso su se stesso francamente mi coglie un po' perché può far pensare o elemento eccitatorio o del tutto a delle varienze di omosessualità passiva magari non agita professor Luberto io solo una considerazione che può parire anche banale nella espressione della sessualità normale o nella iper sessualità è difficile che si abbia bisogno di stimolazioni particolari situazionali oggettuali eccetera ora il dover ricorrere a stimolazioni aggiuntive per poter esprimere una sessualità normale o a me fa pensare più a dei problemi nel senso di una iposessualità o sicuramente di una distorsione della sessualità piuttosto che una condizione di un uso chiamiamolo così fisiologico sull'altro partner beh già quello mi rientra in una deviazione giustamente come si diceva prima per poter parlare di perversione è necessaria una obbligatorietà nella soddisfazione del bisogno sessuale esclusivamente in quella direzione però all'interno di un rapporto cioè andrebbe valutato caso per caso di un rapporto articolato se quello fa parte di un gioco diciamo così è quantitativamente non un aspetto rilevante può non avere un significato particolare laddove fosse esclusivo preclusivo convulsivo evidentemente avrebbe un significato diverso quindi andrebbe valutato caso per caso va bene allora era questo che volevo sapere cosa dice il professore su questo punto se vuole posso aggiungere una cosa aggiunga aggiunga io sono d'accordo con quello che diceva prima il professor De Fazio che il significato è di stimolazione ritengo tuttavia che sia molto importante valutare l'età dei soggetti perché una cosa è che lo faccia a giorni di 20 anni una cosa è che lo faccia al signore di 50 oltre i 50 anni bisogna tener conto che l'introduzione di un corpo di tipo falliforme diciamo nel retto nell'ano produce una stimolazione diretta della prostata e delle vesciole seminali che può aiutare l'erezione in persone che hanno problemi di questo tipo per quanto riguarda invece il contrario cioè l'utilizzazione su un partner femminile è un come dire praticamente è una cosa che si fa al posto anche perché è un surrogato è cosa vogliamo di quella che è una perversione abbastanza tipica che consiste nel voler o nel desiderare che il proprio partner sessuale la propria donna sia posseduta da un altro ecco allora non avendo il coraggio non riuscendo ad arrivare fino in fondo si utilizzano questi strumenti ma Presidente mi scusi una domanda allora signori di questo tipo pare che nelle varie nella serie dei vari omicidi nella serie dei vari omicidi il killer cerchi di separare di allontanare sempre la donna ricordate voi ecco avete dato un significato se si può dare così proprio se pare che sia un rituale fuori dall'auto si fuori dall'auto e poi allontanarla addirittura dal luogo avete così era mai venuta in mente questa cosa così dunque dobbiamo dire che la trasportare fuori dall'auto e fuori dall'auto operava l'avvocato colavo e ha fatto la stessa domanda io forse sono stato disattento non lo so comunque l'omicida la trasporta fuori dall'auto ma un fatto funzionale a quello che fa lavorarci sopra è certo anche lei è uguale professore che può sapere anche gli significati aggiuntivi può anche darsi ma certamente il fine è quello di poter lavorare di creare il campo operatorio posso aggiungere una cosa che è derivata dall'esperienza di aver fatto dei sopralluoghi su questi luoghi andando a vedere anche ricostruendo dove l'omicida ha messo il corpo femminile la prima esigenza ovviamente è quella di operare quindi non si può fare in macchina un lavoro di quel genere la seconda esigenza che il mostro sembra tenere molto presente è quella di collocare questo corpo se il luogo è un luogo in pianura aperto dietro la macchina in un posto che non possa essere visto in un avvallamento se viceversa il luogo è un luogo in cui tipo gli scopeti per esempio in cui ci sono diversi anfratti allora il cadavere è posto in una situazione in cui il soggetto può guardare la strada principale da cui può pensare quindi mentre opera lui ha anche la possibilità di controllare quindi la prima esigenza è tipo operatorio ma la seconda è anche questa è tipo pratica se uno va a vedere bene si rende conto che sono gli unici luoghi certe volte basta spostarsi di 20 cm per poter vedere la strada Signori Avvocato una sola cosa è un attimo solo dico ritornando sul concetto della separazione dell'uomo dalla donna è chiaro era già morto quindi non poteva tranquillamente lavorare in pace anche lì sul posto l'ha spostato perché doveva avere una sua queste sono considerazioni comunque è già stato risposto su questo punto credo Signori non abbiamo altro da chiedere vero? quindi possiamo licenziare i periti il consulente grazie grazie molto a tutti grazie professore buonasera scusate se vi abbiamo fatto fare tardi con noi ma arrivederlo buonasera a tutti naturalmente grazie a tutti vogliamo concludere signori Presidente a me occorre un minuto per l'ultimo test un altro test un minuto e chi è? Ispettore Lamperi in quanto stamattina una domanda fatta al maresciallo Minoliti su un telefono non ha avuto risposta perché non lo sapeva non lo sapeva perché non non lo sapeva perché non l'aveva fatto e siccome l'ha fatto l'ispettore Lamperi perché non gliel'abbiamo chiesto l'altro giorno? perché è un dato che è nato su domanda del difensore fatta all'ispettore Lamperi una domanda sola però una domanda che la posso fare prima a lei Presidente così sa che è una sola Presidente ma viene rimesso nei termini non lo so io non è una rimessione è una domanda che si vuol fare all'ispettore Lamperi su una circostanza di cui stamattina il marciallo Minoliti non era al corrente i telefoni del Pacciani nata su domanda dell'avvocato che sia però una domanda e una sola la domanda ha risposto a questa domanda il rispettore Lamperi non so che tipo di domanda sul telefono non ha risposto come no? non ci posso giurare su questo se ve lo ricordate tanto me lei sente la domanda e la risposta l'ispettore Lamperi vedono che non ha risposto nessuno sentiamo Lamperi una domanda sola però perché se è una è una Presidente no si è da lì recuperi il microfono guardi un po' si è da pure allora sentiamo la domanda Ispettore quante utenze telefoniche aveva il Pacciani in quali luoghi in che date sono state installate da un accertamento che ho effettuato e ne ho parlato ieri parzialmente l'annotazione è del 17 dicembre del 93 ho verificato che alla alla SIP risultano due forniture per allaccio telefonico una ne ho parlato ieri è quella che riguarda l'abitazione di piazza del popolo e la seconda utenza di che anno è? ci ha detto ieri dell'83 fatta domanda nel dicembre l'aggacciamento domanda del dicembre 81 di fatto attivazione nel dicembre 83 seconda utenza la seconda utenza la domanda è stata l'istruttore è stata fatta nel 13 gennaio del 92 e la installazione dell'apparecchio e l'attivazione è stata effettuata il 30 gennaio del 92 non ho altre domande grazie mi basta mi scusi presidente io le ho domandato e lei ieri mi ha risposto bene e mi ha risposto anche oggi la domanda che le ho fatto io era questa in relazione a quello che era scritto in questo blocco in questo blocco senza data c'è una data superiore oggi 13 luglio 81 prendo dal bruci Franco una portiera per il gas di 18.000 lei ha detto che 18.000 erano troppe sotto c'è scritto per mettere il telefono chiamare la mattina il numero 187 permettere il telefono cioè significa avere l'utenza telefona ufficio commerciale nome cognome e intirizzo senza altro è questo giusto? si la domanda che mi è stata fatta è diversa però aspetta lei poi ha fatto questa relazione ha fatto una relazione il 17 12 93 dove dice esattamente Pacciani Pietro ha fatto domanda per il telefono nella sua abitazione di Mercatale Piazza del Popolo 7 in data 1 12 81 è vero questo? si ma non ha nulla a che vedere con quello che mi ha chiesto ma io volevo che lei ripetesse questo ieri si e siccome volevo che lo ripetesse anche oggi la ringrazio questo è l'appartamento di Piazza del Popolo non mi interessa aveva due telefoni aveva due telefoni grazie aveva due telefoni però questo qua però veda se avesse avuto due telefoni sarà oggetto di discussione dopo non faceva questo per il primo per il secondo perché l'avrebbe già fatto invece questa è la prima volta che lui mette ma io non entro nel mezzo confermo ciò che ho detto grazie 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 signor Presidente abbia pazienza dovrei fare una domanda se me lo consente ecco volevo chiedere già che c'è a disposizione l'ispettore Lamperi che è al corrente di questo quando sono iniziate le intercettazioni telefoniche in via Sonnino 30 le intercettazioni telefoniche 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 sono non le ambientali le telefoniche le telefoniche avvocato saranno iniziate dal momento che c'era l'apparato telefonico installato quelle telefoniche quelle ambientali se lei tiene alla risposta completa quelle erano già pronte quelle ambientali 3 dicembre prima che uscisse c'è un fatto di interesse se lei vuole allora Pacciani abita dopo la scarcerazione in piazza del popolo fino alle ore 16 16.20 del giorno 24 dicembre quando poi la figlia Rosanna esce dall'ospedale e va a Mercatale Pacciani quel pomeriggio è già trasferito in via Sonnino al 28 quasi subito il signor Pacciani si accorge che c'è una micro spia che lui riesce a individuare e allora decide di spostarsi al numero civico 30 quando fu installato poi l'apparecchio telefonico in via Sonnino 30 era un apparecchio già preordinato nel fuso nella presa c'era un'altra micro spia eccetera e quindi sentimmo quindi alla fine di gennaio 92 iniziano la cosa importante è che lui smette di stare al numero 28 al momento che si accorge che c'è quella micro spia no diceva diceva il Pacciani come fa ad accorgersi che c'è la micro spia si rileva dall'ambientale fu individuata dal signor Pacciani questa micro spia vicino a una trave posta nei pressi del contatore del civico 28 quella esterna sul corrido esatto se il presidente permette può spiegare sentiamo se permette io ne spiego c'è mia nulla di inconveniente io andai in questa soffitta a metà posto della roba che si butta insomma su roba insentibile vedi un filo vedi un filo gli ondoloni che andavano in muro tiro questo filo e mi viene una sciambelletta a mano io non me ne intendo di questa roba e andai dalla moglie di Ghiandelli da quello e mi messi il telefono la ne ne può domandare e gli domandai cos'era questo questo aggegio la mi disse lì è un mito questo aggegio la mi disse lì è un microfono ah ho capito io siccome ho affittato la cassa dei sonatori allora pensai questi ragazzi per amplificare questi gli hanno messo dei tubi tutti i strumenti pensavo fosse sua come infatti ne fece un rotolino e l'ha messo in il cassetto dove fu poi trovata della scrivania e poi fu trovata io non riferi nulla e non dissi nulla pensando sempre se poi si parla questo telefono che ne aveva messo un'altra il telefono non so io non me ne intendo di questa gigi l'ho sentito qui in aula allora io siccome telefonano la notte che ero svegliato mi toccar Sam e via io pensai di mettere un altro telefono in camera collegato al medesimo telefono e feci un forellino nel muro c'è ancora un forellino nel muro e il telefono ce l'ho già un telefono da applicare ecco gli volevo mettere da me perché insomma un po' me ne intendo di questa gigi e feci questo buono nel muro e attaccai questo filo e lo messi su questo modino ma non funzionerà non funzionerà perché io non mi intendo di retta ecco grazie c'era linea va bene nessuna domanda presidente ovviamente può andare senza altro benissimo allora la corte si ritira un minuto per sciogliere queste riservine ancora ci sono bene grazie allora faccia subito anche il PM allora fermi tutti presidente la mia è di una la facciamo fare al pubblico mistero per primo grazie è semplicissima perché in fondo è un problema non so se materialmente lo ha fatto di versare i fascicoli fotografici e quant'altro tutti quelli che avevo se qualcuno manca li mettiamo in cancelleria a disposizione della corte la mia istanza è questa considerando che in fondo siamo al termine dell'istruttoria dibattimentale mi sono accorto solo ora negli giorni scorsi male che per quanto riguarda il rapporto giudiziario del 51 del delitto del 51 di cui nelle precedenti udienze avevo chiesto l'acquisizione il problema è in realtà superato perché era stato lo stesso avvocato Bevacqua che l'aveva prodotto e io non me ne ero accorto in quanto nella sua richiesta di prove per l'udienza del 19 aprile 94 aveva versato lui copia al allegato B numero 2 copia rapporto Carabinieri Firenze del 12 aprile 51 circa l'omicidio del Bonini Severino quindi c'era una volontà di versare questo rapporto allora io faccio questa istanza che in fondo è solo un'integrazione se c'era il rapporto giudiziario che era quello richiesto dal difensore e che avevo chiesto anch'io mi sembra che a questo rapporto giudiziario la Corte lo possa vedere completo intendo con l'album fotografico dei rilievi fotografici e l'autopsia a questo punto dato che questa è solo un'integrazione io chiedo che sia integrato quel rapporto che è già stato fornito addirittura dalla difesa con elementi che c'erano già allora e oltre questo dato che si dà atto anzi lo stesso difensore fa presente che si tratta della sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 1812 52 chiedo come ho già chiesto che oltre la sentenza di appello per completezza a questo punto c'è il rapporto giudiziario chiedo che sia prodotta e acquisita agli atti anche la sentenza di primo grado signor Presidente già la Corte di Assise su questo punto e sulla ritualità e sulla utilizzabilità del rapporto ha deciso con ordinanza respingendo la richiesta della difesa quindi così come ha respinto la richiesta della difesa di utilizzare a fini probatori questo rapporto mi pare che ci sia stata la prima delle ordinanze della Corte di Assise ha respinto sia la utilizzabilità di questo rapporto sia di quel rapporto di Osnabruck cioè di questo signor no no non mi sembra che sia proprio così questa è l'audienza del 19 aprile 1994 sono i documenti chiesti dalla difesa il primo giorno e sul punto la Corte di Assise ha già deciso dicendo che questo rapporto non è utilizzabile né questo né quell'altro chiedo scusa sono i documenti chiedo scusa sono i documenti io mi occupo in ogni caso alla richiesta del pubblico la mia ovviamente oggi al di là della utilizzabilità o meno è una richiesta ex 507 codice procedura in quanto siamo al termine dell'istruttoria e quindi valutabili dalla Corte che si tratta di atti utili per la ricostruzione dei fatti di quali fatti non lo so signor Presidente questo lei il rapporto l'ho chiesto ma mi è stato respinto basta per lo stesso motivo per cui lo chiedevano signori scusate possiamo guardarlo sul computer ma siccome abbiamo la copia dell'ordinanza quindi le posizioni sono chiare chi si oppone benissimo una richiesta di altro tipo signor Presidente oggi abbiamo letto sul sole 24 ore che il governo ha emesso dei provvedimenti Presidente io ho il dovere rispetto a queste cose lei conosce pensavo avreste letto qualche altra cosa riguardo a questo processo invece è il decreto no no io non leggo guarda non ho letto neanche quel libro famoso famosissimo ho chiesto soltanto il sequestro punto e basta non legge ma l'ho chiesto con ritardo non legge no io non lo leggo neppure ecco veda Presidente io chiedo ai sensi dell'articolo 275 rinovellato perché è un articolo che è stato novellato più volte invecchiato poi rinovellato eccetera dell'ultimo comma secondo cui può essere può essere eventualmente modificato lo stato attuale di cautela processuale nei confronti dell'imputato se non sussistono esigenze cautelare diverse quindi se sussistono esigenze cautelari che possono essere soddisfatte con altre misure e questo mi pare che sia il caso di specie l'imputato Pacciani nonostante la imputazione che grava su di lui ma questa norma consente comunque in una situazione di patologia sicuramente diffusa di cui lui è affetto varie patologie in relazione anche all'età non più giovanile di questo signore in relazione al fatto che certamente non vi è pericolo di fuga nonostante quel nuovo inciso normativo secondo cui si debba dare alla fuga ma a questo non c'entra nulla io credo che possa essere e faccio una richiesta in tal senso che possa essere sostituito l'attuale stato di detenzione in carcere con gli arresti domiciliari perché la nuova normativa entrata in vigore credo ieri o stanotte o stamattina lo consente per le considerazioni di ogni natura che ho già espresso a suo tempo che trovavano un limite normativo ben preciso limite che è stato ora rimosso con questo nuovo decreto legge quindi io chiedo alla Corte eccellentissima di dover sostituire l'attuale stato di detenzione in carcere con quello degli arresti domiciliari con tutte le cautele che l'articolo 284 eventualmente può imporre e si imponga possono essere imposte all'imputato grazie si associa il difensore Fioravanti due parole ovviamente è contrario la norma non è cambiata per quanto riguarda la misura cautelare nel caso concreto in quanto Pacifico è stato già oggetto di un'ordinanza della Corte che stante la personalità dell'imputato la gravità dei fatti il fatto che si tratta di omicidi fatti con un'arma mai ritrovata si pone il caso come uno di quelli nel quale soltanto la misura in carcere è adeguata e ogni altra stante i motivi che ho detto è palesemente inadeguata quindi mi oppongo i parti civili hanno qualcosa a dire sul punto siamo remissivi sono remissivi c'è il punto e gli impulsivi 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 Diamo lettura della seguente ordinanza. E viene qui utilizzato solo occasionalmente e, quanto alle richieste di esperimento giudiziale, che le stesse sono tardive perché non dedotte nei termini di cui è l'articolo 493, codice e procedura penale, e comunque non sono assolutamente necessarie. Provedendo poi sull'odierna richiesta del Pubblico Ministero di acquisizione di atti relativi al processo subito dal Pacciani nel 1951, rileva che è infondato il presupposto dedotto al Pubblico Ministero istante, non avendo questa Corte autorizzato il difensore a produrre il rapporto dei carrivenieri 12451. Ed osserva inoltre l'acquisizione dell'invocata documentazione e i sensi d'articolo 507, codice e procedura penale, non può trovare accoglimento perché non assolutamente necessario. Inoltre, sciogliendo la riserva sull'istanza della difesa dell'imputato, di sentire nuovamente il test dottor Ruggero Perugini, rileva che le circostanze sulle quali il test sarebbe chiamato a deporre appaiono ininfluenti e comunque già più che ampiamente accertate dall'arrogatoria internazionale svolta. Provedendo infine sull'odierna istanza difensiva di sostituzione della custodia cautelare in carcere dell'imputato con la misura degli arresti domiciliari, rileva, come nessuna nuova emergenza, valga in alcun modo a infisciare le considerazioni svolte nell'ordinanza 22 aprile 1994, reiettiva di una precedente istanza di revoca della custodia in carcere. Ordinanza che merita riconferma anche alla luce delle innovazioni apportate al Codice di Rito al decreto legge 14 luglio 1994 e che deve perciò intendersi qui integralmente richiamata, conservando essa in particolare integrale attualità riguardo alla sussistenza di gravissime esigenze cautelari non fronteggiabili con misure diverse dalla custodia carceraria, data la limitatezza dei controlli diretti che anche gli arresti domiciliari consentirebbero di compiere sull'imputato. Per questi motivi respinge tutte le istanze come sopra proposte e quindi alleghiamo questo al verbale. Dunque, a questo punto finito l'esame di tutti i testimoni eccetera, ci sarebbe l'esame dell'imputato Pacciani Pietro, se è disposto a renderlo. L'imputato Pacciani non è disposto a rendere l'esame ma renderà, quando la Corte riterrà opportuno, delle dichiarazioni spontanee. Bene, lei Pacciani ha sentito le dichiarazioni del suo difensore ovviamente, se lei deve rispondere, deve rispondere a tutti, non solo al suo difensore. Se invece vuole rendere dichiarazioni spontanee può farlo quando crede, nei limiti in cui naturalmente la cosa è possibile. Bene, signori, a questo punto dichiarazioni spontanee le renderà quando crede naturalmente. Presidente, ex articolo 513 codice procedura penale, chiedo la utilizzazione dei verbali di interrogatorio e delle memorie. Ma io direi, signori, che sull'accordo delle parti si dichiarano utilizzabili tutti gli atti comunque. Gli interrogatori non li ho ancora prodotti, 513 è invocabile solo quando gli interrogatori dell'imputato e le memorie di pensi. Ovviamente. Non tanto gli interrogatori credo che possono essere utilizzabili. Vabbè, sono già negli atti le memorie di pensi di messa dal chiedere. Le memorie? No. I memoriali? Chiedo scusa. Allora, io chiedo... Gli interrogatori e non c'è problema. E non c'è problema. Chiedo anche che oltre i memoriali intesi come dichiarazioni scritte, fatte al giudice... I memoriali. Esatto. Che sono già agli atti del dibattimento, siano utilizzabili tutte quelle che il Pacciani ha inviato al giudice nel corso delle indagini. Le ha inviate, penso, e siano utilizzabili. Sono già agli atti, no? E sono già agli atti ex 120. Cioè, ovviamente, quelle memorie che sono agli atti. Esclusivamente... Che erano già fin dall'inizio nel fascicolo del dibattimento. Mi sembra che ne abbia prodotte qualche ad un'altra, no? Sì, no, ha prodotto un memoriale o due giorni. Ne ha prodotto uno, sì, due giorni fa. Sì. Lo abbiamo, lo abbiamo. Gli altri erano già acquisiti, quindi non c'è nessuna discussione. Io chiedevo... Esatto. È chiaro. Ci sono già nel fascicolo del dibattimento. Quelli nel corso... Chiedevo... Esatto. È chiaro. Ci sono già nel fascicolo del dibattimento. Quelli nel corso delle indagini... E a questo punto, allora, signori... Sono... Naturalmente. Vi ha già prodotti gli interrogatori e l'imputato? Sì, ciò li ho più. Li devo produrre. Sono le fotocopie. Materialmente consegnate. Senz'altro. Io... L'importante è che a verbale ci sia la produzione. Le deposito in cancelleria, tanto le parti le hanno già. Si tratta di fare delle fotocopie, Presidente. Sì, sì. Ma noi richiediamo che le zavità non solo di questi interrogatori, ma di tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento. Questo era la mia ricorda. Ricordo, naturalmente, che se materialmente ci fosse qualcosa non ancora materialmente depositato, deve essere fatto in cancelleria, messo a disposizione i difensori, eccetera. Senz'altro. Mi riferivo proprio a questa ipotesi. Signori, a questo punto possiamo dichiarare chiusa l'istruttoria di battimento. Senz'altro, Presidente. Per la discussione, dopo varie tergiversazioni e perché abbiamo problemi vari, un po' tutti e il Tribunale per primo, perché come sapete ci sono concomitanze di processi, anche gravi, la data, l'unica data adeguata, a meno che non si voglia andare a settembre, ma ci sono vari problemi, è il 18 ottobre, è un martedì. Bene, Presidente. Abbiamo davanti a noi circa due settimane, una decina di giorni, che credo saranno sufficienti per la discussione, le repliche e tutto quanto. Bene, grazie. Ne prendete atto e allora il processo è rinviato per la discussione al 18 ottobre 94, ore 9, in questa stessa Aula Bunker. Disponiamo per tale data la traduzione dell'imputato. 18 ottobre e naturalmente udienze successive. Grazie. Signori, buonasera a tutti, arrivederci.